la locanda della tormenta presenta l'isola misteriosa di jules verne buon ascolto parte prima i naufraghi dell'aria capitolo 1 risaliamo no anzi scendiamo peggio signor cyrus cadiamo viva dio giù della zavorra è l'ultimo sacco che si vuota il pallone si innalza no mi pare di sentire uno sciacquio di onde abbiamo il mare di sotto sarà 150 metri da noi allora una voce fortissima ordinò fuori tutto quello che pesa tutto e ci aiuti dio queste le parole che risuonavano nell'aria al di sopra di quello sterminato deserto d'acque che è il pacifico alle 4 del pomeriggio del 23 marzo 1865 nessuno certamente ha dimenticato il terribile vento di nord est che si scatenò nel pieno dell'equinozio di quell'anno durante il quale il barometro precipitò 710 millimetri fu un interrotto uragano che imperversò dal 18 al 26 marzo seminando la rovina in america in europa in asia lungo una fascia di 1800 miglia dal 35esimo parallelo nord al 40esimo parallelo sud città travolte foreste sradicate coste assalite e sommerse da montagne d'acqua navi buttate a fracassarsi contro gli scogli territori interi spazzati da trombe d'acqua e di vento e migliaia e migliaia di persone schiacciate sulla terra o inghiottite dai mari questi gli effetti dello spaventoso uragano ora mentre tante catastrofi stavano succedendo sulla terra e sul mare un dramma non meno terribile si svolgeva nell'aria agitata un pallone portato via come una palla in cima a una d'aria e ghermito nel suo vortice correva per lo spazio con una velocità di 170 chilometri all'ora girando su se stesso come una trottola gigantesca sotto il grosso pallone oscillava una navicella che ospitava cinque passeggeri appena visibili dentro le nebbie fuligginose e piovose che pesavano dal cielo buio sul mare da dove veniva quell'aerostato vero giocattolo in balia della paurosa tempesta da qual punto del mondo si era lanciato certo non era partito durante l'uragano poiché l'uragano imperversava già da cinque giorni bisognava concludere che quel pallone veniva da assai lontano perché non aveva percorso meno di 2000 miglia ogni 24 ore comunque i passeggeri non avevano potuto avere a loro disposizione alcun mezzo per conoscere la strada percorsa dalla loro partenza poiché mancava loro qualsiasi punto di riferimento si poteva anzi stabilire questo fatto curioso che travolti dalla violenza della tempesta essi non la subivano essi si spostavano giravano su loro stessi senza avvertire per nulla quella rotazione e nemmeno i loro spostamenti in linea orizzontale i loro occhi non potevano forare le spesse nebbie che si addensavano sotto la navicella non c'era che nebbia attorno a loro una nebbia così opaca che non avrebbero saputo dire se nemmeno era giorno o notte nessun riflesso di luce lontana nessun rumore di terra abitata nessuno scroscio d'onda era mai giunto sino alle loro orecchie tanto si erano tenuti alti soltanto la loro repentina caduta aveva dato loro coscienza dei pericoli che correvano sopra i flutti oceanici intanto il pallone alleggerito di tutti gli oggetti pesanti come le munizioni le armi e le provviste era rimbalzato verso l'alto fino a 1500 metri i passeggeri accertato che avevano il mare di sotto trovando che era assai meno pericoloso restare in alto che in basso non avevano esitato a buttare anche le cose più utili e cercavano di non perdere nemmeno un atomo di quel fluido che era come l'anima del loro apparecchio e che era quello che li sosteneva nell'aria la notte trascorse in mezzo a inquietitudini che sarebbero riuscite mortali a spiriti meno energici poi il giorno riapparve e con la luce l'uragano parve accennare a moderarsi un poco con l'alba del 24 marzo infatti sembrò che la furia degli elementi un poco si placasse le nubi risalivano verso il cielo il vento da tempestoso che era stato diventò la forte brezza dei marinai verso le 11 la parte bassa dell'atmosfera si era notevolmente ripulita e presentava quell'aspetto di umido nitore che si vede e anzi si sente dopo il passaggio dei fortunali l'uragano non sembrava essersi allontanato ma piuttosto dissolto nell'aria forse schiantatasi la tromba marina si era frazionato in temporali carichi di elettricità nonostante questo proprio intorno alle 11 il pallone riprese a scendere pareva anzi che a poco a poco si sgonfiasse che il suo involucro si allungasse e assumesse una forma ovoidale a mezzogiorno infatti l'aerostato filava soli 600 metri al di sopra del mare stazzava circa 1700 metri cubi e in grazia questo suo eccezionale volume aveva potuto mantenersi a lungo nell'aria sia raggiungendo altissime quote sia percorrendo una fortissima distanza intanto frangente i passeggeri lanciarono gli ultimi oggetti che ancora rappresentavano un peso i pochi viveri che avevano conservato perfino i minuscoli oggetti che avevano nelle loro tasche ma era chiaro che l'aerostato non poteva mantenersi in alto e che il gas sfuggiva da qualche lacerazione in poche parole erano perduti non c'era infatti né un continente né un'isola sotto di loro il più piccolo punto dove atterrare nemmeno un metro quadrato solido in cui la loro ancora potesse afferrarsi non c'era che il mare infinito i cui flutti agitavano con incredibile violenza non c'era che l'oceano sterminato la sterminata pianura liquida flagellata spietatamente dall'uragano che dall'alto della navicella doveva apparire ai passeggeri come una folle cavalcata di onde furibonde impennacchiate di candida schiuma non una terra non in vista bisognava allora fermare a tutti i costi il movimento di discesa per impedire che l'aerostato venisse travolto dalle onde i passeggeri della navicella mettevano in opera tutti i mezzi per tentarlo ma nonostante tutti i loro sforzi il pallone continuava ad abbassarsi filando sempre portato dal vento verso sud ovest quale situazione per quei disgraziati ormai non erano più padroni del loro mezzo di locomozione e ogni loro tentativo era infruttuoso l'involcro del pallone si sgonfiava sempre più il gas ne sfuggiva inesorabilmente un'ora dopo mezzogiorno la navicella non era più che a 200 metri sopra l'oceano impossibile fermare o tamponare la fuga di gas che sfuggiva da una lacerazione dell'involucro e anche liberando la navicella di tutto quanto essa conteneva i passeggeri non avrebbero fatto altro che prolungare di poco la loro agonia di ritardare di poco la catastrofe se qualche terra non appariva prima di notte passeggeri navicelle e pallone sarebbero inesorabilmente finiti nel mare la sola manovra che si potesse fare in siffatte circostanze venne fatta evidentemente i passeggeri erano uomini energici che sapevano guardare la morte in faccia erano decisi a lottare sino all'ultimo minuto a fare di tutto per ritardare la caduta la navicella era una specie di grande cassa di vimini e non si sarebbe certo mai riusciti a farla galleggiare alle due il pallone si trovava a 120 metri dal pelo dell'acqua in quel momento una maschia voce che giò e le risposero voci non meno virili è stato gettato tutto no ci sono ancora 10.000 franchi in oro un attimo dopo un sacco precipitava nelle onde ci solleviamo un po ma non tarderemo a riprendere la caduta che cosa c'è ancora da buttare fuori niente sì la navicella attacchiamoci alle corde e amare la navicella era in realtà il solo estremo mezzo per alleggerire l'aerostato le corde che legavano la navicella all'involucro furono tagliate e il pallone balzò fulmineo nell'aria a un'altezza di 600 metri i cinque passeggeri si erano issati sulla rete di corde che avvolgeva l'involucro e si tenevano afferrati alle maglie guardando l'abisso balzato così in alto l'aerostato vi si tenne per qualche tempo ma poi fatalmente ricominciò a discendere la fuga del gas non si era fermata ed era impossibile procedere ad una riparazione tutto quello che i passeggeri avevano potuto fare era stato fatto oramai non c'era più alcun mezzo umano di salvezza non restava che affidarsi a dio alle quattro il pallone era ridisceso a 150 metri dalle onde improvvisamente si udì un latrato fra i cinque passeggeri c'era anche un cane che si teneva aggrappato alle corde accanto al suo padrone top top ha visto qualcosa gridò uno dei cinque e subito una voce gridò terra terra il pallone che il vento continuava a trascinare verso sud ovest aveva già coperto dall'alba una distanza notevolissima di centinaia di miglia e ora una terra abbastanza alta si profilava lontana sul mare ma per raggiungerla c'erano ancora 30 miglia da fare c'era ancora una lunga ora da trascorrere sempre che non s'andasse alla deriva un'ora ma il pallone non si sarebbe svuotato del tutto prima che quest'ora finisse ecco la terribile domanda sì tutti i passeggeri vedevano distintamente quella strisciolina scura che bisognava raggiungere a tutti i costi non sapevano che terra fosse se isola o continente sapevano soltanto e assai vagamente verso quale parte dell'emisfero l'uragano li aveva trascinati ma quella terra abitata o deserta che fosse ospitale o inospitale bisognava raggiungerla ora alle 4 era chiaro che il pallone non poteva ormai più sostenersi radeva ormai la superficie del mare e già le creste spumose delle grandi onde avevano lambito più volte le corde che scicavano in basso e l'aerostato non si risollevava ormai più che per ricadere giù come un grande uccello ferito alle ali mezz'ora più tardi la terra non era più che a un solo miglio ma il pallone sfatto floscio spiegazzato malamente non conservava che un poco di gas nella sua parte superiore fu allora che l'involucro si piegò a forma di saccoccia e il vento facendo forza su quel viluppo lo spinse contro la costa oramai la terra agognata non era più che a poche centinaia di metri ma all'improvviso quattro urle eccheggiarono angosciose l'aerostato per qualche misteriosa ragione ribalzava verso l'alto percosso da un formidabile colpo di mare e raggiungeva in un baleno i 500 metri di altezza come se fosse stato alleggerito di un'altra parte del suo peso lassù preso in una forte ondata di vento cominciò a filare parallelamente alla costa ma pochi minuti dopo ripiombava verso terra e rapidamente si afflosciava sulla spiaggia lontano dalle onde i passeggeri aiutandosi l'un l'altro si liberarono dalle corde e saltarono sulla sabbia il pallone liberato da quel peso fu riafferrato dal vento che lo succhiò di nuovo in alto e lo portò come un grande uccello ferito che avesse ancora trovato un poco di forza chissà dove la navicella però aveva ospitato cinque passeggeri e un cane e sulla spiaggia non c'erano che quattro persone evidentemente il quinto passeggero era stato strappato via dal colpo di mare che aveva percosso l'aerostato e la sua scomparsa aveva provocato il balzo all'insù del pallone poco prima che toccasse terra appena i quattro naufraghi con quale altro nome potremmo chiamarli ebbero messo piede a terra accortisi che mancava un loro compagno gridarono forse tenta di raggiungere a nuoto la riva salviamolo salviamolo capitolo 2 non erano né degli aeronauti di professione né dei dilettanti di spedizioni aeree quelli che l'uragano aveva gettato su quella costa erano dei prigionieri di guerra che l'audacia aveva spinto alla fuga in straordinarie circostanze cento volte avrebbero dovuto perire cento volte il loro pallone strappato avrebbe dovuto precipitarli nell'oceano ma il cielo li destinava una sorte stranissima e il 20 marzo dopo aver lasciato richmond assediata dalle truppe del generale ulisse grant si trovavano a 7000 miglia da quella città capitale della virginia principale piazzaforte dei separatisti durante la terribile guerra di secessione il loro viaggio aereo era durato cinque giorni ed ecco in quali strane circostanze era avvenuta la fuga di quei prigionieri fuga che doveva concludersi con la catastrofe che abbiamo raccontato in quello stesso anno nel febbraio del 1865 in uno di quei colpi di mano che il generale grant tentava inutilmente per impadronirsi di richmond molti dei suoi ufficiali caddero prigionieri e furono rinchiusi dentro la città fra questi prigionieri uno dei più distinti apparteneva allo stato maggiore federale e si chiamava cyrus smith cyrus smith originario del massachusetts era un ingegnere uno scienziato autentico cui il governo dell'unione aveva affidato durante la guerra la direzione delle ferrovie e si sa di quale importanza strategica furono esse nella guerra vero tipo di americano del nord magro ossuto sui 45 anni aveva corti capelli e la barba quasi grigia la sua era una di quelle belle teste numismatiche che sembrano fatte per essere incise nelle medaglie occhi ardenti bocca seria la sua era la tipica fisionomia dello scienziato della scuola militare era uno di quegli ingegneri che hanno voluto cominciare a lavorare col piccone con il martello come quei generali che hanno voluto cominciare a fare semplici soldati per questo insieme con l'ingegnosità dello spirito possedeva una grande abilità di manovale e vantava dei muscoli eccezionali uomo d'azione e uomo di pensiero allo stesso tempo agiva spesso senza alcuno sforzo mosso da una potente vitalità e da una fervida tenacia che sfidavano tutte le sfortune coltissimo praticissimo sempre perfettamente padrone di sé egli possedeva nella forma più completa e al più alto grado tre qualità fondamentali dell'energia umana l'operosità dello spirito della mano l'ardore dei desideri e la potenza della volontà e la sua divisa avrebbe potuto essere quella di guglielmo di orange non ho bisogno di operare per agire né di riuscire per perseverare nello stesso tempo cyrus smith era il coraggio personificato aveva preso parte a tutte le battaglie della guerra di secessione dopo aver cominciato fra i volontari dell'illinois agli ordini di ulisse grant si era battuto a paduca a belmont a pittsburg landing all'assedio di corinto a port gibson a chattanooga a wilderness e sul potomac e dovunque era stato un soldato valoroso di quel generale che diceva io non conto mai i miei morti cento volte cyrus smith avrebbe dovuto essere nel numero di quelli che il fierissimo generale non osava contare ma in tutte quelle battaglie la fortuna lo aveva assistito fino al giorno in cui ferito era stato fatto prigioniero sul campo di battaglia di richmond insieme a lui un altro personaggio importante cadeva nelle mani dei sudisti era niente meno che gideon spilett cronista del new york herald che aveva avuto l'incarico dal suo giornale di seguire e riferire le vicende della guerra con gli eserciti del nord gideon spilett apparteneva alla famiglia di quei sorprendenti cronisti inglesi o americani dalla quale erano usciti stanley e altri che non arretravano davanti a nulla pur di carpire un'informazione e trasmetterla nel più breve tempo possibile al loro giornale i giornali dell'unione sono delle vere proprie potenze e i loro inviati speciali delle autorità con le quali bisogna fare i conti ora gideon spilett era uno dei più ragguardevoli di questi inviati speciali uomo d'alti meriti pieno d'energia pronto a fertile di idee conoscitore di tutti i paesi del mondo soldato e artista ardente nei consigli risoluto nell'azione indifferente alle fatiche e ai pericoli quando si trattava di conoscere qualche cosa di utile per se stesso e il suo giornale vero eroe della curiosità dell'informazione dell'inedito dell'ignoto dell'impossibile egli era uno di quegli intrepidi osservatori che scrivono sotto il fischiar delle pallottole fanno la cronaca sotto le granate e per i quali ogni pericolo rappresenta una fortuna anche egli era stato a tutte le battaglie in prima fila rivoltella nella destra tacquino nella sinistra e la sua penna non tremava sotto la mitraglia egli non usava stancare incessantemente i fili del telegrafo come fanno coloro che non hanno niente da dire ma ognuna delle sue note brevi chiare precise gettava a piena luce sopra un punto importante inoltre non gli mancava una punta di umorismo fu lui che dopo la battaglia del fiume nero volendo a tutti i costi mantenere la precedenza allo sportello dell'ufficio telegrafico per annunciare al suo giornale il risultato dello scontro telegrafò per due lunghe ore i primi capitoli della bibbia la faccenda costò duemila dollari al new york herald ma il new york herald fu il primo a conoscere e a pubblicare la notizia sulla battaglia gideon spilett era d'alta statura sui 40 anni con grossi favoriti biondo rossicci che gli inquadravano il viso il suo occhio era calmo vivo e mobilissimo era l'occhio di colui che è abituato a cogliere in un baleno tutti i particolari di un paesaggio o di una scena solidamente costruito egli aveva affrontato tutti i climi della terra temprandovisi come una sbarra di acciaio nell'acqua fredda da dieci anni era il redattore viaggiante titolare del new york herald che si arricchiva delle sue croniche dei suoi disegni poiché lo spilett maneggiava altrettanto bene la penna e la matita quando fu preso stava tracciando sul suo tacquino la descrizione e il disegno generale della battaglia le ultime parole tracciate sul suo tacquino furono un sudista mi sta mirando e ma gideon spilett se l'era cavata come sempre senza la più piccola scalfitura lo smith e lo spilett che non si conoscevano se non di fama erano stati portati tutte e due a richmond l'ingegnere guarì rapidamente della sua ferita e fu durante la sua convalescenza che strinse amicizia col cronista i due uomini si piacquero e si apprezzarono a vicenda e presto la loro vita non ebbe che un solo scopo fuggire raggiungere l'armata di grant riprendere le armi per l'unità federale i due americani erano dunque decisi ad approfittare di tutte le occasioni ma per quanto fossero stati lasciati liberi nella città richmond era così meticolosamente vigilata che un'evasione poteva considerarsi come impossibile intanto cyrus smith era stato raggiunto da un suo servitore che gli era devoto per la vita e per la morte era un nero nato nelle proprietà dell'ingegnere da genitori schiavi ma da lungo tempo reso libero da cyrus smith abolizionista per ragionamento e per sentimento lo schiavo divenuto libero non aveva voluto abbandonare il suo padrone sarebbe morto volentieri per lui tanto lo amava era un giovanotto sui 30 anni gagliardo agile e svelto intelligente dolce e calmo talvolta ingenuo sempre sorridente servizievole e buono si chiamava nabucodonosor ma non rispondeva che all'abbreviativo familiare di nab quando nab seppe che il suo padrone era stato fatto prigioniero lasciò il massachusetts senza esitare arrivò davanti a richmond e a forza di astuzia e di abilità riuscì a penetrare nella città assediata ed è inutile descrivere il piacere di cyrus nel rivedere il suo nab e la gioia del nero nel trovare il suo padrone ma se nab era stato rapido nel penetrare in richmond assai più difficilmente se ne sarebbe potuto uscire poiché i sudisti vigilavano da vicino tutti i prigionieri federali bisognava dunque aspettare un'occasione eccezionale per tentare con qualche probabilità di successo un'evasione e tale occasione non solo non si presentava ma era difficilissimo aiutarla a presentarsi intanto grant continuava le sue energiche operazioni la vittoria di petersburg gli era stata fieramente contesa le sue forze riunite a quelle di butler non riuscivano a conseguire risultati notevoli davanti a richmond e nulla lasciava pensare che la liberazione dei prigionieri potesse avverarsi sollecitamente il cronista al quale la prigionia non consentiva più nessuna raccolta di notizie interessanti non resisteva più e non ne aveva che un'idea uscire da richmond a tutti i costi molte volte anzi tentò la fuga ma sempre fu fermato da insormontabili ostacoli continuando quell'assedio però se ansiosi erano i prigionieri di evadere per correre a raggiungere l'armata di grant non meno ansiosi di evadere erano alcuni degli stessi assediati che anelavano di ricongiungersi all'armata separatista fra questi un certo jonathan forster sudista arrabbiato infatti se i prigionieri federali non potevano uscire dalla città i sudisti non lo potevano nemmeno loro poiché l'armata del nord li accerchiava il governatore di richmond già da molto tempo non poteva più comunicare col generale lì mentre sarebbe stato del più alto interesse strategico fargli conoscere la situazione della città e orientarlo sulla sollecita marcia delle sue truppe jonathan forster ebbe allora l'idea di innalzarsi in un pallone per traversare le linee degli assedianti e giungere il campo dei separatisti il governatore autorizzò l'impresa ardimentosa un aerostato fu fabbricato e messo a disposizione del forster che doveva essere accompagnato da cinque compagni bene armati e ben provvisti di viveri la partenza del pallone fu fissata per la notte del 18 marzo col favore del vento di nord est gli aeronauti contavano di raggiungere il campo del generale lì in poche ore se non che quella notte il vento di nord ovest non fu una brezza favorevole era una furia che annunciava l'uragano e infatti ben presto la bufera sunse tali proporzioni che la partenza del forster dovette essere rinviata era impossibile rischiare l'aerostato e la vita di coloro che vi sarebbero saliti in mezzo all'infuriare di quella tempesta il pallone già gonfiato era là sulla piazza maggiore di richmond pronto a partire alla prima caduta del vento e l'impazienza dei cittadini diventava sempre maggiore davanti all'ostinato imperversare del maltempo il 18 e il 19 trascorsero infatti senza che alcun mutamento si verificasse era anzi difficile trattenere solidamente al suolo il pallone che gli impeti del vento tentavano di strappare via a ogni momento la mattina del 20 l'uragano era sempre violento e ogni idea di partenza fu provvisoriamente abbandonata proprio quel giorno cyrus smith venne avvicinato in una via di richmond da un uomo che non conosceva era un marinaio chiamato pencroff sui 35 anni vigorosissimo abbruzzantissimo dalla faccia bonacciona era un americano del nord al quale erano capitate tutte le avventure che possono capitare qua giù a una creatura umana a questo va aggiunto che pencroff era un uomo pieno di iniziative pronto a tutto rischiare e che nulla al mondo avrebbe potuto stupire sul principio di quell'anno pencroff era capitato a richmond con un giovinetto quindicenne della nuova jersey harbert brown harbert era figlio del capitano di pencroff era rimasto orfano e il rude marinaio gli voleva bene come se fosse il suo proprio figlio sopravvenuto l'assedio non aveva potuto più lasciare la città con suo grande dispetto e non aveva avuto più che un'idea anche lui quella di fuggire con ogni mezzo possibile egli conosceva di fama l'ingegner cyrus smith sapeva con quale impazienza quell'uomo audacissimo mordeva il freno e quel giorno non esitò a fermarlo e a dirgli senz'altro preambolo signor smith non avete abbastanza di richmond l'ingegnere guardò fissamente lo sconosciuto che continuò a voce bassa signor smith volete fuggire quando rispose vivacemente l'ingegnere ma è lecito aggiungere che quella parola gli sfuggisse dalle labbra perché non aveva ancora soppesato l'uomo che gli faceva si fatta proposta dopo aver però esaminato quella schietta e leale faccia di marinaio fu sicuro di avere davanti a sé un bravo uomo e gli chiese chi siete voi pencroff si presentò va bene fece smith e con quale mezzo dovremmo fuggire con questo fannullone da aerostato che pare stia proprio aspettandoci il marinaio aveva appena dette queste parole che l'ingegnere lo afferrò di slancio per un braccio e se lo trascinò dietro fino nella sua stanza qui pencroff spiegò il suo progetto non si sarebbe arrischiata che la vita nell'impresa l'uragano era nel pieno della sua violenza ma un ingegnere accorto e ardimentoso come cyrus smith avrebbe ben saputo guidare un aerostato se pencroff avesse conosciuto le manovre non avrebbe esitato a fuggire con harbert si intende ne aveva vista ben altre lui e non si lasciava certo sgomentare da una tempesta cyrus smith era stato ad ascoltarlo senza parole ma i suoi occhi brillavano ecco finalmente l'occasione propizia e smith non era un uomo da lasciarsela sfuggire il progetto non era che pericoloso dunque era realizzabile durante la notte nonostante la sorveglianza non era difficile avvicinarsi al pallone salire nella navicella tagliare le gomene e partire certo si rischiava di finire ammazzati ma si poteva anche riuscire e senza quella tempesta già ma senza quella tempesta il pallone sarebbe già partito con i sudisti e con esso l'occasione tanto attesa ma io non sono solo osservò cyrus smith quante persone vorreste condurre con voi due il mio amico spilett e il mio servo nab fanno tre e con me e harbert cinque il pallone doveva trasportarne sei il conto torna partiremo quando il giornalista fu informato del temerario progetto la provò senza la più piccola riserva si meravigliò solo che un'idea così semplice non gli fosse già balenata nel cervello quanto a nab egli avrebbe seguito il suo padrone dappertutto allora a questa sera disse pencroff ci troveremo in quei paraggi come curiosi e sì alle 10 precise confermò smith e voglio al cielo che l'uragano non si plachi prima di quell'ora pencroff tornò nel suo alloggio dove il giovinetto harbert lo aspettava il ragazzo conosceva già il piano del marinaio e attendeva con ansia il risultato del suo colloquio col famoso ingegnere la sera l'uragano non si era placato e jonathan forster e i suoi compagni non pensavano certamente a un'imminente partenza tutta la giornata trascorse sotto la furia della bufera e smith temeva che quelle raffiche furibonde non finissero per lacerare il pallone trattenuto a terra da solide gomene per lunghe ore ronzò sulla piazza quasi deserta intorno all'aerostato come sorvegliandolo pencroff dal canto suo fece altrettanto le mani in tasca sbadigliando come un ozioso e disoccupato che non sa come ammazzare il tempo cadde la sera la notte si fece profonda e buia cadeva la pioggia mescolata alla neve faceva freddo una nebbia pesante pareva avesse inghiottito richmond si sarebbe detto che la furia del vento avesse stabilito una specie di tregua fra gli assedianti e gli assediati anche i cannoni infatti tacevano davanti alla fragorosa violenza dell'uragano le strade della città erano deserte e con quel tempo così spaventoso erano state tolte perfino le sentinelle di guardia al pallone tutto favoriva insomma la partenza dei prigionieri e se non fosse stato quell'orribile tempo maledetto uragano brontolava pencroff fermandosi con un pugno sulla testa il cappello che il vento voleva strappargli via vedremo di cavarcela lo stesso alle nove e mezzo cyrus smith e i suoi due compagni giungevano da opposte direzioni sulla piazza che spenti dal vento i fanali a gas era immersa nella più profonda oscurità non si vedeva nemmeno l'enorme erostato tutto schiacciato contro il suolo i cinque prigionieri si incontrarono vicino alla navicella nessuno li aveva visti e tanta era l'oscurità che a fatica loro stessi riuscirono a vedersi senza dire una parola salirono sulla navicella mentre pencroff dietro ordine dell'ingegnere tagliava uno dopo l'altro i cavi che trattenevano il pallone tagliato il penultimo il marinaio raggiunse i suoi compagni l'ingegnere era sul punto di spezzare l'ultimo ormeggio quando un cane piombò l'improvviso nella navicella era top il cane di smith che rotta la sua catena aveva inseguito e raggiunto il padrone l'ingegnere esitò temeva in un eccesso di peso e stava per ributtare a terra il cane ma pencroff gli disse per uno di più così dicendo tagliò risoluto l'ultimo cavo e il pallone rapito dal vento scattava in aria e spariva nella notte dopo aver abbattuto con la navicella due comignoli che aveva incontrato nel suo slancio l'uragano si scatenava allora con spaventosa violenza l'ingegnere per tutta la notte mantenne l'aerostato assai alto e quando sorse il giorno un denso strato di nebbia copriva la terra fu soltanto dopo cinque giorni di viaggio che un'improvvisa schiarita lasciò vedere lo sconfinato mare al di sotto del pallone che il vento continuava a spingere con tremenda velocità abbiamo visto come di quei cinque uomini partiti il 20 marzo quattro fossero stati gettati il 24 sopra una spiaggia deserta a più di 6.000 miglia dalla città di richmond ma colui che mancava colui che i quattro scampati stavano ansiosamente cercando era il loro capo naturale l'ingegnere Cyrus Smith capitolo 3 l'ingegnere era stato strappato via da un colpo di mare e il suo cane lo aveva voluto seguire precipitandosi dietro di lui come per aiutarlo avanti gridò il giornalista e tutti e quattro Gideon Spilett, Herbert, Pencroff e Nab dimenticando stanchezza e fatica cominciarono affannosamente le loro ricerche il povero Nab piangeva di rabbia e di disperazione al pensiero di aver perduto quello che aveva di più caro al mondo ma non erano trascorsi più di due minuti fra l'attimo in cui l'ingegnere era stato strappato via dalle onde e il momento in cui i suoi compagni erano giunti sulla spiaggia si poteva dunque sperare di arrivare in tempo a salvarlo cerchiamolo cerchiamolo gridava nab si nab gli disse Gideon Spilett lo ritroveremo vivo vivo sa almeno nuotare chiese Pencroff si rispose nab e poi dopo è con lui ma il marinaio sentendo i ruggiti dell'infuriato mare scosse la testa dubbioso l'ingegnere era scomparso a circa un mezzo miglia di distanza dal punto dove i naufraghi erano venuti a cadere col pallone se egli avesse potuto raggiungere il punto più vicino della costa avrebbe toccato terra a mezzo miglio di distanza erano quasi le sei di sera la nebbia saliva la notte si annunciava assai buia i naufraghi camminavano verso nord seguendo la costa di quella terra su cui il caso li aveva buttati terra ignota di cui non potevano nemmeno supporre la posizione geografica camminavano sopra una terra sabbiosa che pareva sprovvista ad ogni specie di vegetazione assai ineguale scabra rotta qua e là da piccoli pantani che rendevano arduo il cammino da quei brevi specchi d'acqua immobile scattavano su in lento volo degli uccellacci che il buio della notte subito inghiottiva altri invece brillavano via in interi stormi che facevano pensare a nuvole cacciate dal vento pencroff credette di riconoscere in essi dei gabbiani le cui stride acute si udivano tra i ruggiti del mare tratto tratto i naufraghi si fermavano lanciavano delle grida e poi sostavano muti ad ascoltare se qualche grido rispondesse dall'oceano pensavano che se fossero stati vicini al punto dove l'ingegnere aveva raggiunto la terra i latrati di top avrebbero risposto ai loro appelli qualora l'ingegnere non fosse stato in condizioni di poter lanciare un grido ma non si udiva altro che lo schianto delle onde contro la riva e il gruppo di uomini riprendeva il suo cammino dopo 20 minuti di ricerche i naufraghi furono fermati all'improvviso da una schiumante striscia di onde la terra finiva si trovavano sull'estremità di una punta rocciosa contro la quale il mare si rompeva con furore è un promontorio osservò il marinaio bisogna che noi ritorniamo tenendoci verso la destra raggiungeremo così la terra ferma ma se egli fosse là gridò nab mostrando l'oceano su cui biancheggiavano nelle tenebre le schiume delle onde chiamiamo ancora tutti unendo le loro voci lanciarono alte grida ma nessuno rispose attesero un attimo di quiete gridarono ancora una volta non rispose che il silenzio i naufraghi tornarono allora verso terra seguendo la costa opposta del promontorio anche qui il suolo era sabbioso e sparso di pietre ma pencroff notò che il terreno saliva e pensò che doveva raggiungere a poco a poco un'alta scarpata che si profilava confusamente nell'ombra della notte qui gli uccelli erano rari il mare appariva meno agitato le onde più tranquille suddiva appena il mormorio del risucchio questo lato del promontorio doveva senza dubbio formare una specie di baia semicircolare protetta dalla violenza della tempesta che infuriava al largo ma seguendo quella direzione s'andava verso il sud e ci si allontanava da quel tratto di costa sul quale l'ingegnere avrebbe potuto metter piede dopo un cammino di un miglio e mezzo la costa non presentava alcuna svolta che consentisse di tornare verso il nord eppure bisognava bene che quel promontorio di cui si era girata la punta si unisse alla terraferma e i naufraghi quantunque sfatti dalla fatica procedevano coraggiosamente sperando di trovare a ogni passo qualche angolo brusco che li rimettesse nella direzione primitiva se non che dopo circa due miglia di strada faticosa si videro ancora una volta fermati dal mare sopra una punta rocciosa siamo sopra un isolotto esclamò pencroff e noi l'abbiamo attraversato da un'estremità all'altra il marinaio aveva detto il vero i naufraghi erano stati gettati non sopra un continente e nemmeno sopra un'isola vera e propria ma sopra un isolotto che non misurava più di due miglia di lunghezza questo isolotto arido pietroso senza vegetazione squallido rifugio di gabbiani faceva forse parte di un arcipelago più importante chissà i passeggeri quando dalla loro navicella lo videro attraverso le nebbie non avevano certo potuto esaminarlo con cura ma pencroff con i suoi occhi di marinaio abituati a vedere nelle tenebre credette a un certo punto di distinguere verso occidente delle masse confuse che potevano annunciare una costa montagnosa se non che ormai era notte non si poteva pensare ad abbandonare l'isolotto accerchiato dal mare e bisognava rinviare all'indomani le ricerche dell'ingegnere che non aveva risposto purtroppo a nessuna delle invocazioni lanciate nella notte dai suoi compagni il silenzio di Cyrus non prova niente osservò il giornalista può essere svenuto ferito in uno stato tale da non poter per il momento rispondere non dobbiamo disperare e propose di accendere nell'isolotto un fuoco che potesse servire da punto d'orientamento all'ingegnere ma in vano cercarono legna o sterpi secchi non c'era che sabbia e pietrame facile immaginare il dolore di nab e dei suoi compagni che erano così strettamente uniti all'ingegnere bisognava convenire che erano impotenti a portargli alcun soccorso e che era necessario attendere il giorno e allora o l'ingegnere aveva potuto salvarsi con le sue sole forze e aveva già trovato rifugio sopra un altro punto dell'isolotto oppure era perduto per sempre furono ore lunghe e penose il freddo era acuto e tormentava dolorosamente ma i naufraghi non se ne accorgevano nemmeno né pensarono di concedersi un minuto di riposo dimenticando le loro pene fisiche il pensiero fisso al loro capo sperando sempre andavano e venivano sull'arido isolotto frugando chiamando cercando tornando sempre verso la punta settentrionale dove pareva loro di trovarsi più vicini al luogo dove si era perduto Cyrus Smith restando in ascolto se venisse qualche grido lontano nella notte a un certo punto un grido di nab parve riprodursi in un eco harbert se ne avvide e lo fece notare a pencroff e aggiunse questo proverebbe che dovrebbe esserci verso occidente una costa abbastanza vicina il marinaio ne convenne d'altro lato egli aveva intravisto qualche cosa nel buio verso quella parte i suoi occhi non potevano ingannarsi sì doveva esserci una terra verso occidente quella eco lontana fu la sola risposta che pervenisse alle orecchie dei naufraghi intanto il cielo a poco a poco si puliva delle nuvole verso la mezzanotte qualche stella apparve e se l'ingegnere fosse stato con loro avrebbe fatto osservare i suoi compagni che non erano già più le stelle dell'emisfero boreale infatti non si vedeva la stella polare le costellazioni zenitali non erano quelle che si vedevano sui cieli settentrionali dell'america la croce del sud splendeva sul polo australe del globo la notte trascorse così verso le cinque del mattino il cielo cominciò a impallidire ancora buio era l'orizzonte ma poi con l'alba una nebbia pesante si stese sul mare e rapidamente non ci si vedeva a venti passi di distanza era un motivo di nuove angosce per i naufraghi che avevano atteso la luce del giorno con tutta ansia e adesso non scorgevano assolutamente nulla non importa disse pencroff se non vedo la costa la sento è là là ne sono sicuro come sono sicuro di non essere più a richmond ma quella nebbia non poteva tardar troppo a sollevarsi non era che una nebbia del bel tempo e il calore del sole l'avrebbe presto dissolta verso le sei infatti cominciò a farsi trasparente presto l'intero isolotto si scoprì agli occhi dei naufraghi poi il mare infinito verso oriente ma chiuso verso occidente da una costa alta e di ruta sì la terra era là la la salvezza sicura almeno per qualche tempo fra l'isolotto e quella costa correva un braccio di mare largo mezzo miglio ma tormentato da una corrente fortissima eppure uno dei naufraghi non ascoltando che il proprio cuore si buttò nell'acqua senza dire una sola parola era nab egli aveva fretta di essere su quella costa e di spingersi verso nord nessuno avrebbe potuto trattenerlo in vano infatti pencroff cercò di richiamarlo e allora il giornalista si accinse a seguire il nero ma il marinaio lo fermò che volete fare buttarvi anche voi a nuoto verso la costa sì aspettate date ascolto a me nab basterà se mai a soccorrere l'ingegnere se ci avventuriamo tutti in questo braccio di mare la corrente potrebbe portarci verso il largo ora se non mi inganno si tratta di una corrente provocata dall'alta marea guardate adesso la marea accenna a scendere un po di pazienza e quando il mare sarà basso troveremo probabilmente un passaggio guadabile avete ragione ammise spilett dobbiamo separarci il meno possibile intanto nab lottava con ostinatezza gagliarda contro la corrente cercando di attraversarla in senso obliquo si vedevano le sue spalle nere emergere dall'acqua ogni colpo di braccia andava sia alla deriva ma si avvicinava sempre più alla costa gli ci volle più di mezz'ora per superare quel mezzo miglio d'acqua e quando raggiunse la costa si trovava parecchie centinaia di metri più in là dal punto dell'isolotto dove si era lanciato a nuoto a terra nab si trovò subito davanti a una muraglia di granito si scosse vigorosamente poi correndo sparì agli occhi dei compagni svoltando dietro una punta rocciosa che si protendeva nel mare in direzione nord i suoi compagni lo avevano seguito con trepidazione e quando lo perdettero di vista cominciarono a esaminare quella terra dove tra breve si sarebbero trasferiti in cerca di rifugio sostenendosi con qualche arsella come colazione era piuttosto magra ma bisognava rassegnarsi la costa che si vedeva di fronte formava una vasta baia conchiusa verso sud da una punta assai acuta senza alcun segno di vegetazione e dall'apparenza selvaggia verso settentrione invece la baia aprendosi formava un litorale meno scabro che correva da sud ovest a nord est e terminava in un capo affilato fra quei due punti estremi sui quali si appoggiava l'arco della baia potevano correre circa otto miglia proprio davanti all'isolotto quella terra mostrava in primo piano una spiaggia sabbiosa disseminata di rocce nerastre che la calante marea veniva a una una di scoprendo in secondo piano salzava una cortina granitica tagliata picco incoronata da una cresta capricciosa alta un centinaio di metri sul mare lunga circa tre miglia e che finiva con una specie di pane tagliato con tanta precisione che pareva opera umana anziché naturale nessun albero in quel paesaggio desolato che ricordava quello che domina la città del capo di buona speranza naturalmente in proporzioni ridotte ma verso destra dall'isolotto si potevano scorgere al di là di quella specie di pan tagliato le masse confuse di grandi alberi che si prolungavano a perdita d'occhio era una vista che rallegrava lo spirito attristato dalla sprezza di quelle aride muraglie e di quelle spiagge desolate e finalmente sul fondo in direzione nord ovest a oltre sette miglia splendeva una cima bianca che i raggi del sole facevano brillare era un cappuccio di neve stesa sopra un monte lontano ma chissà se quella terra era un'isola oppure un continente vedendo certi cumuli di rocce contorte sconvolte non era difficile arguire che si trattasse di terreni vulcanici spilett pencroff e arbert guardavano con attenzione quella terra sulla quale si accingevano a trasferirsi sulla quale forse avrebbero dovuto vivere per anni e anni e aspettarvi la fine se essa non si trovava sopra qualche rotta marina pencroff mormorò arbert che cosa ne pensi ma gli rispose il marinaio c'è del buono e del cattivo come in tutte le cose di questo mondo vedremo intanto però la bassa marea comincia credo che fra tre ore potremo tentare il guado quando saremo di là cercheremo di cavarcela e di trovare l'ingegnere smith pencroff non si era ingannato nelle sue previsioni tre ore dopo col mare basso quasi tutto il letto del canale formato da sabbia emergeva e non restava più fra l'isolotto e la terra ignota che uno strettissimo tratto di mare da attraversare alle 10 spilett e i suoi compagni si spogliarono si assicurarono i loro abiti in un fagotto sopra le teste e si avventurarono in quel breve tratto di mare profondo poco più di un metro e mezzo il solo arbert ancora piccolo dovette nuotare e lo fece mirabilmente in pochi minuti furono senza fatica sull'opposto litorale dove asciugatisi al sole e rivestiti i loro abiti si sedettero a deliberare sul da farsi capitolo 4 subito il giornalista disse a pencroff di aspettarlo in quello stesso punto dove avevano toccato terra e senza il più piccolo indugio risalì la costa seguendo la stessa strada che aveva poco prima seguito il nero nab sparendo presto dietro un angolo di terra arbert avrebbe voluto accompagnarlo ma pencroff lo aveva trattenuto dicendogli resta figliolo dobbiamo preparare un accampamento e vedere se non c'è possibile trovare qualche cosa da mettere sotto i denti qualche cosa di più sostanzioso delle arselle di ieri sera anche i nostri amici avranno bisogno di rifocillarsi quando torneranno andiamo al lavoro eccomi pronto pencroff vedrai che qualche cosa combineremo procediamo con metodo siamo stanchi abbiamo fame abbiamo freddo bisogna dunque trovare un ricovero del cibo e del fuoco la foresta del legno i nidi avranno delle uova non ci resta che trovarci una casa andrò io a cercare una grotta dentro queste rocce e finirò pure per trovarci qualche bel buco dove potremo rifugiarci ecco andiamo ragazzo si misero in cammino ai piedi dell'enorme muraglia granitica sulla spiaggia che la bassa marea aveva scoperto per largo tratto andavano però verso sud perché pencroff aveva osservato che a un centinaio di metri al di sotto del punto dove erano arrivati la costa presentava una specie di taglio che secondo il marinaio doveva essere la foce di un fiume o di un ruscello ora se era importante trovare dell'acqua da bere era anche possibile che la corrente avesse portato smith proprio verso quella foce la muraglia di granito che si innalzava come se detto di un centinaio di metri era compatta e nemmeno la sua base che pur veniva lambita dalle onde presentava la più piccola incrinatura era insomma una specie di muraglione a picco liscio e durissimo sulla cui sommità roteavano miriade di uccelli acquatici tutt'altro che spaventati dalla presenza di quegli uomini che vedevano certo per la prima volta pencroff riconobbe in mezzo a essi due o tre specie di gabbiani e pensò che con un sol colpo di fucile se ne sarebbero potuti abbattere molti ma per sparare un colpo di fucile è necessario un fucile e i due uomini non l'avevano d'altra parte si sa che i gabbiani non sono affatto buoni da mangiare e nemmeno le loro uova sono gradevoli al gusto intanto arbert che si era allontanato di qualche passo verso sinistra scoprì delle rocce rivestite di alghe in mezzo alle quali innumerevoli erano certe conchiglie a doppia valva abbastanza solleticanti per gente affamata chiamò subito pencroff che si affrettò a raggiungerlo perbacco gridò il marinaio ma sono delle arselle non direi osservò arbert che le aveva esaminate con attenzione le direi piuttosto dei litodomi si mangiano benissimo e allora facciamo colazione con questi signori ci si poteva fidare di arbert ferratissimo in storia naturale che aveva per volontà del padre seguito i corsi dell'università di boston i cui professori avevano subito preso a benvolere quel giovinetto studioso e appassionato la sua profonda conoscenza di si fatta disciplina doveva anzi tornare di grande utilità anche in avvenire questi litodomi erano dei molluschi cosiddetti perforatori perché si scavano dei buchi dentro la pietra e hanno la conchiglia arrotondata verso le estremità pencroff e arbert ne fecero una scorpacciata come se fossero ostriche e non dovettero nemmeno lamentarsi per la mancanza di pepe perché il sapore di quei molluschi era già assai pepato per conto suo calmato un poco l'appetito bisognava pensare a trovare dell'acqua da bere raccolto un'ampia provvista di quei molluschi pencroff e arbert si misero in cammino e 200 passi più in là arrivarono a quella spaccatura della costa dove il marinaio aveva supposto la foce di un corso d'acqua la sua supposizione era stata infatti esatta vi trovarono una specie di fiume che si cacciava dentro la spaccatura della muraglia di granito e mezzo miglio più in su spariva dentro un bosco arbert guarda qui l'acqua la il bosco adesso non ci manca che la casa era un'acqua limpida e in quell'ora di bassa marea dolce in vano però arbert cercò intorno a una grotta un rifugio qualunque la muraglia di granito permaneva liscia e compatta però proprio alla foce di quel corso d'acqua a seguito di alcune frane si erano formate non delle grotte ma come dei mucchi di rocce pencroff e arbert si cacciarono per i sentieri di sabbia che correvano in mezzo a quella convulsione rocciosa sfiorando i pinnacoli che si reggevano per miracolo di equilibrio naturale e duravano fatica a reggere contro il vento che si infilava rabbioso e violento dentro quei camminetti sabbiosi che formavano come un labirinto in mezzo alle rocce fermiamoci disse pencroff potremmo utilizzare per ora uno di questi roccioni che presenta qualche cavità certo se fosse qui l'ingegnere egli saprebbe sfruttare assai meglio queste rocce tornerà presto affermò arbert ma quando torna deve trovare qui una dimora abbastanza abitabile del resto la renderemo abitabile se riusciremo a costruire una specie di focolare in una di queste cavità e a lasciarvi un'apertura perché il fumo possa uscirne ce la faremo ragazzo mio e prima di tutto andiamo a raccogliere un poco di combustibile penso che il bosco ce lo fornirà e ci fornirà anche dei grossi legni per turare convenientemente la nostra grotta e sbarrare il passo a questo vento del diavolo risalirono allora la sponda sinistra del corso d'acqua notando che la corrente era assai forte e si portava dietro dei tronchi d'alberi certo durante l'alta marea quelle acque dovevano essere risospinte all'indietro per un lungo tratto e pencroff pensò che si sarebbe potuto utilizzare benissimo quel movimento di flusso e riflusso per trasportare degli oggetti pesanti dopo aver camminato per un quarto d'ora il marinaio e il ragazzo arrivarono dove il corso d'acqua descriveva una brusca giravolta e si tuffava dentro una foresta di alberi stupendi ancora ricchi di fogliame nonostante la stagione si trattava di conifere e arbert il piccolo naturalista riconobbe subito la famiglia alla quale appartenevano quelle conifere dal gradito profumo e poi mostrò pencroff alcuni alti ciuffi di pini marittimi dal largo ombrello camminando sotto quegli alberi sotto le erbe alte il marinaio sentì scricchiolare e crepitare sotto i suoi passi delle legne secche ragazzo fece pencroff io non conosco il nome di questi alberi ma so di poterli catalogare nel genere della legna da ardere ed è quello che per ora ci interessa facciamone subito una buona provvista gli rispose arbert mettendosi senz'altro all'opera la raccolta fu facile non occorreva nemmeno rompere dei rami o strapparli dagli alberi tanta era la quantità di legna secca che giaceva in terra il combustibile insomma non mancava quello che mancava era un mezzo di trasporto secca com'era quella legna doveva ardere con estrema facilità e rapidità sarebbe quindi stato necessario portare una forte provvista alla grotta e il carico di due uomini era ben lungi dal bastare non preoccuparti ragazzo fece pencroff troveremo bene un mezzo per trasportare questo combustibile ci si arrangia sempre certo se avessimo una carretta o una barca la cosa sarebbe fin troppo facile ma abbiamo il fiume esclamò arbert ecco il fiume sarà per noi la strada che cammina per conto suo e i traini di legname non sono stati inventati per nulla però in questo momento questa nostra strada d'acqua corre in una direzione opposta alla nostra c'è l'alta marea e il corso d'acqua retrocede aspettiamo la bassa marea e penserà quest'acqua portarci il combustibile alla grotta e subito tutte e due cominciarono a portare verso la sponda del fiume grossi fasci di legna secca poi con dei tronchi abbastanza grossi legati insieme con robuste liane secche costruirono una specie di zattera sulla quale accumularono ordinatamente la legna raccolta in poco più di un'ora il carico era completo e il traino assicurato alla sponda aspettava la bassa marea per prendere il via e lasciarsi portare dalla corrente c'erano alcune ore da aspettare e venne a tutte e due il pensiero di impiegarle salendo fin sopra la muraglia di granito per esaminare di lassù la terra sconosciuta sulla quale avevano posto il piede a un centinaio di metri più in là la muraglia scendeva dolcemente come a formare una scalinata naturale harbert e pencroff la salirono agevolmente e in pochi minuti furono sulla sommità della gradinata granitica di dove potevano contemplare lo sterminato oceano con ansiosa emozione scrutarono tutta la costa settentrionale sulla quale erano scesi col pallone la cyrus smith era scomparso e la i loro occhi cercarono se qualche rottame dell'aerostato non fosse per avventura rimasto a galleggiare sulle acque ma il mare non era che un infinito deserto d'acqua e deserta appariva la costa non vi si scorgevano nemmeno nab e il giornalista ma forse in quel momento l'uno o l'altro stavano cercando ed esplorando in qualche altra parte della costa eppure qualcosa mi dice esclamò harbert che un uomo come l'ingegnere non ha potuto annegare come l'ultimo venuto egli deve aver raggiunto qualche altro punto della costa non lo credi pencroff il marinaio scosse la testa con tristezza egli non aveva troppe speranze di rivedere cyrus smith ma non voleva distruggere le speranze del ragazzo e gli rispose senza dubbio figliolo il nostro ingegnere è un uomo da cavarsi d'impiccio dove tutti gli altri uomini sarebbero fritti verso occidente si vedeva svettare la montagna con la sua cima ricoperta di neve larghe masse boscose l'ammantavano sino a una certa altezza e dove il bosco finiva spaziava una vasta prateria disseminata di ciuffi d'alberi laggiù qua e là si vedeva anche scintillare l'acqua del fiume che certo doveva scendere dalla montagna chissà se siamo sopra un'isola mormorò pensoso pencroff comunque dovrebbe essere un'isola assai grande per quanto grande sia sarebbe sempre un'isola la questione non poteva essere risolta in quel momento bastava constatare che l'isola o continente quella terra era abbastanza fertile piacevole come paesaggio varia nei suoi prodotti bisogna ringraziare la provvidenza disse pencroff che in fondo ci ha assistito nel nostro disastro sia dunque lodato il dio gli disse harbert il cui giovane cuore era pieno di riconoscenza per il creatore poi ripresero la strada del ritorno seguendo la cresta meridionale della muraglia orlata da un festone di rocce capricciose dalle quali al passare dei due uomini scattavano a volo stormi di uccelli ma non sono dei gabbiani esclamò harbert e allora che uccelli sono sembrerebbero dei piccioni e difatti sono dei colombi selvatici o colombi di roccia gli rispose harbert li riconosco benissimo dalla doppia banda nera che traversa le loro ali dalla macchia di piume bianche sul dorso e dal colore blu cinerino delle loro piume e sai il colombo di roccia è ottimo da mangiare di conseguenza ottime devono essere le loro uova ora per poche che ne abbiano lasciate nei loro nidi ah non lasceremo loro il tempo di schiudersi se non in tante belle frittate già ma come le farai le frittate con che cosa hai ragione non sono abbastanza mago per questo ma non importa ci accontenteremo di uova alla cocca e di uova sode le più dure me le papperò io nelle anfrattuosità di quelle rocce in certi buchi annidate nelle pieghe della pietra trovarono molte uova e ne raccolsero alcune dozzine che conservarono accuratamente nel largo fazzoletto del marinaio quindi scesero verso il corso d'acqua quando arrivarono sulla sponda era un'ora del pomeriggio e la bassa marea già cominciava bisognava approfittare del riflusso per avviare verso le grotte il carico di legna pencroff non voleva che quella zattera andasse sulla corrente senza direzione e d'altro canto non osava imbarcarsi su quel fragile mezzo natante in mezzo a un fiume rapinoso ma un marinaio non è mai in imbarazzo quando si tratta di cavi e di gomene e pencroff in un baleno formò una grossa e lunga corda intrecciando insieme delle tenacissime liame l'assicurò la poppa della zattera e ne tenne un capo nelle mani mentre arbert aiutandosi con una lunga pertica manteneva l'imbarcazione nella corrente la cosa riuscì alla perfezione il grosso carico di legna frenato dalla lunga corda vegetale tenuta nel pugno fermo del marinaio seguiva docilmente il filo della corrente la riva del fiume era pianeggiante non c'era pericolo di urti che avrebbero messo a repentaglio il carico e in poco meno di due ore la zattera veniva fermata a pochi passi di distanza dalle grotte capitolo 5 scaricato il legno pencroff si dette subito da fare per rendere abitabile la grotta scelta come abitazione costruendo le aperture con sabbia pietre rami intrecciati saldamente e terra bagnata per evitare il passaggio dei venti venne lasciata una sola via libera una specie di condotto per il fumo nell'interno la grotta era suddivisa in tre o quattro camere se si potevano definire in tal modo certe tane delle quali una fiera si sarebbe disdegnosamente accontentata ma ci si stava al riparo ci si poteva stare in piedi almeno nella più grande che era il centro della grotta il suolo era ricoperto da una sabbia finissima insomma in attesa di meglio ci si poteva arrangiare abbastanza bene pencroff e arbert lavoravano di buzzo buono e parlavano non credi pencroff che i nostri compagni avranno trovato una casa migliore di questa nostra può darsi ma nel dubbio non astenerti dal lavoro meglio due corde sull'arco che nemmeno una corda purché riportino l'ingegnere smith e non avremo più nulla da chiedere al cielo se che uomo l'ingegnere non se ne trovava un altro trovava ma allora tu disperi di rivederlo dio me ne guardi intanto il lavoro era finito e pencroff se ne dichiarò soddisfatissimo ecco disse ora i nostri compagni possono tornare troveranno un rifugio sufficiente restava da costruire il focolare e preparare la cena una cosa semplice e facile in fondo in fondo una specie di corridoio scavato fra le rocce nella grotta sotto l'apertura che era stata lasciata apposta per l'uscita del fumo furono collocate delle grosse pietre rotonde e piatte c'era anche questo di buono quel calore che non se ne sarebbe uscito insieme col fumo dall'apertura sarebbe bastato ad assicurare alla casa una temperatura conveniente in una delle camere venne ammassata la provvista di legna e poi il marinaio dispose sulle pietre del focolare improvvisato dei grossi ceppi mescolati a legna minuta fu a questo punto che herbert gli domandò se avesse degli zolfanelli perbacco gli rispose pencroff e aggiungo per fortuna perché senza zolfanelli o senza esca saremmo in un brutto impiccio non potremmo fare del fuoco come dei selvaggi strofinando energicamente due pezzi di legno uno contro l'altro provaci provaci figliolo e vedremo se ce la fai prima a ottenere il fuoco o a romperti le braccia eppure è un metodo assai in uso nelle isole del pacifico non dico di no ma bisogna concludere che quei selvaggi sanno come si fa oppure usano del legno particolare perché io l'ho provato cento volte non ci sono mai riuscito no preferisco gli zolfanelli dove sono a proposito pencroff cercò la scatola per tutte le tasche della giacca e dei pantaloni ma con sua grande sorpresa non la trovava ecco una cosa maledettamente seccante brontolò la scatola deve essermi caduta dalla tasca e non me ne sono neanche accorto tu arbert non hai uno zolfanello o qualcosa da accendere no pencroff il marinaio uscì dalla grotta grattandosi la testa energicamente e con arbert si dette a cercare ansiosamente nei dintorni sulla sabbia se per caso si fosse trovata la sua scatola preziosa era una scatola di rame e difficilmente avrebbe potuto sfuggire ai loro occhi sei sicuro pencroff di non aver buttato fuori dalla navicella anche quella scatola o me ne sono guardato bene soltanto capirai con tutti quegli scossoni che abbiamo subito è facile che un oggetto così piccolo si sia smarrito anche la mia piba vedi è sparita maledizione dove può essersi mai chiacciata quella diabolica scatola guarda il mare sta ritirandosi andiamo sul posto dove abbiamo preso terra era assai poco probabile trovare la scatola su quella sabbia dove le onde avevano dovuto farla rotolare chissà dove ma non si poteva trascurare neanche la più piccola possibilità corsero dunque su quel punto della costa e la frugarono con cura minuziosa in ogni anfratto in ogni buco in ogni angolo ma senza trovare niente evidentemente se la scatola era caduta su quella sabbia doveva poi essere finita in mare era una perdita gravissima nelle loro circostanze irreparabile anzi e pencroff non nascondeva il suo cruccio il suo dispetto harbert cercò di confortarlo dicendogli che se l'avessero trovata quella scatola avrebbe ormai contenuto degli zolfanelli inservibili inzuppati d'acqua di mare ma il marinaio protestò la sua scatola era assolutamente impenetrabile aveva una chiusura ermetica beh pencroff troveremo certamente qualche altro mezzo per procurarci del fuoco e poi spiletto l'ingegnere avranno bene in tasca degli zolfanelli sì ma intanto siamo senza fuoco e al loro ritorno proveranno una ben malinconica cena che li aspetta e poi nabbe l'ingegnere non fumano e perché vuoi che abbiano degli zolfanelli in tasca e quanto a spiletto quello avrà conservato senza dubbio il suo tacquino ma non la sua scatola di zolfanelli harbert non rispose era sicuro che si sarebbe potuto ottenere del fuoco anche senza quella famosa scatola pencroff invece per quanto non fosse uomo da perdersi d'animo non era altrettanto sicuro comunque intanto non c'era che una cosa da fare aspettare il ritorno di nabbe di spilett addio però cena con le uova sode bisognava contentarsi di carne cruda e la cosa francamente non era granché allettante a buon conto prima di tornare alla grotta fecero una nuova e abbondante provvista di litodomi lungo la strada del ritorno pencroff camminava a testa bassa cercando sempre per terra alla sua scatola fermandosi a frugare sotto i ciuffi d'erba sotto i sassi lungo la riva del fiume alle cinque erano a casa e anche qui dentro la vasta grotta e le sue stanze e i suoi corridoi fu cercato minuziosamente finalmente decisero di sospendere quelle ricerche evidentemente inutili un'ora dopo proprio mentre il sole stava scendendo a occidente dietro gli altipiani di quella terra harbert che stava passeggiando sulla sabbia vide spilett e nabbe che stavano tornando erano soli il giovinetto sentì stringersi il cuore ah il marinaio non si era dunque ingannato l'ingegnere smith non era stato trovato il giornalista appena arrivato si sedette sopra un sasso senza proferire parole sfatto di stanchezza e di fame non aveva più molta forza di parlare quanto a nabbe i suoi occhi pesti arrossati dicevano quanto avesse pianto e come fu davanti alla grotta ricominciò a piangere spilett fece poi il racconto di tutte le ricerche fatte insieme con nabbe gli aveva percorso la costa per un tratto di otto miglia e cioè era andato assai più in là del punto dove era avvenuta la prima caduta dall'erostato caduta che aveva provocato la scomparsa dell'ingegnere ma la costa era deserta e non si era trovato alcuna traccia alcuna impronta né un sasso rimosso di fresco nel segno di un piede umano sulla sabbia era evidente anche che nessun abitante frequentava quella zona costiera e corre la costa deserto era il mare forse in quel deserto d'acqua a qualche centinaio di metri dalla riva l'ingegnere aveva trovato la morte e la tomba a queste parole nabbe si alzò di scatto e con voce convulsa e decisa gridò no no egli non è morto no no lui ma via qualsiasi altro forse ma lui no lui non è possibile egli un uomo che sa difendersi contro tutto e contro tutti poi disfatto dall'angoscia e dalla stanchezza si lasciò cadere a terra dicendo non ne posso più arbert gli si avvicinò coraggio nabbe lo troveremo vedrai dio ce lo restituirà ma adesso dovete aver fame mangiate ve ne prego mangiate qualche cosa così dicendo offriva al nero una manciata di conchiglie una magre povera cena in verità nabbe per quanto fosse digiuno da molto tempo ricusò no senza il suo diletto padrone egli non voleva vivere gideon spiletti invece divorò una grande quantità di quei molluschi poi si sdraiò sulla sabbia contro una roccia estenuato ma calmo harbert gli si avvicinò e gli disse signore noi abbiamo trovato un rifugio dove starete meglio di qui sta scendendo la notte venite a riposarvi domani vedremo il giornalista si alzò e guidato dal giovinetto si avviò verso le grotte a un tratto pencroff lo fermò e gli chiese con l'aria più naturale di questo mondo a proposito signor spilett non avreste uno zolfanello il giornalista si frugò nelle tasche non ci trovò niente e rispose ne avevo sì ma ho dovuto buttar via tutto il marinaio rivolse la stessa domanda nabbe e ne ebbe la stessa risposta maledizione esclamò allora pencroff fra i denti ma il giornalista lo sentì e gli chiese nemmeno uno zolfanello nemmeno uno e per conseguenza nemmeno un briciolo di fuoco ah se ci fosse qui il mio padrone esclamò nabbe saprebbe ottenere il fuoco anche senza zolfanelli i quattro naufraghi si guardarono in viso preoccupati e perplessi poi harbert ruppe quell'inquieto silenzio e disse signor spilett voi siete un accaneto fumatore dovete sempre avere degli zolfanelli dispersi in qualche tasca forse non avete cercato bene cercate ancora un solo zolfanello basterebbe il giornalista frugò accuratamente tutte le tasche della giacca del panciotto dei pantaloni e finalmente con grande gioia di pencroff sentì un piccolo sottilissimo legno tra la stoffa e la fodera del panciotto doveva essere uno zolfanello ma era l'unico ed era necessario estrarlo con grandissima cautela per non strappar via quel poco di fosforo volete lasciar fare a me chiese harbert e con molta leggerezza e abilità il giovinetto riuscì a estrarre da quel nascondiglio la fragile asticciola di legno quel misero e preziosissimo pezzo di legno che rappresentava per i naufraghi un vero e proprio tesoro uno zolfanello esclamò pencroff ma è come se ne avessimo un carico intero presa in consegna il prezioso zolfanello e seguito dai suoi compagni entrò nella grotta bisognava ora servirsi di quel legnetto con grande sicurezza e cautela non sciuparlo pencroff si assicurò innanzitutto che fosse ben secco poi guardandosi in giro disse mi occorre un po di carta spilett stette un poco sopra pensiero poi sospirando stroppò un foglio dal suo tacquino e lo diede al marinaio che si era inginocchiato davanti al focolare e vi aveva collocato accuratamente alcune manciate di erbe secche ciò fatto piegò il foglio in forma di imbuto come fanno i fumatori di pipa per difendere la fiamma dal forte soffio del vento e lo cacciò sotto le foglie secche si trattava ora di accendere quell'unico zolfanello pencroff sospirò preso un ciottolo ben asciutto vi sfregò contro piano piano lo zolfanello ma la fiamma non sprizzò il marinaio aveva tenuto lo zolfanello troppo leggero timoroso di rovinare la capocchia di fosforo no fece sento che non ci riuscirò mai non posso non voglio si alzò pregò arbert di far lui il ragazzo non era mai stato così emozionato in tutta la sua vita il cuore gli batteva forte forte prese lo zolfanello lo fregò con vivacità sul ciottolo si di un lieve crepitio e una piccola fiamma azzurrina spiccò in cima alla sticciola di legno harbert girò allora lo zolfanello in modo da alimentare quella fiammella poi la introdusse dolcemente dentro l'imbuto di carta che si infiammò in un baleno e pochi secondi dopo le erbe secche prendevano fuoco la fiamma divampava alta e consolatrice attaccava la legna accumulata sul focolare esclamò pencroff non sono mai stato così commosso il focolare funzionava alla perfezione il fumo saliva per l'apertura e un gradevolissimo calore si spandeva nella grotta ora sarebbe però stato necessario conservare quel fuoco non lasciarlo spegnere mai tenere sempre la brace sotto la cenere ma insomma tutto si sarebbe risolto con un poco di perseveranza e di pazienza intanto il marinaio provvì da preparare una cena che fosse un poco più invitante di quei molluschi e harbert portò due dozzina di uova di piccione spilett seduto un poco in disparte guardava quei preparativi e taceva tre pensieri lo tormentavano cyrus viveva ancora e se viveva dove poteva mai trovarsi e se era sopravvissuto alla catastrofe come mai non era riuscito a dar segni della sua presenza quanto a nab sdraiato sulla sabbia piangeva silenziosamente egli non era ormai più che un corpo senza anima pencroff che conosceva 52 maniere di cuocere le uova non aveva molta scelta in quel momento dovette accontentarsi di seppellirle dentro la cenere calda e lasciarle cuocere così dopo qualche minuto erano pronte e il marinaio invitò i compagni a quella cena la prima cena su quella terra ignota ma quelle uova erano squisite e poiché l'uovo contiene tutti gli elementi indispensabili al nutrimento dell'uomo i naufraghi non sentirono subito un grande beneficio se ci fossero stati tutti se uno non fosse mancato se i cinque prigionieri e vasi da richmond fossero stati tutti là sotto quel cumulo di rocce davanti a quella fiammella crepitante su quella sabbia asciutta avrebbero dovuto veramente ringraziare il cielo ma il più ingegnoso di loro il più dotto quello che era il loro capo cyrus smith mancava e forse il suo corpo non aveva nemmeno potuto avere una sepoltura così trascorse quella giornata del 25 marzo intanto era scesa la notte si udiva fuori fischiare gemere il vento e rompersi il mare contro la riva i ciottoli sulla sabbia percossi e spinti dall'onda fragorosamente rotolavano il giornalista si era ritirato in fondo a un corridoio oscuro dopo aver tracciato sul suo toacquino sommariamente gli avvenimenti della giornata ed era riuscito ad addormentarsi harbert data la giovanissima età lo aveva preceduto nel sonno il marinaio steso davanti al fuoco dormiva con un occhio aperto preoccupato com'era che il suo fuoco si spegnesse uno solo dei naufraghi non dormì era l'inconsolabile il disperato nab che nonostante tutte le preghiere dei compagni per quanto durò la notte girò su e giù per la costa chiamando il suo padrone capitolo 6 l'inventario di quanto possedevano quei naufraghi gettati dal caso sopra quella costa che pareva disabitata è presto fatto essi non possedevano nulla all'infuori degli abiti che indossavano il momento della catastrofe va fatta eccezione tuttavia per il tacquino e un orologio di spilett conservati evidentemente per distrazione non avevano nemmeno un'arma nemmeno un utensile nemmeno un temperino dalla navicella all'ordine gettato dall'ingegnere era stato buttato proprio tutto gli eroi immaginari di daniel defoe e di altri romanzieri non erano stati gettati sopra isole squallide e deserte in condizioni tanto disastrose essi traevano dalle risorse abbondanti dalle loro navi incagliate sugli scogli o fracassate contro la costa oppure trovavano di che provvedere ai primi bisogni della loro nuova esistenza in qualche grosso rottame che il mare buttava sulla costa insomma non si trovavano così totalmente disarmati in faccia alla natura i nostri naufraghi non avevano nulla e dal nulla bisognava arrivare a tutto e almeno se cyrus smith fosse stato con loro almeno se l'ingegnere avesse potuto mettere la sua scienza il suo spirito inventivo al servizio di quella loro situazione disperata allora forse tutto non sarebbe stato perduto purtroppo non si poteva più sperare di rivedere cyrus smith i naufraghi non dovevano attendere altro aiuto se non dalle loro proprie forze e da quella provvidenza che non abbandona mai gli uomini di fede ma prima di tutto dovevano essi fermarsi su quel punto della costa senza cercare di sapere a quale continente apparteneva se era abitata oppure la costa deserta di un'isola disabitata era una questione importante da risolvere e senza indugio perché dalla sua soluzione dipendevano le misure da prendere ma prima di intraprendere qualsiasi esplorazione seguendo il consiglio di pencroff risolsero di attendere qualche giorno bisognava preparare una scorta di viveri e procurarsi del cibo un poco più nutriente di qualche uovo e di un po di molluschi gli esploratori dovendo sopportare dure fatiche sprovvisti di un comodo rifugio dove riposare la notte dovevano anzitutto pensare al modo di rifocillare le proprie forze abbondantemente intanto quella grotta offriva un rifugio sufficiente il fuoco era acceso bastava conservare la brace uova e litodomi non facevano difetto chissà che non ci fosse modo di uccidere qualcuno di quei colombi di roccia che volavano a stormi di centinaia sulle sommità della muraglia magari a colpi di bastone o a sassate e perché gli alberi della foresta non dovevano dare qualche frutto nutriente e gustoso e infine l'acqua dolce era là a portata di mano tutto sommato fu deciso di restare per qualche giorno nella grotta a prepararvi un'esplorazione accurata sia lungo la costa sia all'interno questo progetto piaceva soprattutto a nab che sempre più chiuso nelle sue idee nei suoi presentimenti non aveva alcuna fretta di abbandonare quel posto teatro della catastrofe egli non credeva non poteva e non voleva credere che l'ingegnere fosse perduto non gli pareva possibile che un simile uomo fosse finito in quel modo banale portato via da un colpo di mare annegato miseramente nei flutti a qualche centinaio di passi dalla costa finché le onde non avessero buttato sulla spiaggia il suo corpo fino a che lui nab non avesse visto con i suoi propri occhi toccato con le mani il cadavere del suo padrone egli non avrebbe creduto alla sua morte e quest'idea si radicò sempre di più nel suo cervello diventò certezza segreta assoluta forse era un'affettuosa illusione ma il marinaio non ebbe il coraggio di opporvisi per pencroff non c'era più speranza l'ingegnere era perito nel mare ma con nab non voleva discutere non si poteva discutere era come il cane che non può lasciare il posto dove il padrone è caduto e il suo dolore era tale che probabilmente non sarebbe sopravvissuto quel mattino del 26 marzo fin dall'alba nab aveva ripreso lungo la costa le sue ricerche spingendosi verso settentrione ed era tornato in quel punto dove presumibilmente il mare si era rinchiuso sopra l'ingegnere come tutta colazione quel giorno non c'erano come la sera precedente che delle uova e dei litodomi ma arbert aveva trovato del sale depositato nella cavità delle rocce per evaporazione e quella sostanza minerale giunse graditissima finita la colazione pencroff chiese al giornalista se voleva accompagnarli nella foresta perché lui e arbert avevano deciso di farvi un'escursione ma poi tutto ben ponderato era meglio anzi necessario che qualcuno restasse alla grotta per custodire il prezioso fuoco e anche per il caso che nab avesse bisogno di soccorso il giornalista dunque restò e noi arbert disse il marinaio andiamo a caccia troveremo delle munizioni lungo il cammino e il nostro fucile ce lo taglieremo nella foresta al momento di partire però arbert fece osservare che in mancanza di esca sarebbe stato prudente tener pronto una sostanza che potesse sostituirla quale un pezzo di tela bruciacchiata in caso di bisogno essa potrà servirci da esca il marinaio trovò la cosa giustissima ma si rendeva necessario sacrificare un pezzo di fazzoletto poiché il sacrificio valeva la pena di essere compiuto il fazzoletto a quadretti di pencroff fu subito ridotto di proporzioni e una larga striscia diventò una straccetto bruciacchiato quella specie di miccia fu allora collocata dentro una nicchietta sassosa al riparo ad ogni vento e di ogni umidità erano le nove del mattino il tempo era nuvoloso il vento soffiava da sud est e arbert pencroff si misero in cammino volgendosi a guardare tratto tratto il fil di fumo che usciva dalla grotta giunti nella foresta pencroff tagliò due solidi rami che trasformò in ottimi randelli dalla punta affilata contro un grosso sasso se si avesse avuto un coltello i due cacciatori cominciarono ad avanzare fra le alte erbe seguendo la riva del fiume a un certo punto il fiume faceva una brusca svolta verso sud ovest restringendosi un poco e le sue rive formavano un letto incassato coperto da una duplice arcata di rami fronzuti per non smarrire la strada pencroff decise di seguire il corso del fiume ma la sponda presentava qua e là degli ostacoli notevoli rami che scendevano fino al pelo dell'acqua liana intrecciata tenacemente che bisognava rompere a colpi di bastone ogni tanto arbert con l'agilità di un gatto si cacciava dentro il folto e spariva ma il marinaio lo chiamava subito ansioso preoccupato e infine lo pregò di non allontanarsi più anche la foresta come la costa era immune ad ogni traccia di piede umano pencroff ci vide però in pronte di quadrupedi segni di passaggio recente di animali dei quali tuttavia non seppe precisare la specie anche arbert come il marinaio pensò che doveva trattarsi di qualche grossa fiera con la quale si sarebbe presto tardi dovuto fare i conti ma nemmeno un albero portava i segni di una scura in nessun angolo verano tracce di un fuoco anche lontano nel tempo ma del resto questa solitudine era forse da benedirsi perché la presenza di umani su quella terra selvaggia in pieno pacifico non sarebbe stata certo che una pericolosa presenza pencroff e arbert non si scambiavano che qualche rara parola perché le difficoltà del cammino erano numerose e gravi tanto gravi che dopo un'ora di strada non avevano fatto che un miglio fino allora la caccia era stata infruttuosa eppure molti erano gli uccelli che si sentivano cantare sugli alberi e si vedevano volare lontano di ramo in ramo ma la presenza di quei due uomini pareva che li avesse resi improvvisamente diffidenti fra gli altri a un certo punto arbert vide un uccello dal becco acuto e lungo che somigliava a un grosso martin pescatore ma con le piume assai più scure ed uno splendore quasi metallico dovrebbe essere uno giacamare disse cercando di avvicinarsi a quel volatile benvenga questo giacabar se ha la buona idea di lasciarsi mettere arrosto osservò pencroff proprio in quell'attimo arbert lanciava con molta destrezza un sasso che colpiva l'uccello ad un'ala questo però non bastò ad abbatterlo perché la bestia per quanto ferita filò via nel folto correndo sulle due zampe sono stato maldestro si rammaricò il giovinetto no ragazzo tu hai tirato giusto e non so chi sarebbe riuscito a colpire quell'uccello come lo hai colpito tu ma lasciamolo perdere non sviamoci lo troveremo un altro giorno continuarono nella loro esplorazione gli alberi erano sempre più stupendi in vano il marinaio cercava tra essi qualcosa dei preziosi palmizi così utili e provvidenziali per i frutti che offrono all'uomo qui non si vedevano che conifere pini e abeti alti certuni fino a 50 metri a un certo punto però un fitto volo di uccelli non molto grandi e dalle bellissime piume venne a sciamare sui rami bassi degli alberi intorno ai due esploratori sono dei curucus osservò arbert preferirei che fossero delle galline faraone disse pencroff ma si possono almeno mangiare sono buonissimi e dalla carne assai delicata nota poi che si lasciano avvicinare senza troppa diffidenza scommetto che li potremmo uccidere a colpi di bastone scivolando cautamente fra tronco e tronco il marinaio e il ragazzo arrivarono sotto una pianta i cui rami bassi erano pieni di quegli uccelli che aspettavano al loro passaggio mosche e farfalle per ghermirle e mangiarle i due cacciatori giunti a tiro si alzarono bruscamente e usando i loro bastoni come falci spazzarono via delle intere file di uccelli che non pensavano affatto a volar via e si lasciarono così stupidamente abbattere quando si decisero a prendere il volo un centinaio di vittime giaceva sull'erba bene fece pencroff questa è selvaggina adatta a cacciatori come noi potevamo prenderli anche con le mani il marinaio infilò per i becchi quegli uccelli come a lodole sopra un giunco flessibile e poi fu ripreso il cammino lo scopo principale di quell'esplorazione era quello di procurare la maggior quantità possibile di cibo agli abitanti della grotta ora lo scopo non era stato raggiunto in pieno e il marinaio che scrutava con attenzione ogni angolo e ogni ciuffo d'alberi lanciava maledizioni contro quegli animali che si vedevano correre e sparire dentro il folto ah se almeno ci fosse stato il cane top ma anche top era scomparso insieme col suo padrone verso le tre del pomeriggio altri grossi voli di uccelli furono avvistati sopra gli alberi e su cespugli di ginepro e all'improvviso si udì nella foresta un vero e proprio suono di tromba quella specie di fanfara era il canto di quegli uccelli nei quali arbert riconobbe subito dei tetras dalle piume giallo bruno e dalle coda bruna pencroff decise che bisognava assolutamente catturare almeno uno di quei grossi gallinacei così buoni da mangiare ma la cosa era tutt'altro che facile perché quegli uccelli non si lasciavano avvicinare infatti dopo alcuni tentativi infruttuosi il marinaio si fermò e disse dal momento che non si possono uccidere al volo cerchiamo di prenderli con la lenza come delle carpe rispose ridendo arbert ecco come delle carpe rispose serio serio il marinaio pencroff aveva trovato nelle erbe alcuni nidi di tetras con due o tre uova ciascuno non toccò quei nidi ai quali dovevano certamente tornare rispettivi titolari ma intorno a essi pensò di tendere le sue insidie trasse così arbert in disparte e preparò i suoi ingegnosi ordigni mentre il ragazzo lo guardava attentissimo ma poco fiducioso nell'esito di quella nuova pesca il marinaio costrusse le sue lenze con delle sottili liane attaccate l'una all'altra e lunghe cinque o sei metri all'estremità di ogni liana venne assicurato un grosso spino ricurvo tratto da arbusti di acacia e come esca vennero usati dei grossi vermi rossi preparati i suoi strumenti pencroff scivolando tra l'erba tornò verso i nidi vi assicurò vicino un capo della sua lenza e tenendo l'altro capo in mano si appiattò con arbert in un nascondiglio erboso cominciò allora la paziente attesa arbert era sempre meno fiducioso nel successo dell'impresa dopo circa una mezz'ora ecco i tetras tornare verso i loro nidi proprio come pencroff aveva pensato tornavano a coppie si vedevano saltellare intorno ai nidi sbeccucciando nell'erba senza accorgersi affatto della vicinanza dei due cacciatori che del resto erano assai ben nascosti e avevano avuto cura di collocarsi sotto vento anche il ragazzo adesso si era appassionato quel nuovo genere di caccia o di pesca che dir si voglia e come pencroff tratteneva perfino il respiro incantato a guardare avidamente quegli uccelli che passavano fra amo e amo mostrando di non accorgersene nemmeno fu allora che pencroff diede una leggera scossa alla lenza il movimento si propagò a tutta la fila degli ami e i vermi si agitarono come se fossero ancora vivi la cosa parve attirare l'attenzione dei tetras che senz'altro si buttarono contro quei vermi e li attaccarono colpi di becco tre uccelli i più nuvoraci inghiottirono insieme verme e amo pencroff diede uno strappo alla lenza tirò la corda di liane e un furioso di battersi d'ali indicò che gli uccelli erano presi evviva gridò il marinaio precipitandosi verso la selvaggina harbert aveva battuto le mani era la prima volta che vedeva prendere degli uccelli con la lenza ma il marinaio modestamente lo assicurò che non era alle sue prime armi e che dal resto non era lui l'inventore di quell'ingegnoso sistema di cattura ma ridotti come siamo ragazzo mio bisogna prepararci a vederne di ben altre con i tetras penzoloni sulle spalle i due esploratori felici di non tornare a mani vuote ripresero la strada del ritorno seguendo a ritroso il corso del fiume alle sei di sera piuttosto stanchi del lungo cammino rientravano nella grotta capitolo 7 gideon spilett se ne stava immobile sulla spiaggia abbraccia concerte e guardava il mar all'orizzonte dal quale si scorgeva una grossa nuvola nera salire sotto la spinta di un forte vento indizio di una non lontana bufera harbert entrò nella grotta mentre pencroff si avvicinava il giornalista che tutto preso dai suoi pensieri non lo vide venire avremo una pessima notte signor spilett disse il marinaio si prepara una pioggia un vento da far impazzire di gioia le procellarie spilett si volse vide pencroff e bruscamente gli domandò secondo voi a quale distanza dalla costa abbiamo ricevuto quel colpo di mare che ha portato via il nostro compagno il marinaio non si aspettava una domanda si fatta riflette un poco poi rispose a 400 metri al massimo e allora saru smith sarebbe scomparso a 400 metri dalla costa pressa poco e anche il suo cane anche il suo cane quello che mi stupisce è che ammettendo che l'ingegnere sia perito abbia trovato la morte anche top e non si trovi qui sulla costa né il corpo dell'uno né quello dell'altro non c'è troppo da stupirsene con un mare così agitato può darsi che le correnti abbiano portato i corpi lontano dalla costa e voi pensate proprio che l'ingegnere sia perito nel mare lo penso per conto mio fatto tanto di cappello alla vostra esperienza in materia trovo che questa doppia scomparsa di smith e del suo cane ha qualche cosa di inspiegabile e di inverosimile vorrei pensarlo anch'io signor spilett ma purtroppo la mia convinzione è un'altra ciò detto pencroff entrò nella grotta dove scoppiettava un allegro fuoco che illuminava le pareti rocciose del rifugio senza indugio il marinaio si accinse a preparare la cena desideroso di offrire ai suoi compagni un piatto un poco sostanzioso spiumò due tetras l'infinò sopra una bacchetta e li fece arrostire davanti alla vigorosa fiamma del focolare alle sette di sera nab non era ancora tornato pencroff era molto inquieto per questa assenza temeva che fosse capitato qualche brutto incidente al povero nero o che la disperazione gli avesse suggerito qualche gesto insano harbert invece dal ritardo del nero traeva riflessioni d'altra natura per lui se nab non tornava era perché gli si era presentata qualche nuova circostanza che lo aveva consigliato a continuare nelle sue ricerche e a ritardare il suo ritorno ora questa nuova circostanza non poteva che essere favorevole infatti perché mai nab non sarebbe rientrato se non una nuova speranza lo avesse trattenuto fuori forse aveva trovato qualche indizio un'impronta sulla sabbia un rottame indicatore forse in quello stesso momento stava seguendo una buona pista forse era già accanto al suo padrone così pensava il giovinetto e i suoi pensieri a un certo punto espose ai compagni che lo lasciarono dire in silenzio soltanto il giornalista ebbe un cenno di consenso pencroff sosteneva invece che nab avendo spinto le sue ricerche più in là della zona percorsa il giorno prima non poteva essere di ritorno ancora harbert in preda ai suoi presentimenti avrebbe voluto uscire e andare incontro al nero ma pencroff gli dimostrò che con l'oscurità che era scesa e con quel tempo minaccioso la sua sarebbe stata una camminata inutile e non sarebbe mai riuscito a rintracciare nab era meglio aspettarlo nella grotta se l'indomani nab non fosse stato ancora di ritorno allora anche pencroff si sarebbe unito ad harbert per andare in cerca di nab anche spilett diede ragione al marinaio e harbert si arrese ma due grosse lacrime silenziose gli scesero dagli occhi tanto che il giornalista non poteva trattenersi e abbracciò il generoso ragazzo intanto fuori il tempo si era messo decisamente al brutto un vento di formidabile violenza spazzava la costa il mare rugiva contro gli scogli e la pioggia precipitava in rovesci terribili mescolata a nuvole di sabbia sollevate dalle raffiche incensanti anche il fumo del focolare respinto dal vento si abbatteva all'indietro e si perdeva nella grotta rendendola quasi inabitabile e così non appena gli uccelli furono pronti pencroff spense il fuoco e seppellì la braccia sotto la cenere alle otto nab non era ancora tornato ma si poteva anche pensare che sorpreso dall'uragano avesse cercato rifugio in qualche altro buco roccioso per aspettare la fine del rovescio o almeno il ritorno del sole sempre più impossibile comunque uscire per andargli incontro i tetras arrostiti erano eccellenti e tutti li gustarono volentieri pencroff e harbert poi stanchi della lunga camminata fecero a essi un onore eccezionale finita la cena ognuno si ritirò nel suo cantuccio e harbert fu il primo a cedere al sonno disteso accanto al marinaio davanti al focolare fuori intanto con l'avanzare della notte l'uragano si faceva sempre più violento per fortuna l'ammasso di rocce che proteggeva la grotta era tale da costituire una barriera insormontabile per le fotografiche eppure qualche volta sotto l'impeto delle ventate qualcuno di quei graniti ciclopici pareva perfino che tremasse e pencroff che ogni tanto appoggiava la sua mano sopra la parete della grotta avvertiva come dei brividi misteriosi dominava allora le sue inquietudini pensando che quelle masse rocciose non correvano alcun pericolo anche se sentiva delle pietre staccarsi e rotolare fragorosamente sulla spiaggia due volte il marinaio si alzò e venne fino all'apertura della grotta a guardare lo spettacolo pauroso dell'uragano e tutte e due le volte si rassicurò e tornò a distendersi tranquillo davanti al focolare nonostante il fragore orrendo della bufera harbert dormiva profondamente e anche pencroff finì per lasciarsi prendere dal sonno soltanto spilett restava sveglio tormentato dall'inquietitudine egli si pentiva di non aver accompagnato nab sperava ancora i presentimenti che avevano agitato il giovinetto erano ora passati nel suo cuore ma perché mai nab non era tornato e si voltava e si rivoltava nel suo cantuccio sulla sabbia prestando appena appena orecchio alle furie degli elementi frattanto i suoi occhi appesantiti dalla fatica si chiudevano ma poi qualche improvviso pensiero chiede riapriva potevano essere le due del mattino quando pencroff si sentì svegliato bruscamente il giornalista era curvo su di lui e gli diceva pencroff ascoltate ascoltate il marinaio ascoltò ma non udì altro che gli urli del vento e rugiti del mare il vento disse no gli sussurrò spilett mi è parso di sentire che cosa i latrati di un cane di un cane esclamò pencroff balzando in piedi emozionato sì dei latrati ma non è possibile nel fracasso della tempesta ascoltate ascoltate il marinaio stette in ascolto e difatti in un attimo di calma gli parve di udire un latrato avete sentito sì sì è top non può essere che top gridò harbert che si era svegliato e tutti e tre si lanciarono verso l'apertura della grotta la furia del vento era tale che fecero fatica ad uscire finalmente riuscirono sbucare all'aperto ma non poterono restare in piedi che appoggiandosi contro le rocce guardavano ma non potevano parlare il buio era fittissimo mare cielo e terra tutto era fuso in un'eguale tenebra profonda per qualche minuto tutti e tre stettero in ascolto schiacciati dal vento sotto la pioggia accecati da turmini di sabbia poi ancora sentirono quei latrati lontani sì non poteva essere che top ma dove era mai e chi lo accompagnava doveva essere solo perché se nab fosse stato con lui si sarebbe affrettato a correre verso la grotta a un certo punto pencroff strinse una mano del giornalista come per dirgli aspettate e rientrò nella grotta e poco dopo ne uscì con un grosso legno infiammato che buttò nelle tenebre davanti a sé accompagnando il gesto con dei fischi acutissimi a quei fischi i latrati ripresero più vicini sempre più vicini e alla fine un cane piombò in mezzo a loro e corse dentro la grotta pencroff spilett e harbert seguirono buttarono legna secca sul fuoco un'altra fiamma crepitò ed i van poi illuminando l'altro sì era top il magnifico anglo normanno dell'ingegnere velocissimo e gagliardo finissimo di fiuto e resistente ma era solo nell'ingegnere nel nero lo seguivano ma come mai il suo istinto aveva potuto condurlo fino alla grotta che egli non conosceva e in una notte così buia e tempestosa per giunta particolare ancora più misterioso top non appariva né stanco né disfatto e nemmeno insudiciato di moto o di sabbia harbert se lo era preso vicino e lo accarezzava il cane si lasciava fare e fregava il suo muso contro il braccio del ragazzo se si è trovato il cane troveremo anche il padrone affermò il giornalista dio lo voglia esclamò harbert andiamo top ci guiderà questa volta nemmeno pencroff fece la più piccola obiezione l'arrivo di top poteva dare una smentita alle sue pessimistiche congetture andiamo disse con risolutezza coperta con cura la brace il marinaio seguito da harbert ed dal giornalista uscì nella notte dietro il cane che pareva esortare gli uomini ad affrettarsi con i suoi brevi latrati la tempesta aveva allora raggiunto il suo acume la luna che si era fatta in quei giorni non riusciva a filtrare nemmeno un fil di luce attraverso le nuvole arduo era tenere una direzione precisa ed era meglio lasciarsi condurre da top spilet e harbert camminavano dietro il cane il marinaio chiudeva la marcia non si poteva parlare la pioggia non era forte perché veniva polverizzata in aria dall'uragano ma la furia dell'uragano era terribile ma una circostanza si presentò favorevolissima per i tre temerari e cioè il vento soffiando da sud est li spingeva quei turbini di sabbia che se li avessero investiti di fronte non avrebbero permesso loro di procedere li ricevevano nella schiena e in tal modo la loro marcia non era per nulla ostacolata dalla tempesta ed era anzi assai più veloce di quanto non avessero immaginato e sperato d'altro campo un'ardente speranza spronava i loro passi questa volta non andavano più all'avventura essi sentivano con certezza che nab aveva trovato il suo padrone e aveva mandato alla grotta il fedelissimo intelligentissimo top l'unico dubbio angoscioso era se avrebbero trovato ancora vivo l'ingegnere dopo un primo tratto di cammino si fermarono un attimo a riprender fiato contro una parete rocciosa che li proteggeva dall'uragano in quel punto potevano parlare e udirsi harbert aveva pronunciato il nome di cyrus smith e top aveva subito abbaiato come se avesse voluto assicurare i tre compagni che il suo padrone era salvo top top disse harbert tu vuoi dire che il tuo padrone è salvo vero top tornò ad abbaiare come se volesse rispondere all'affannosa domanda del ragazzo fu ripresa la marcia erano le due e mezza del mattino l'alta marea cominciava a farsi sentire e spinta dal vento minacciava di essere fortissima le grandi onde si spaccavano fragorose contro gli scogli come ebbero lasciato la parete rocciosa che li difendeva i tre uomini furono assaliti dalla furia del vento curvi spinti dalla bufera camminavano di buon passo seguendo top rabbrividendo per il freddo acuto che sentivano ma nessuno dei tre si lamentava erano decisi a seguire l'intelligente cane fin dove esso li avrebbe condotti verso le cinque cominciò a balenare la luce del giorno qualche sfumatura grigiastra ruppe le tenebre a oriente poi una linea rossa disegnò vivacemente l'orizzonte mentre a occidente emersero dal buio la costa rocciosa ed il mare alle sei era giorno fatto si vedevano le nuvole correre rapide in alto cacciate dal vento in quel momento pencroff i suoi compagni erano a circa sei miglia dalla grotta camminavano sopra un greto pianeggiante limitato a largo da una linea di rocce semi sommerse dal mare gonfio per l'alta marea dall'altro lato una fila di dune irregolari dava al passaggio un aspetto squallido e triste qua e là due o tre alberi svettavano malinconicamente nel vento rami e fronde tese disperatamente verso occidente più lontano nereggiava la foresta a un certo punto top diede dei segni evidenti di agitazione correva avanti poi tornava verso pencroff agitando la coda ed emettendo dei guaiti ansiosi pareva che volesse stimolarli a far presto ancora più presto guidato dal suo infallibile estinto aveva lasciato la costa e correva verso le dune lo seguirono il luogo era deserto i monticelli sabbiosi si estendevano a perdita d'occhio come una svizzera in miniatura in quel labirinto di collinette microscopiche tutti si sarebbero smarriti ma top andava avanti con sicurezza e li portò davanti una specie di anfrattuosità scavata dentro una duna più alta qui top si fermò e abbaiò forte spilett harbert e pencroff entrarono nella grotta e dentro trovarono nab inginocchiato accanto a un corpo disteso sopra un letto d'erbe era il corpo dell'ingegnere cyrus smith capitolo 8 nab non si mosse il marinaio gli chiese vivo il nero non rispose spilett e pencroff impallidirono harbert congiunse le mani e restò immobile era evidente che il povero nero assorto nel suo dolore non aveva visto i suoi compagni né inteso la domanda del marinaio il giornalista si inginocchiò accanto al corpo dell'ingegnere e gli posò l'orecchio sul petto trascorse un minuto che parve un secolo alla fine spilett si raddrizzò e disse vive anche pencroff si inginocchiò accanto all'immobile corpo di smith anche il suo orecchio avvertì qualche battito lieve e un sottile soffio che uscì dalle labbra chiuse dell'ingegnere a un cenno del marinaio harbert si precipitò fuori per cercare dell'acqua a cento passi dalla duna trovò un ruscello d'acqua limpida e pura non avendo nulla con cui raccogliere un poco di quell'acqua si limitò a immergervi il suo fazzoletto e poi tornò di corsa alla duna ma quel fazzoletto inzuppata d'acqua bastò spilett lo appoggiò contro le labbra dell'ingegnere e quelle molecole d'acqua fresca operarono subito il miracolo un lungo sospiro sfuggì dal petto dell'ingegnere e le sue labbra si mossero come se pronunciassero qualche parola lo salveremo fece il giornalista nab a quelle parole aveva ripreso animo svestì cautamente il suo padrone per vedere se avesse riportato qualche ferita ma né il torso né la testa né le membra portavano il segno di contusioni e nemmeno di escoriature e il fatto era veramente miracoloso perché il corpo di smith aveva dovuto rotolare sulla costa in mezzo alle rocce perfino le mani erano intatte e non si riusciva a capire come mai l'ingegnere non recasse i segni degli sforzi disperati che aveva dovuto compiere per raggiungere la linea degli scogli ma la spiegazione di questo mistero doveva venire più tardi quando l'ingegnere avesse saputo parlare avrebbe raccontato tutte le sue vicende per il momento si trattava di richiamarlo in vita e lo si sarebbe più agevolmente ottenuto con delle energiche frizioni il che fu subito fatto con fulmineo profitto riscaldato da quel massaggio infatti l'ingegnere mosse un poco le braccia respirò più regolarmente era estenuato di stanchezza e di debolezza e certamente senza l'arrivo tempestivo dei suoi compagni non si sarebbe risvegliato mai più l'avevi creduto morto il tuo padrone vero chiese il marinaio a nab si morto e se top non vi avesse trovati io avrei seppellito il mio padrone e sarei morto accanto a lui ecco a che cosa si doveva la vita di cyrus smith nab raccontò poi le sue vicende dopo aver lasciato la grotta era risalito lungo la costa in direzione nord e cercato a lungo sulla spiaggia qualche piccolo indizio che lo mettesse sulla buona strada aveva scrutato soprattutto quella parte di spiaggia che l'alta marea non copriva perché altrove il flusso e il riflusso dovevano aver cancellato ogni traccia sulla sabbia nab non sperava ormai più di trovare il suo padrone vivo ma andava alla ricerca del cadavere del suo adorato padrone perché voleva seppellirlo con le sue mani dopo lunghe e vane ricerche lasciata quella costa si era spinto ancora verso nord pensando che forse la corrente poteva aver spinto al corpo più lontano per altre due miglia raccontò il nero risali la costa visitai uno per uno tutti gli scogli emersi per la bassa marea e già disperavo di trovare qualcosa quando verso le 5 di sera vidi l'impronte di un passo impronte di un passo sì e quelle impronte cominciavano proprio alla fila di scogli no cominciavano al limite della marea perché da questo limite agli scogli dovevano essere state cancellate continua nab lo stimolò spilett quando vidi quelle impronte mi parve di impazzire erano riconoscibilissime e si dirigevano verso le dune le seguì per un quarto di miglio correndo ma attentissimo a non perderle cinque minuti dopo quando già scendeva la notte sentì il latrato di un cane era top e fu top che mi guidò qui dentro questa specie di grotta accanto al mio padrone nab finì descrivendo il suo dolore trovando il corpo inanimato dell'ingegnere aveva cercato di sentire in quel corpo un segno di vita ma tutti i suoi sforzi erano stati inutili e si era persuaso che non gli restava ormai più che rendere gli estremi onori a colui che egli aveva adorato poi aveva pensato i suoi compagni c'era top non ci si poteva forse fidare dell'intelligenza e dell'istinto di quel bravo animale nab disse allora voce forte due o tre volte il nome del giornalista come quello dei compagni di smith che l'ingegnere conosceva da maggior tempo quindi gli mostrò la direzione da prendere e il cane subito si lanciò abbaiando verso il sud i compagni di nab avevano ascoltato il suo racconto con intensa attenzione ma c'era qualcosa che non ci si riusciva a spiegare e cioè come mai l'ingegnere dopo gli sforzi che aveva dovuto fare per sfuggire al mare traversando la scogliera non avesse la più piccola graffiatura addosso e altrettanto misterioso come fosse riuscito a raggiungere nelle condizioni nelle quali si trovava quella grotta scavata nelle dune non sei stato tu chiese il giornalista nab a portare il corpo dell'ingegnere fino a qui no no bisogna concludere che l'ingegnere ci è arrivato da solo sì bisogna concludere così ammise spilett ma è incredibile la spiegazione del mistero non la si sarebbe potuto avere che dalla bocca dello stesso ingegnere bisognava allora attendere che potesse parlare per fortuna però la vita rifluiva in cyrus smith rapidamente il massaggio aveva ristabilito la circolazione nel sangue l'ingegnere tornò a muovere le braccia poi la testa poi qualche incerta parola sfuggì dalle sue labbra nab curvo su di lui lo chiamava ma l'ingegnere pareva non lo sentisse i suoi occhi si mantenevano ostinatamente chiusi evidentemente i sensi non si erano ancora risvegliati in lui pencroff si rammaricava di non poter fare un po di fuoco avesse almeno portato un pezzettino del suo fazzoletto bruciacchiato avrebbe potuto facilmente ottenere del fuoco battendo una contro l'altra due pietra accanto a quella specie di miccia quanto alle tasche dell'ingegnere erano assolutamente vuote tranne quella del suo panciotto che conteneva l'orologio bisognava trasportare subito l'ingegnere alla grotta e tutti furono dello stesso avviso intanto però le cure prodigate a cyrus smith dovevano restituirlo alla vita più rapidamente di quanto nessuno sperasse l'acqua con cui gli si umettavano le labbra lo rianimava poco a poco pencroff ebbe a un certo punto l'idea di mescolare a quell'acqua un po di sugo della carne di tetras che egli si era portato con sé harbert corse alla spiaggia e ne portò due grandi conchiglie che aveva riempito d'acqua dolce al ruscello pencroff vi stemperò il sugo e quel liquido denso e scuro venne introdotto cautamente nella bocca di smith che parve berlo con avidità allora aprì gli occhi nab e il giornalista erano curvi su di lui padrone padrone mormorò il nero l'ingegnere l'audì riconobbe nab e spilett poi il marinaio e harbert e alzata faticosamente la mano strinse le loro mani a una una mollemente e infine qualche parola sfuggì dalle sue labbra parole che evidentemente aveva già dovuto pronunciare e che indicavano quali pensieri tormettavano loro il suo spirito questa volta tutte le intesero le compresero isola o continente aveva sussurrato esclamò pencroff noi ce ne infischiamo signore ingegnere dal momento che siete vivo isola o continente lo vedremo dopo l'ingegnere fece un debole cenno di assenso e parva addormentarsi rispettarono quel sonno e il giornalista dispose subito perché lo si potesse trasportare senza indugio alla grotta nelle condizioni migliori nab pencroff e harbert si diressero verso una duna vicina alla sommità della quale sorgevano alcuni alberi magri andando il marinaio ripeteva fra sé le parole mormorate dall'ingegnere isola o continente pensare a queste cose quando non sia più che un poco di spirito che sorta d'uomo giunti sulla duna i tre senz'altro utensile che le loro braccia strapparono i rami maggiori di uno di quegli alberi e con quei rami formarono una specie di barella coperta di foglie e di erbe e dopo tre quarti d'ora verso le dieci erano di ritorno in quel momento cyrus smith si risvegliava e si guardava intorno le sue guance avevano ripreso un po di colore riuscì a sollevarsi sul gomito cyrus gli chiese spilett potete ascoltarmi senza fatica sì io credo che il signore ingegnere vi sentirà anche meglio intervenne pencroff se riassaggia ancora un poco di questa specie di brodo freddo e offrì a smith l'acqua nella quale era stato sciolto il sugo di tetras e dove il marinaio aveva mescolato questa volta anche qualche pezzettino di carne cyrus smith masticò quei bocconi di carne lentamente mentre gli altri si dividevano i resti di quella poca carne che giudiziosamente pencroff aveva portato con sé la colazione è magra osservò il marinaio ma ci aspetto una colazione migliore nella nostra grotta signor cyrus dovete sapere che laggiù verso sud noi abbiamo una casa con delle stanze dei letti e un focolare e nella dispensa qualche dozzina di uova di colombi di roccia e degli uccelli che il nostro harbert chiama cucurus la barella è pronta e quando ve la sentite noi siamo qui per portarvi a casa grazie amico mio gli rispose l'ingegnere ancora un'ora due e potremo partire intanto ditemi spilett il giornalista fece allora il racconto di tutto quello che era avvenuto dalla caduta del pallone fino alla disperazione di nab alla sua partenza dalla grotta alla comparsa di top ma chiese perplesso l'ingegnere non siete stati voi a portarmi qui no a che distanza è questa grotta dalle scogliere a circa un mezzo miglio disse pencroff e se vi meravigliate voi anche noi siamo stupiti e non poco già mormorò cyrus smith che si era ripreso notevolmente la cosa è veramente singolare non potete dirci che cosa vi è successo dopo quel colpo di mare che vi strappò dalla navicella cyrus smith si concentrò per ricordare ma sapeva ben poco strappato via dal pallone era affondato in mare tornato a galla aveva sentito qualcosa girarsi accanto a lui era il suo fedele top lanciatosi in acqua per soccorrerlo alzando gli occhi non aveva più visto il pallone che alleggerito del suo peso era balzato in alto con la velocità di una freccia vistosi in mare a una distanza di un buon mezzo miglio dalla costa tentò di nuotare con energia aiutato da top che lo per la giacca coi denti poi una fortissima corrente lo prese e lo trascinò verso il nord dopo una mezz'ora di sforzi si era abbandonato insieme con top alle onde e e da quel momento non ricordava più niente eppure bisogna bene che siate stato gettato sulla costa osservò pencroff e bisogna che abbiate avuto la forza di trascinarvi sin qui dal momento che nab vi ha trovato già bisogna pure disse pensoso cyrus ma non avete visto impronte di passi sulla sabbia nessuna gli rispose spilett ma d'altro canto se ci fosse un salvatore perché mai vi avrebbe abbandonato poi solo in questa grotta anche questo è giusto spilett nab aggiunse l'ingegnere volgendosi verso il suo fedelissimo nero non sei stato tu a magari durante un momento di abbandono di incoscienza ma no è assurdo ci sono ancora delle impronte sulla sabbia sì padrone lo assicurò nab proprio contro questa duna sul rovescio in un punto riparato dal vento dal mare le altre sono state cancellate dal mare pencroff pregò l'ingegnere usatemi la cortesia di prendere una delle mie scarpe di controllare se vanno bene in quelle impronte pencroff e arbert guidati dal nero uscirono a eseguire quel controllo mentre cyrus smith diceva al giornalista ci sono delle cose misteriose veramente misteriose per adesso lasciamo le stare cercheremo di spiegarle più tardi pochi minuti dopo pencroff rientrava nella grotta non c'era possibilità di dubbio le scarpe dell'ingegnere si adattavano esattamente a quelle impronte segno evidente che era stato lo stesso ingegnere a lasciarvele e va bene concluse cyrus quegli attimi di incoscienza che io volevo mettere in conto a nab li ho avuti io avrò camminato come un sonnambulo senza aver coscienza di quello che facevo e sarà stato top nel suo istinto a guidarmi in questo sicuro rifugio top vieni qua vieni top il magnifico animale balzò verso il suo padrone abbagliando e cercando di lambirgli il viso teneramente in realtà non c'era altro modo per spiegare la cosa verso mezzogiorno cyrus smith con uno sforzo energico della sua volontà si alzò in piedi ma dovette appoggiarsi al marinaio per non cadere venne recata la barella cyrus smith vi si stese e pencroff e nab reggendo il carico prezioso tutti si misero in cammino verso la grotta c'erano otto miglia da fare ma non si poteva andare in fretta sarebbe stato necessario sostare ogni tanto era insomma necessario contare sopra sei ore di cammino per arrivare alla meta il vento era sempre violento ma non pioveva più lungo la strada l'ingegnere appoggiato al gomito osservava la costa e quella terra ignota non parlava ma scrutava con attenzione terra foresta sabbia roccia poi dopo due ore la stanchezza ebbe su di lui il sopravvento e si addormentò profondamente alle cinque e mezzo la comitiva arrivò presso la grotta tutti si fermarono la barella fu deposta sulla sabbia cyrus smith dormiva sempre pencroff con suo sommo stupore intanto si guardava intorno la spaventosa tempesta aveva cambiato la faccia al luogo nuovi ammassamenti di rocce si erano formati e il mare doveva essere giunto con le sue ondate furenti fino a lì perché tutto appariva sconvolto caoticamente davanti all'ingresso della grotta poi il terreno era addirittura scavato sconquassato irriconoscibile il marinaio ebbe come un presentimento drammatico e si precipitò nella grotta quasi subito ne usciva e sostava immobile le braccia penzoloni guardando angosciato i suoi compagni il fuoco era spento le ceneri ridotte a fanghiglia la striscia di fazzoletto bruciacchiata scomparsa il mare aveva fatto eruzione fino in fondo alla grotta e vi aveva tutto distrutto capitolo 9 quando spilett harbert e nab seppero dell'accaduto non si turbarono come pencroff avrebbe creduto per lui il disastro era gravissimo ma nab felice di aver ritrovato e sano e salvo il suo padrone non lo ascoltò nemmeno e spilett disse al marinaio vi assicuro pencroff che non me ne importa proprio un granché ma lo sapete che non abbiamo più fuoco e neanche un mezzo per accenderlo pazienza ma signor spilett non è qui con noi cyrus smith non è qui vivo e sano e allora state sicuro che troverà bene il modo di procurarci del fuoco con che cosa con niente che cosa poteva rispondere pencroff niente perché in fondo divideva egli pure la fiducia dei compagni nell'ingegnere per loro l'ingegnere era un piccolo mondo un concentrato di tutta la scienza e di tutta l'intelligenza umana trovarsi in un'isola deserta con cyrus smith era come trovarsi in una grande città americana senza di lui con lui non sarebbe mancato niente con lui era inutile di sperare se fossero venuti a dire a quei naufraghi che un'eruzione vulcanica stava per distruggere quella terra che quella terra stava per sprofondare negli abissi dell'oceano essi avrebbero tranquillamente risposto c'è qui cyrus andate a dirlo a lui intanto però l'ingegnere dormiva profondamente in preda una prostrazione provocata dai disagi di quel lungo trasporto e non si poteva ricorrere a lui la cena allora doveva necessariamente essere fredda e magra finita la carne di tetras portati via dal mare curucus non c'era che rinviare a migliore occasione il pranzo così prima di tutto venne portato l'ingegnere dentro la grotta nel punto meglio riparato e disteso sopra una cuccietta di alghe secche la notte era scesa e con la notte un freddo acuto che penetrando per le fessure della grotta sconvolta dai marosi tormentava i naufraghi anche l'ingegnere si sarebbe trovato assai male se i suoi compagni levatisi le giacche non l'avessero sollecitamente coperto per tutta cena quella sera ci si dovette accontentare dei soliti litodomi abbondantemente raccolti sulla spiaggia da harbert e da nab ma harbert ai molluschi aggiunse una certa quantità di alghe commestibili che aveva trovato sopra alcune alte scogliere erano alghe gelatinose assai ricche di elementi nutritivi il giornalista i suoi compagni le gustarono dopo i molluschi e le trovarono abbastanza buone è proprio tempo osservò il marinaio che l'ingegnere venga in nostro aiuto nel frattempo il freddo si era fatto pungente e non c'era alcun mezzo per difendersene il marinaio cercò tutti i modi possibili per accendere un fuoco e nab l'aiutò del suo meglio aveva trovato delle erbe secche e sfregando energicamente due pietre riuscì a ottenere delle scintille ma le erbe secche non erano sufficientemente infiammabili e non si accesero insomma quel procedimento fallì pencroff tentò allora di fregare due pezzi di legno all'usanza dei selvaggi certo i movimenti che nab e il marinaio impressero i due legni se non bastarono produrre il fuoco sarebbero bastati a far bollire un'intera caldaia ma quanto a fuoco il risultato fu nulla i due pezzi di legno si scaldarono i due operatori ancora di più e questo fu tutto dopo un'ora di quell'erculea fatica pencroff tutto bagnato di sudore buttò via i due legni e brontolò quando verranno a dirmi che i selvaggi accendono il fuoco in questa maniera farà caldo anche d'inverno accenderei piuttosto le mie braccia fregandole l'una contro l'altra il marinaio sbagliava nel negare l'efficacia di quel procedimento i selvaggi ottengono veramente il fuoco ma i loro movimenti sono rapidissimi e poi non tutte le qualità di legno servono allo scopo e infine c'è il colpo ossia il gesto preciso ed è probabile che pencroff non l'avesse comunque il cattivo umore del marinaio non fu di lunga durata i due pezzi di legno buttati via da lui erano stati raccolti da harbert che si era accinto vigorosamente all'impresa frega frega figliolo lo esortò ridendo pencroff si frego ma non ho altro scopo che di riscaldarmi un poco e presto avrò caldo come te pencroff e difatti fu così quanto al fuoco bisogna rinunciarvi per quella notte spilett ripete per la ventesima volta che al fuoco avrebbe senz'altro provveduto l'ingegnere e in attesa si stese sulla sabbia in un angolo della grotta e ben presto tutti lo imitarono top dormiva accucciato ai piedi del suo padrone l'indomani 28 marzo svegliandosi che erano le 8 del mattino cyrus smith si vide intorno ai suoi compagni che aspettavano il suo risveglio e subito chiese isola o continente era come si vede la sua idea fissa signor cyrus gli rispose pencroff non ne sappiamo proprio nulla non lo sapete ancora oh ma lo sapremo presto aggiunse il marinaio basterà che voi ci guidiate un poco per questo paese credo che sarò in condizioni di farlo disse l'ingegnere alzandosi e tenendosi dritto in piedi senza troppo sforzo ecco una bella cosa esclamò pencroff piuttosto aggiunse cyrus smith sento che sto per morire di fame amici miei un po di cibo per piacere penso che avrete un po di fuoco a queste parole fece seguito un desolato silenzio di tutti poi il marinaio sospirando disse ahimè signor cyrus non abbiamo neanche un po di fuoco o meglio non ne abbiamo più e gli raccontò quello che era accaduto il giorno prima divertendo l'ingegnere con la storia dell'unico zolfanello e dei suoi disperati evani tentativi per procurare del fuoco secondo l'uso dei selvaggi beh vedremo fece l'ingegnere se non potremo procurarci qualche cosa che assomiglia a un esca allora allora fabbriccheremo degli zolfanelli chimici chimici facilissimo come vedete intervenne spilett battendo una mano sulla spalla di pencroff quanto a pencroff non era dello stesso parere circa la facilità di quella fabbricazione ma non disse verbo e tutti uscirono il tempo si era fatto bello un sole fulgente brillava sul mare e metteva iridescenze dorate sopra la muraglia di granito dopo aver guardato in giro per un poco l'ingegnere si sedette sopra un sasso harbert gli offrì una manciata di litodomo e di alghe non abbiamo altro signor cyrus oh grazie ragazzo mio basterà almeno per questa mattina e mangiò con appetito quei magri cibi che annaffiò con l'acqua fresca e pura tratta dal fiume in una conchiglia intorno a lui i suoi compagni lo guardavano in silenzio e cyrus rifocillatosi cominciò allora amici miei non sapete ancora se il destino ci ha buttati sopra un'isola o un continente no lo sapremo domani e fino ad allora non abbiamo niente da fare oh sì fece pencroff e che cosa del fuoco ne faremo pencroff ma a proposito mentre ieri mi trasportavate mi è parso di vedere verso occidente una montagna che domina tutta questa zona o mi inganno no no la montagna c'è lo assicurò spilett e deve essere abbastanza alta bene domani saliremo sulla sua cima e vedremo se siamo sopra un'isola o sopra un continente fino a quel momento non possiamo fare nulla del fuoco signore ingegnere ripete l'ostinato marinaio ma sì ma sì ci sarà anche il fuoco intervenne spilett un po di pazienza pencroff il marinaio guardò spilett con aria di rimprovero come se volesse dirgli se non ci foste che voi qui addio speranza di gustare mai dell'arrosto ma non gli disse nulla cyrus smith non aveva detto una parola pareva preoccupatissimo di questa faccenda del fuoco ma dopo qualche secondo di riflessione disse amici miei la nostra situazione è proprio miserrima ma a questo di buono che è semplicissima o siamo sopra un continente e allora a costo di fatica è più o meno dure arriveremo a qualche luogo abitato o siamo sopra un'isola e in questo caso due sono le ipotesi o essa è abitata e cercheremo di sistemarci coi suoi abitanti o essa è disabitata e ce la caveremo da soli sì più semplice di così fece pencroff ma isolo continente chiese spilett dove pensate mai che l'uragano ci abbia gettati con precisione non saprei dirvi presumo sopra una terra del pacifico di fatti quando abbiamo lasciato richmond il vento soffiava da nord est e la sua stessa violenza ci dimostra che non ha dovuto subire delle variazioni di direzione se la sua direzione si è dunque mantenuta da nord est a sud ovest noi abbiamo attraversato gli stati della carolina del nord e del sud della georgia il golfo del messico il messico e quindi una porzione del pacifico credo che il percorso coperto dal pallone non sia stato inferiore alle 6 o 7 miglia e per poco che il vento abbia variato d'un mezzo quarto ha dovuto portarci sull'arcipelago di mendana o sulle pomutù oppure se soffiava con una velocità maggiore di quanto io pensi anche sulle coste della nuova zelanda se quest'ultima ipotesi fosse la vera il nostro rimpatrio sarebbe facilissimo inglesi o maori troveremo sempre qualcuno con cui parlare se viceversa questa costa appartiene a qualche isola deserta di qualche arcipelago della micronesia potremmo vederlo dall'alto della montagna domani e allora studieremo di sistemarci qui come se non dovessimo andarcene mai più mai più esclamò spilett e siete voi che ci dite mai più meglio sempre prevedere il peggio e serbare soltanto la sorpresa del meglio ha ragione intervenne pencroff ha ragione il signore ingegnere bisogna poi anche sperare che quest'isola se è un'isola non sia proprio all'infuori delle rotte delle navi ma non sapremo mai niente di preciso fino a quando non avremo fatto la salita di quella montagna amici miei domani intervenne pensoso ed esitante arbert domani vi sentirete poi in condizione di poter affrontare un'escursione come quella io lo spero gli rispose l'ingegnere ma una condizione che pencroff e te vi dimostriate dei bravi cacciatori signor cyrus gli rispose pronto il marinaio dal momento che ci parlate di selvaggina io vi dirò che se avessi la certezza di poterla far arrostire al mio ritorno come ho la certezza di portarvela qui grotta allora state tranquillo beh e voi portate la pencroff fu così deciso che cyrus e spilett sarebbero rimasti alla grotta per esaminare la costa e salire fino all'altopiano mentre nab pencroff e arbert sarebbero andati a compiere un lungo giro nella foresta per far provvista di legna e dar addosso a tutta quella selvaggina di piuma o di pelo che avessero potuto trovare verso le dieci del mattino partirono arbert tutto fiducioso nab felice e pencroff mormorante tra sé e sé se quando torno trovo del fuoco è segno che è sceso un fulmine ad accenderlo poi chiese ai suoi due compagni che facciamo prima i cacciatori o i legnaioli facciamo i cacciatori gli rispose arbert vedo top che punta già e allora andiamo a caccia al ritorno passeremo di qui e faremo la provvista di legna strapparono tre grossi rami a un albero e seguirono top che andava correndo fra le alte erbe ma invece di seguire la sponda del fiume questa volta pencroff si diresse direttamente verso il cuore della foresta erano sempre le stesse conifere che qua e là avevano dimensioni gigantesche e parevano quasi indicare che la latitudine di quell'ignota terra fosse più elevata di quanto non supponesse l'ingegnere tratto tratto qualche radura appariva completamente coperta di legna secca e in tanta quantità da formare una riserva di combustibile inesauribile orientarsi in mezzo a quel colonnato di conifere era assai difficile per questo il marinaio segnava la sua strada spezzando dei rami che lasciava penzoloni sugli alberi cosicché sarebbe stato poi facile nel ritorno riconoscere il cammino da seguire ma forse sarebbe stato meglio seguire ancora il corso del fiume perché dopo un'ora buona di cammino non avevano incontrato ombra di selvaggina top correndo fra le erbe non aveva fatto levare che degli uccelli che non si lasciavano avvicinare invisibili erano anche i curucus e pareva ormai fatale che il marinaio si decidesse a tornare in quella parte acquitrinosa della foresta dove il giorno innanzi aveva così fruttuosamente pescato i tetras pencroff mio disse a un certo punto nab se è tutta questa la selvaggina che avete provesso di portare a casa non ci vorrà certo un gran fuoco per arrostirla pazienza nab non sarà certo la selvaggina che mancherà al nostro ritorno non avete fiducia nel signore ingegnere sì ma non credete che potrà fare del fuoco lo crederò quando vedrò la fiamma scoppiettare sul fuocolare la vedrete dal momento che il mio padrone ve lo ha assicurato staremo a vedere continuarono il cammino e arbert trovò un albero dai frutti commestibili era un pino carico di pignoli piccole mandorle speciali in perfetto stato di maturità ne raccolsero moltissime e pencroff riavvivandosi osservò ecco qua delle alghe come pane dei molluschi come carne e dei pinoli come frutta il pranzo tipico di chi non possiede nemmeno un fiammifero non lamentiamoci pencroff l'uomo nì arbert non mi lamento figlio mio osservo soltanto che la carne è un po poco rappresentata in questa lista top ha visto qualcosa gridò nab correndo verso un folto dove il cane si era lanciato abbaiando ai suoi latrati si mescolavano degli strani grugniti pencroff e arbert avevano seguito nab se c'era qualche capo di selvaggina non era il momento di stare a discutere sul modo di farla cuocere bisognava prima di tutto prenderla appena entrati in quel folto videro top alle prese con una bestia che aveva ghermito per un orecchio era una specie di piccolo porco lungo meno di un metro nerastro dal pelo duro e rado che si teneva disperatamente aggrappato a terra con le sue zampe membranose arbert riconobbe subito in quell'animale un grosso roditore esso invece di lottare contro il cane se ne stava immobile guardando con gli occhietti terrorizzati tre uomini che forse gli erano uno spettacolo nuovissimo nab armato del suo bastone stava per colpirlo quando l'animale si svincolò dalla stretta di top lasciandogli un pezzo d'orecchio in bocca gettò un minaccioso grugnito e si buttò contro arbert rovesciandolo a mezzo a terra e sparendo poi nel folto della foresta ah il manigoldo gridò pencroff tutti e tre si lanciarono sulle peste di top e già stavano per raggiungerlo quando il cane si buttò dentro un vasto acquitrino steso all'ombra dei pini secolari nab herbert e pencroff si fermarono a guardare top nuotava e cercava il roditore che si era accucciato sul fondo dello stagno e non compariva dovrà pure tornare la superficie respirare disse arbert non si annegherà chiese nab no è quasi un anfibio stiamo attenti mentre top nuotava in mezzo allo stagno pencroff e arbert andarono a collocarsi sulle rive in modo da chiudere ogni via di ritirata al roditore harbert del resto non si era ingannato dopo qualche minuto all'animale riaffiorò alla superficie top con un balzo gli fu addosso impedendogli di rituffarsi e trascinandolo verso la riva dove nab lo finiva con una randellata precisa evviva esclamò pencroff datemi dei carboni ardenti e vi preparerò un arrosto succulento col roditore sulle spalle nab si avviò seguito dai suoi due compagni per la strada del ritorno dall'altezza del sole giudicarono che dovessero essere le due del pomeriggio a ritrovare la strada del ritorno nel folto della foresta li aiutò assai l'istinto dell'intelligente top mezz'ora dopo infatti erano in vista della grotta e allora pencroff si fermò stette un attimo silenzioso poi tendendo la mano verso la grotta gridò evviva evviva guardate guardate una colonna di fumo saliva su dalla grotta e si perdeva in lente volute nel cielo capitolo 10 qualche minuto dopo i tre cacciatori si trovavano davanti a una bella fiammata accanto alla quale sedevano l'ingegnere e il giornalista pencroff reggendo la sua preda li guardava in silenzio ebbene sì caro mio gli disse il giornalista questo è fuoco un autentico fuoco che arrostirà questo magnifico capo di selvaggina al quale faremo tutti onore ma ma chi l'ha acceso domandò pencroff il sole questa risposta di spilett era esatta era stato il sole a fornire quel calore che stupiva pencroff e pencroff era talmente stupito che non pensava nemmeno di interrogare l'ingegnere fu harbert che gli domandò ma avete una lente signor cyrus no ragazzo mio gli rispose smith me ne sono fabbricata una e mostrò l'apparecchio che gli aveva servito da lente non era altro che l'unione di due vetri di orologio tratti dal suo e da quello del giornalista aveva riempito la cavità fra i due vetri di acqua e reso i loro orli aderenti per mezzo di un poco d'argilla e si era fabbricato così una vera e propria lente concentrando i raggi del sole sopra dell'erba molto secca l'aveva incendiata il marinaio guardò l'apparecchio poi l'ingegnere e non disse parola ma il suo sguardo parlava ed eloquentemente per lui se cyrus smith non era un dio era certamente qualcosa di più che un uomo finalmente parlò e disse notate notate questo miracolo sul vostro taccuino signor spilett poco dopo il roditore crogiolava sul fuoco la grotta era stata resa assai più abitabile erano state turate tutte le falle e le incrinature fra parete e parete e il fuoco diffondeva dappertutto un gradevole calore l'ingegnere spilett avevano bene impiegato la loro giornata insomma ormai cyrus aveva completamente recuperato le sue forze e si era anzi spinto sino sopra la muraglia di granito e di lassù aveva a lungo contemplato con occhi esperto la montagna che si proponeva di scalare l'indomani essa si trovava circa 6 miglia di distanza verso il sud che doveva essere alta circa 1500 metri di conseguenza l'ingegnere calcolò che da quella vetta si sarebbe potuto spaziare con l'occhio per un raggio di circa 50 chilometri era dunque probabile che si sarebbe potuto finalmente risolvere il problema di isola o continente che per cyrus era il più assillante quella sera si cenò di gusto la carne del roditore fu dichiarata eccellente le alghe e i pignoli completarono convenientemente la cena durante la quale per altro l'ingegnere parlò pochissimo preso com'era dai progetti per l'indomani due o tre volte pencroff espose delle idee su quello che secondo lui sarebbe stato conveniente fare ma cyrus smith che era uno spirito metodico si accontentò di scuotere la testa domani affermò sapremo dove siamo e potremo decidere sul da farsi finita la cena altre bracciate di erbe secche di legna furono gettate sul fuoco e tutti gli ospiti della grotta top compreso si addormentarono tranquillamente fu una notte senza incidenti e l'indomani 29 marzo tutti si svegliarono freschi e riposati pronti a intraprendere quell'escursione che doveva decidere della loro sorte tutto era pronto per la partenza i resti del roditore potevano bastare per tutti per altre 24 ore e d'altra parte c'era la fondata speranza di poter catturare altra selvaggina durante il viaggio furono rimessi al loro posto i due vetri dei due orologi e pencroff abbrucciò un altro spicchio del suo fazzoletto perché servisse da esca come a cerino avrebbero certamente trovato delle selci su quel terreno vulcanico alle sette e mezza del mattino armati di nodosi randelli i viaggiatori si mettevano in cammino lungo la foresta che pareva la strada più diretta per arrivare alla montagna e seguendo per un buon tratto la sponda sinistra del fiume fu ritrovato il sentiero nel folto già aperto da pencroff nei suoi precedenti viaggi alle nove erano giunti al limite occidentale della foresta qui il terreno da acquitrinoso prima si era fatto secco e sabbioso e già in leggera pendenza che saliva verso l'interno del paese sotto gli alberi si erano incontrati degli animali che erano fuggiti via velocissimi all'avvicinarsi della comitiva top li faceva schizzar via dai loro rifugi e avrebbe voluto inseguirli ma l'ingegnere richiamava il cane con un fischio non era ancora il momento di pensare alla caccia più tardi se mai Cyrus non era uomo da lasciarsi smuovere dalla sua idea fissa probabilmente anzi non guardava nemmeno il paesaggio il suo solo obiettivo era la montagna che voleva a tutti i costi scalare e verso la quale puntava in linea diretta alle 10 fecero un alt di qualche minuto usciti dalla foresta tutto il sistema orografico della zona apparva ai loro occhi la montagna si componeva di due coni il primo tronco all'altezza di circa 800 metri appoggiava su due decapricciosi contrafforti che parevano ramificarsi come le diverse unie di un solo artiglio piantato sul terreno fra questi contrafforti si aprivano delle valli strette profonde irte di alberi altissimi verso nord est però il dorso del monte si faceva più brullo e vi si sgorgevano delle zebrature che dovevano essere colata di lava solidificata su questo primo cono salzava un secondo cono leggermente arrotondato sulla cima e che era piantato un poco di traverso come un cappello messo di sgimbescio e che era formato di terra arida seminata di rocce rossastre bisognava salire sulla sommità di questo secondo cono e la cresta dei contrafforti pareva la strada migliore per arrivarci cyrus smith aveva detto ai compagni che quello era un terreno vulcanico ed essi seguendolo cominciarono a inerpicarsi per il dorso di uno di quei contrafforti che con una linea sinuosa e perciò più facilmente accessibile portava alla sommità del primo cono evidenti e numerose erano qua e là le tracce dei sommovimenti vulcanici blocchi erratici detritti basaltici pietre pomici ossidiane ogni tanto un ciuffo di conifere sempre più rade durante questa prima parte dell'ascensione harbert fece osservare le impronte di grossi animali fiere od altre che testimoniavano di un passaggio abbastanza recente penso disse pencroff che questi animali non ci cederanno molto volentieri il loro regno in questo caso gli rispose spilett che aveva già cacciato le tigre nelle indie e il leone in africa ce ne sbarazzeremo comunque teniamoci pronti a ogni attacco intanto si saliva poco a poco il cammino allungato da volte e giravolte necessarie per i molti ostacoli che si frapponevano a una salita in linea retta era assai lento tratto tratto il terreno mancava all'improvviso e ci si trovava sull'orlo di profondi crepacci che bisognava girare pazientemente a mezzogiorno quando il gruppetto di viaggiatori si fermò per la colazione ai piedi di un grosso ciuffo di abeti accanto a un ruscello che scendeva verso il piano in cascatelle spumeggianti non si era ancora giunti a mezza strada dal primo cono che verosimilmente non sarebbe stato raggiunto che al cadere della notte dal punto dove si trovavano l'orizzonte del mare spaziava assai ma sulla destra il panorama interrotto dal promontorio che si staccava dalla costa non consentiva di spingere gli sguardi più oltre e stabilire se la costa continuasse o se agganciasse a qualche altra terra anche a sinistra del resto gli sguardi dei viaggiatori per quanto avessero davanti a loro un campo visivo di parecchi chilometri era fermato dalla cresta di un contrafforte non si poteva dunque dare una risposta neanche approssimativa alla domanda dell'ingegnere a luna del pomeriggio si rimisero in cammino passando sotto un bosco ceduo si scorsero molti esemplari di fagiani di monte grossi come galli normali e gideon spilett fu così abile e fortunato da batterne uno con una sassata precisa pencroff corsa a raccoglierlo sentendosi venire l'acquolina in bocca usciti dal bosco i viaggiatori attaccarono una ripida scarpata che portava sopra un razzo naturale di natura vulcanica senza alberi e ciuffi d'erbe da qui il cammino si faceva più arduo si trattava di tagliare dei pendii sassosi dove bisognava badar bene a piantare esattamente il piede sopra un punto consistente per evitare di scivolare a valle nab e harbert marciavano in testa pencroff chiudeva la marcia cyrus e spilett camminavano al centro gli animali che frequentavano quella zona e non ne mancavano tracce qua e là dovevano appartenere certamente alla famiglia dei camosci o degli stambecchi se ne vide anzi qualcuno e pencroff esclamò additandoli la la dei montoni si erano tutti fermati a guardare erano una mezza dozzina di esemplari assai grossi dalle piccole corna ricurva all'indietro dal pelo lanoso color fulvo harbert li riconobbe subito per muffloni se ne possono trarre degli arrosti e delle costolette chiese pencroff per bacco e allora sono dei montoni immobili sui sassi quei muffloni guardavano stupiti quei bipedi che vedevano molto probabilmente per la prima volta poi a un tratto presi da chissà quale istintivo terrore si lanciarono in un velocissimo battibaleno arrivederci gridò pencroff con un sospiro così comico che tutti si risero fu ripresa la marcia la natura vulcanica del suolo appariva sempre più evidente tracce di lave che zigzagavano per il dorso del monte piccole solfature che sbarravano tratto tratto il cammino ceneri biancastre luccicanti di migliaia e migliaia di cristalli quando si fu vicini alla sommità del primo cono le difficoltà dell'ascensione si accrebbero ormai erano le 4 del pomeriggio la zona alberata era cessata non restava più che qualche pino isolato che durava certo fatica a resistere ai soffi del freddo vento che veniva dal largo fortunatamente il tempo era bello l'aria tranquilla la serenità perfetta il sole era nascosto dietro lo schermo massiccio del secondo cono la cui ombra gigantesca stendendosi fino giù alla costa dilagava sempre più mano a mano che l'astro radioso scendeva verso l'orizzonte già qualche nebbia violacea cominciava ad apparire verso oriente un dislivello di poco più di 150 metri li divideva dalla sommità del primo cono dove saerus aveva deciso di piantare l'accampamento per quella notte ma quei 150 metri diventarono un cammino di 2 miglia abbondanti per gli innumerevoli zigzag che si resero necessari il terreno mancava sotto i piedi sull'erta ripidissima lastricata di lave sulle quali si scivolava senza che nulla si offrisse come appiglio ai cinque scalatori era quasi notte quando cyrus e i suoi compagni stanchissimi dopo sette ore di marcia sbucavano sul pianoro che segnava la sommità del primo cono non fu difficile trovare fra le rocce che formavano la base del secondo cono un ricovero ben riparato venne raccolto del muschio secco e dell'erba arida pencroff con quelle pietre costruì una specie di focolare fu trovata una selce che per cossa fece sprizzare alcune scintille e la miccia fazzoletto le raccolse poi sotto il soffio di nab le trasformò in fiamma pochi minuti dopo un fuoco vivificatore scoppiettava allegro dentro il rifugio come cena nab servì resti del roditore e qualche dozzina di pinoli il fagiano di monte doveva servire per l'indomani fu allora che cyrus smith ebbe l'idea di andare a riconoscere la base del cono superiore prima di riposare egli voleva accertarsi se quel cono poteva essere girato alla sua base nel caso che il suo dorso si presentasse troppo ripido per una scalata in linea retta lo tormentava il dubbio che il pianoro sul quale si trovavano fosse impraticabile dal lato opposto e che il fianco del secondo cono fosse così impervio da non poterlo assolutamente scalare nella quale eventualità bisognava rinunciare definitivamente a raggiungere la sommità della montagna e così non curante della stanchezza mentre pencrofe e nab organizzavano le cucciette d'erbe per la notte e spile tannotava sul suo taccuino la cronaca della giornata partì accompagnato da harbert la notte era bella e tranquilla l'oscurità non ancora profonda i due camminavano l'uno accanto all'altro senza parlare dopo una ventina di minuti di cammino furono costretti a fermarsi il pendio dei due coni era ormai solo un pendio non gli divideva più nemmeno una striscia di terreno e salire su per quell'erta quasi verticale diventava massimo a quell'ora impossibile ma davanti ai due esploratori si spalancava un profondo imbuto scavato nel terreno era il collo del cratere superiore da dove quando il vulcano era in attività sgorgavano i rivoli di lava ora le lave pietrificate le scorie incrostate formavano una specie di scalinata naturale che facilitava l'ascensione della montagna Cyrus s'avvide di quella fortunata disposizione del terreno e senza esitare seguito dal ragazzo si avventurò dentro l'enorme cratere c'era ancora un dislivello di oltre 300 metri da superare ma i pendi interni di quel cratere sarebbero stati praticabili Cyrus continuò il suo cammino fortunatamente quei pendi si facevano sempre più allungati e sinuosi descrivevano un largo passo di vita nell'interno del vulcano e favorivano l'ascensione della montagna ormai il vulcano era spento spento forse da secoli né dalle sue viscere ormai pietrificate uscivano quei sordi boati quei fremiti che sono tipici dei fuochi sotterranei l'atmosfera stessa del vulcano dentro il cratere non era affatto impregnata di vapori solforosi ma purissima il tentativo dell'ingegnere doveva avere successo a poco a poco Herbert e Cyrus salendo lungo le pareti interne del vulcano videro il cratere allargarsi al di sopra delle loro teste e il cielo inquadrato dentro gli orli di quel cratere accogliere man mano che salivano sempre nuove costellazioni le stupende costellazioni di quel cielo australe allo zenith brillava fulgentissima quella dello scorpione poco lontano quella del centauro poi apparve quella del pesce il triangolo australe e finalmente quasi al polo antartico del globo quella scintillante croce del sud che è la stella polare dell'emisfero australe alle otto Cyrus e Herbert mettevano il piede sulla sommità del secondo cono sulla vetta della montagna il buio era fondo a quell'ora e lo sguardo non andava oltre un raggio di due miglia all'intorno il mare circondava quella terra da ogni lato oppure essa si agganciava occidente a qualche altra terra del pacifico non si poteva ancora vedere verso occidente una banda nuvolosa nettamente disegnata all'orizzonte accresceva il buio e l'occhio non sapeva distinguere se il cielo e il mare si confondessero sopra una sola linea circolare ma in un punto dell'orizzonte all'improvviso apparve una debole luce che lentamente scendeva man mano che quella striscia di nuvole saliva verso lo zenith era la falce della luna crescente già prossima al tramonto ma quella sua poca luce rossastra bastò a disegnare con precisione la linea orizzontale allora staccata dalla banda nuvolosa e l'ingegnere poteva vedere per un attimo quell'arco di luna riflettersi sopra una superficie liquida allora prese una mano al ragazzo e gli disse con voce grave è un'isola in quell'attimo il quarto di luna si spegneva calando dietro i flutti del mare capitolo 11 mezz'ora dopo Cyrus e Herbert erano di ritorno all'accampamento e l'ingegnere si limitava a comunicare ai compagni che la terra che li ospitava era un'isola e che l'indomani si sarebbe deciso sul da farsi poi ognuno si accomodò meglio che potè e in quell'affratto roccioso a 800 metri d'altezza nella silenziosa serenità della notte gli isolani dormirono d'un sonno profondo l'indomani 30 marzo dopo una rapida colazione nella quale il fagiano di monte arrostito figurò il primo posto Cyrus volle tornare in cima al vulcano esaminare con attenzione alla luce del sole l'isola che li ospitava vedere se a qualche distanza non si scorgesse qualche terra e se non fosse per avventura lungo la rotta delle navi che visitano gli arcipelaghi del pacifico questa volta però tutti i suoi compagni lo accompagnarono anche essi erano ansiosi di vedere l'isola dove il destino li aveva gettati dovevano essere circa le sette quando partirono nessuno appariva turbato erano pieni di fiducia in loro stessi ma il punto d'appoggio di tal fede non era però lo stesso in Cyrus Smith e nei suoi compagni Cyrus aveva fiducia perché si sentiva pronto a strappare a quella natura selvaggia tutto ciò che sarebbe stato necessario alla vita dei suoi compagni e sua i suoi compagni invece avevano fiducia perché avevano con loro l'ingegnere soprattutto pencroff dopo la faccenda del fuoco non si sarebbe disperato nemmeno se si fosse trovato sopra una roccia ignuda purché l'ingegnere si trovasse con lui siamo usciti da richmond disse il marinaio allegramente senza il permesso delle autorità figuratevi se non riusciremo un giorno ad abbandonare quest'isola dove nessuno ci tratterrà Cyrus seguì la stessa strada della sera prima si girò intorno alla base del secondo cono fino all'orro del grande cratere il tempo era stupendo e il sole non dava dell'oro dei suoi raggi il dorso della montagna si attaccò il cratere le cui pareti interne avevano una pendenza non superiore ai 35 gradi e si potevano perciò scalare assai facilmente e prima delle otto Cyrus e i suoi compagni erano raccolti sulla sommità del monte proprio sopra un cucuzzoletto che sorgeva sull'orlo settentrionale della vetta il mare il mare dappertutto gridarono una voce infatti intorno a loro il mare dilagava scintillante di sole forse Cyrus salendo quella mattina aveva avuto la speranza di scorgere qualche terra all'orizzonte che la sera prima per l'oscurità non aveva potuto vedere ma non appariva nulla fino a dove l'occhio poteva spaziare cioè per un raggio di almeno 100 chilometri né una terra né una vela l'immensità del mare era deserta e la loro isola pareva il centro di un oceano abbandonato immobili e silenziosi Cyrus e i suoi compagni guardarono per qualche minuto il mare fino ai suoi limiti estremi e neppure Pencroff che aveva una vista acutissima non vide nulla assolutamente nulla poi dal mare i loro occhi tornarono sulla loro isola e la prima domanda venne posta da Gideon che chiese quale sarà la grandezza di quest'isola certo in mezzo all'infinito oceano non appariva molto considerevole Cyrus riflette per qualche secondo osservò attentamente al perimetro dell'isola calcolò l'altezza alla quale si trovava poi concluse amici miei credo di non sbagliarmi di molto dando al perimetro della nostra isola una lunghezza di circa 200 chilometri e la superficie allora è difficile calcolarla perché questa terra è troppo capricciosamente conformata secondo Cyrus insomma l'isola aveva pressa poco le proporzioni di malta o zante ma era però assai più irregolare e meno ricca di capi di promontori di punte e di baie la sua forma sorprendeva e quando Gideon Spilett lebbe su preghiera di Cyrus disegnata sul suto acquino si trovò che somigliava qualche fantastico animale a una specie di petropodo mostruoso addormentato sulle acque del pacifico la parte orientale della costa quella cioè sulla quale erano approdati i naufraghi si apriva in una vasta baia chiusa sud est da un capo assai acuto e a nord est da un golfo compreso fra altri due capi che circondava la mascella spalancata di qualche gigantesco squalo da nord est a nord ovest la costa si arrotondava come la volta cranica di una fiera poi si gonfiava in una specie di gibbosità da dove il litorale continuava abbastanza regolarmente in direzione nord sud fino a un piccolo seno di cui si allungava nel mare in una lunga coda simile all'appendice caudale di un formidabile alligatore questa coda era una vera e propria penisola lunga una sessantina di chilometri e conchiudendosi con una vasta rada nel suo punto più stretto e cioè fra la grotta che le aveva ospitati la prima notte il piccolo seno l'isola non misurava più di 20 chilometri di larghezza ma dalla mascella di nord est all'estremità della penisoletta non misurava meno di 60 chilometri di lunghezza nell'interno appariva molto boscosa nella sua parte meridionale arida e sabbiosa verso settentrione fra il vulcano e la costa orientale cyrus e i suoi compagni furono meravigliati di vedere un lago inquadrato dentro una corona di alberi verdi che pareva allo stesso livello del mare ma fatto un rapido calcolo cyrus assicurò i compagni che doveva trovarsi almeno a 100 metri d'altezza sul livello dell'oceano allora sarà un lago d'acqua dolce osservò pencroff certo e penso che sarà alimentato dalle acque che scendono dalla montagna gli rispose l'ingegnere difatti vedo un fiumiciatolo che vi si getta esclamò arbert aditando una striscetta argentea che scendeva giù dai contrafforti montagnosi e finiva nel lago e allora concluse cyrus è probabile che altri corsi d'acqua scarichino il lago nel mare lo vedremo al ritorno questo fiumiciatolo che scendeva dalla montagna e il fiume che i naufraghi già conoscevano vicino alla grotta costituiva l'intero sistema idrografico dell'isola quale appariva ai loro occhi dalla vetta del monte ma era anche probabile che sotto le scure masse degli alberi che facevano di almeno due terzi dell'isola una sola immensa foresta altri ruscelli e corsi d'acqua scorressero verso il mare lo si poteva supporre anche dal fatto che l'isola appariva assai fertile e lussureggiante nella sua parte settentrionale invece nessun indizio di acque correnti forse qualche stagno palude qua e là e poi dune sabbie un'aridità stranamente contrastante col rigoglioso verde che copriva tutta l'altra parte dell'isola il vulcano non si ergeva al centro dell'isola ma nella zona nord occidentale e pareva segnare il confine fra le due zone di essa a sud ovest a sud e a sud est i contrafforti scomparivano subito sotto un mantello di verzura al nord le loro ramificazioni si potevano seguire in nude e aride fino alla sabbia della costa era da questa parte che al tempo delle eruzioni vulcaniche le lave si erano aperte un cammino fino al mare lasciandovi le loro tracce imperiture per oltre un'ora cyrus smith e i suoi compagni stettero la sua a guardare l'isola che si apriva sotto i loro occhi come un nitido alto rilievo ma restava un problema importante da risolvere e la cui soluzione avrebbe decisamente influito sull'avvenire dei naufraghi quell'isola era abitata fu il giornalista a formulare questa domanda alla quale tutti avrebbero sentito di poter rispondere negativamente dopo l'esame fatto da quella cima da nessuna parte in nessun punto appariva la traccia di una vita umana non un agglomerato di case non una capanna non un segno di pesca sulla costa nessun filo di fumo che si innalzasse dai boschi è pur veo che circa 60 chilometri separavano i naufraghi dalle punte estreme dell'isola e sarebbe stato difficile anche per occhi acutissimi come quelli di pencroff scorgere a tanta distanza un'abitazione era anche vero che non si poteva sollevare quel folto sipario di verzura che celava i due terzi dell'isola ma è noto che normalmente gli isolani abitano verso la costa e la costa appariva decisamente deserta insomma fino a quando non si fosse fatta un'esplorazione completa si poteva concludere che l'isola era disabitata ma era almeno frequentata dagli indigeni delle isole vicine difficile rispondere a questa domanda nessuna terra appariva all'orizzonte per un raggio di 100 chilometri ma 100 chilometri sono un percorso facilmente percorribile dalle barche malesi e dalle grandi piroghe polinesiane tutto dipendeva dalla posizione dell'isola insomma dal suo isolamento nel pacifico o dalla sua vicinanza sia pur relativa con qualche arcipelago cyrus sarebbe riuscito un giorno a calcolare esattamente la longitudine e la latitudine era una cosa difficile comunque nell'attesa sarebbe stato prudente prendere certe precauzioni per difendersi da eventuali assalti da parte di indigeni vicini ormai l'isola era stata esplorata sia pur a volo d'uccello la sua configurazione determinata il suo rilievo fatto la sua superficie calcolata la sua idrografia e la sua orografia stabilite sullo schizzo del giornalista era stata segnata in linea generale anche la disposizione delle foreste delle pianure non c'era che tornare al piano ed esplorare il terreno al triplice scopo di identificare le risorse minerali vegetali e animali dell'isola ma prima di dare ai compagni il segno della partenza cyrus disse con la sua voce calma e grave ecco amici il piccolo lembo di terra dove l'onnipotente ha voluto gettarci è qui che noi ci accingiamo a vivere forse per molto tempo forse un soccorso improvviso arriverà fino a qui per esempio una nave ma forse badate bene perché quest'isola è assai poco importante e non offre nemmeno un porto dove una nave possa gettare le sue ancore è anche probabile che essa si trovi all'infuori delle rotte ordinarie dei bastimenti che sia collocata troppo a sud per le navi che visitano gli arcipelaghi del pacifico troppo a nord per quelli che vanno in australia doppiando il capo horn io non voglio nascondervi niente della nostra situazione e avete perfettamente ragione caro cyrus gli rispose vivacemente spilett siamo tutti degli uomini abbiamo tutti piena fiducia in voi e voi potete contare su di noi non è vero amici io vi obbedirò in tutto e per tutto signor smith pronunciò con fervore harbert prendendo una mano dell'ingegnere siete il mio padrone e sempre dovunque esclamò nab e io che possa perdere il mio nome se mancherò il mio dovere per mille diavoli se voi lo volete noi faremo di quest'isola una piccola america vi costruiremo delle città vi getteremo delle ferrovie vi pianteremo delle linee telegrafiche e un giorno quando sarà ben coltivata civilizzata attrezzata andremo offrirla in dono all'unione però mi occorre una cosa e cioè mi occorre che nessuno più parli di naufragio noi siamo dei coloni venuti qui per colonizzare cyrus smith sorrise e la mozione del marinaio venne approvata da tutti poi l'ingegnere ringraziò i compagni della fiducia che avevano in lui e li assicurò che con l'aiuto della provvidenza e col concorso dei suoi compagni avrebbero vinto ogni avversità e adesso torniamo alla nostra grotta gridò pencroff un momento amici fece l'ingegnere direi che prima dobbiamo dare un nome a quest'isola ai suoi capi ai suoi promontori e ai suoi fiumi benissimo approvò il giornalista questo semplificherà nell'avvenire le istruzioni che dovremo dare o seguire già è sempre qualche cosa poter dire dove si va o da dove si viene almeno se ha l'impressione di essere in qualche posto preciso la nostra grotta per esempio disse arbert già dopo quella camminata che abbiamo fatta potremmo chiamarla camminata va bene signor ingegnere benissimo pencroff quanto agli altri sarà altrettanto facile proseguì il marinaio che era in vena tiriamo fuori i nomi che usava quel robinson di cui arbert mi ha letto delle pagine la baia della provvidenza la punta dei capodogli il capo della speranza delusa o piuttosto i nomi del signor ingegnere del signor spilett di nab propose arbert il mio nome esclamò tutto emozionato il nero spalancando la bocca in un sorriso che gli discoprì la candida dentatura perché no fece pencroff il porto nab suona bene e il capo gideon io preferirei prendere i nomi che ci richiamassero la nostra america propose spilett sì almeno per i punti principali convenne cyrus diamo a questa vasta baia dell'est il nome di baia dell'unione a quel largo golfo del sud quello di baia washington a questa montagna il nome di monte franklin a quel lago che vediamo laggiù il nome di grant sono nomi che ci ricordano il nostro paese e i suoi maggiori concittadini ma poi per i corsi d'acqua i golfi i capi promontori che vediamo da quassù scegliamo piuttosto dei nomi che ricordino la loro particolare configurazione si imprimeranno meglio nella nostra memoria e saranno più pratici la conformazione di quest'isola è già abbastanza strana perché noi si debba lavorare di fantasia per cercare dei nomi immaginari che cosa ne dite amici tutti furono dell'avviso dell'ingegnere e venne deciso che spilett avrebbe segnato sul suo schizzo i nomi man mano che venissero scelti accettati si battezzarono prima la baia dell'unione la baia washington e il monte franklin e adesso disse il giornalista io proporrei di dare a quella penisola che si allunga nell'oceano il nome di penisola serpentina e quello di rettile alla coda ricurva che la termina adottato fece l'ingegnere adesso a quel golfo che somiglia a una mascella semi aperta darei il nome di golfo dello squalo disse arbert ben trovati esclamò pencroff completerei quella parte dell'isola chiamando capi mandibola le due estremità di quel golfo ma i capi sono due e allora mandibola nord e mandibola sud li ho già scritti sul disegno fece spilett ci resta da battezzare la punta all'estremità sud occidentale dell'isola l'estremità cioè della baia dell'unione capo dell'artiglio propose nab che voleva essere lui pure padrino di qualche parte dell'isola e in verità aveva trovato un nome eccellente perché quel capo raffigurava esattamente l'artiglio potente di quel gigantesco animale mostruoso che pareva l'isola sotto gli occhi dei coloni divertiti a quel gioco andarono a gara a trovare altri nomi per le altre parti dell'isola già conosciute e così venne chiamato fiume della grazia il corso d'acqua che forniva loro l'acqua da bere isola della salvezza l'isolotto dove i naufraghi avevano posto il piede all'atto della loro caduta altipiano della bella vista il terrazzo naturale al di sopra della muraglia di granito e poi foreste del far west tutti quei boschi che dilagavano per due terzi dell'isola insomma tutto ormai era fatto e già stavano per mettersi in cammino per scendere quando pencroff esclamò ma sapete che siamo dei famosi storditi noi e perché mai chiese gideon spilett è la nostra isola ci siamo dimenticati di battezzarla harbert propose subito di chiamarla col nome dell'ingegnere e tutti avrebbero applaudito ma cyrus disse semplicemente chiamiamola col nome di un grande cittadino amici miei come di colui che lotta oggi per difendere l'unità della repubblica americana chiamiamola isola lincoln tre evviva colsero le parole dell'ingegnere e quella sera prima di addormentarsi i nuovi coloni parlarono del loro paese lontano parlarono di quella terribile guerra che lo insanguinava essi erano sicuri che il sud sarebbe stato presto sconfitto e che la causa del nord la causa della giustizia avrebbe finito col trionfare in virtù di grant e in virtù di lincoln era la sera del 30 marzo 1865 ed essi non potevano sapere che 16 giorni dopo uno spaventoso delitto sarebbe stato commesso a washington e che il giorno del venerdì santo abramo lincoln sarebbe caduto sotto le pallottole di un fanatico capitolo 12 i coloni dell'isola di lincoln gettarono un ultimo sguardo intorno fecero il giro del cratere percorrendo nella stretta cresta e mezz'ora dopo erano ridiscesi sul primo altopiano al loro accampamento notturno pencroff pensò che era l'ora della colazione e a questo proposito si ritenne opportuno regolare i due orologi quello di saru smith e quello del giornalista è noto che l'orologio di gideon spilett era stato rispettato dall'acqua di mare poiché egli era stato gettato direttamente sulla sabbia al sicuro dalle onde detto orologio era uno strumento in condizioni eccellenti un vero cronometro da tasca che gideon spilett non aveva mai trascurato di ricaricare accuratamente ogni giorno quanto all'orologio dell'ingegnere esso si era necessariamente fermato durante il tempo che saru smith aveva passato svenuto fra le dune l'ingegnere dunque lo ricaricò e calcolando approssimativamente l'altezza del sole che dovevano essere circa le nove del mattino lo mise su quest'ora gideon spilett stava per imitarlo quando l'ingegnere fermandolo con la mano gli disse no caro spilett aspettate voi avete conservato l'ora di richmond sì cyrus di conseguenza il vostro orologio è regolato sul meridiano di quella città meridiano che è pressa poco quello di washington certo ebbene conservatelo così accontentatevi di ricaricarlo regolarmente ma non toccate le lancette questo potrà servirci a che cosa pensò il marinaio mangiarono e tanto abbondantemente che la riserva di selvaggine di pinoli fu completamente esaurita ma pencroff non ne fu per nulla impensierito cammin facendosi sarebbero senza dubbio riforniti top che aveva avuto una porzione assai lauta avrebbe ben saputo scovare altra selvaggina nelle protettrici ombre dei boschi cedui inoltre il marinaio pensava di chiedere come se niente fosse all'ingegnere di fabbricare della polvere da sparo e uno o due fucili da caccia nella sua ingenuità egli non vedeva in questo alcuna grossa difficoltà lasciando l'altipiano cyrus smith propose ai compagni di tornare ai camini per una strada nuova egli desiderava vedere da vicino quel lago grant magnificamente incastonato nella sua cornice d'alberi seguirono perciò la cresta di uno dei contrafforti tra i quali il fiume che alimentava il lago aveva probabilmente la sua sorgente conversando i coloni usavano già scrupolosamente i nomi propri poco prima stabiliti e questo facilitava singolarmente lo scambio delle idee harbert e pencroff l'uno giovane e l'altro ancora un po fanciullo erano lietissimi e mentre camminava il marinaio diceva né harbert come tutto procede a meraviglia smarrirci è impossibile ragazzo mio poiché se seguiamo la strada del lago grant sia che raggiungiamo il fiume mercy attraverso i boschi del far west arriveremo sempre senz'altro all'altipiano di bella vista e di conseguenza alla baia dell'unione era stato deciso che pur senza formare un gruppo compatto i coloni non si sarebbero allontanati troppo gli uni dagli altri certamente degli animali pericolosi abitavano le fitte foreste dell'isola e perciò era prudente stare in guardia pencroff harbert e nab marciavano in testa preceduti da top che frugava ogni angolo il giornalista e l'ingegnere procedevano insieme gideon spilett pronto ad annotare ogni avvenimento l'ingegnere quasi sempre silenzioso e senza mai scostarsi dalla propria strada se non per raccattare ora una cosa ora un'altra sostanze minerali o vegetali che ficcava in tasca senza fare nessuna riflessione che cosa diavolo raccoglie mormorava pencroff ho un bel guardare ma non vedo cose per cui valga la pena di chinarsi verso le dieci la piccola comitiva discendeva le ultime pendici del monte franklin anche qui il suolo era sparso solamente di cespuglie di rari alberi si camminava su una terra giallastra e calcinata formante una pianura larga circa un miglio che precedeva il limite dei boschi grossi blocchi di quel basalto che secondo le esperienze di bischoff hanno avuto bisogno per raffreddarsi di 350 milioni d'anni erano sparsi qua e là per la pianura a tratti molto tormentata tuttavia non c'era traccia di lava la quale sarà più particolarmente riversata lungo i pendii settentrionali saru smith era convinto dunque di raggiungere senza incidenti il corso del rivo che secondo lui doveva scorrere sotto gli alberi al confine della pianura quando vide correre gli incontro precipitosamente arbert mentre nab e il marinaio si nascondevano dietro le rocce che cosa c'è ragazzo mio domandò gideon spilett fumo rispose arbert abbiamo visto del fumo innalzarsi fra le rocce a cento passi da noi uomini qui evitiamo di mostrarci prima di sapere con chi abbiamo a che fare rispose cyrus smith temo gli indigeni se mai ce ne sono su quest'isola più di quanto li desideri dov'è top top è avanti e non abbaia no è strano ma proviamo a richiamarlo in pochi istanti l'ingegnere gideon spilett e arbert raggiunsero i compagni e come loro si nascosero dietro massi di basalto di là essi scorsero una colonna di fumo molto visibile che se levava in spire vorticose nell'aria fumo dal colore giallastro molto caratteristico top richiamato da un leggero fischio del padrone tornò indietro mentre l'ingegnere facendo segno ai compagni di aspettarlo si insinuò tra le rocce i coloni immobili aspettavano con una certa ansietà al risultato dell'esplorazione quando una chiamata di cyrus smith li fece accorrere essi lo raggiunsero tosto e per prima cosa furono colpiti dall'odore sgradevole che impregnava l'atmosfera quell'odore facilmente riconoscibile era bastato all'ingegnere per indovinare che cos'era quel fumo che a tutta prima l'aveva reso inquieto e non senza ragione quel fuoco disse egli o piuttosto quel fumo è la natura che lo produce si tratta di una sorgente solforosa che ci permetterà di curare efficacemente le nostre laringiti bene esclamò pencroff peccato che io non sia raffreddato i coloni si diressero allora verso il luogo dove usciva il fumo la videre una sorgente solforosa sodica che sgorgava abbastanza abbondantemente fra le rocce e le cui acque dopo aver assorbito l'ossigeno dell'aria emanavano un forte odore di acido solfidrico cyrus smith immergendovi una mano trovò quelle acque untuose al tatto le assaggiò e constatò che il loro sapore era un po' dolciastro quanto alla loro temperatura egli la calcolò a 35 gradi centigradi e avendogli domandato a arbert su che cosa basava quella valutazione è molto semplice ragazzo mio rispose tuffando la mano in quest'acqua io non ho provato sensazione né di freddo né di caldo dunque essa la medesima temperatura del corpo umano che appunto di circa 35 gradi poi non offrendo per il momento la sorgente solforosa alcuna utilità i coloni si diressero verso il margine della fitta foresta che si stendeva da alcune centinaia di passi là come si presumeva il ruscello scorreva con vive e limpide acque fra rive di terra rossa dal colore che rivelava la presenza dell'ossido di ferro questo colore fece immediatamente dare al corso d'acqua il nome di fiume rosso non era che un largo ruscello profondo e chiaro formato dalle acque della montagna che metà rio metà torrente qui scorrendo lentamente pacificamente sulla sabbia la rumoreggiando nell'urtare contropunte di rocce o precipitando in cascata correva verso il lago con una lunghezza di un miglio e mezzo e una larghezza variabile da 30 a 40 piedi le sue acque erano dolci il che doveva far supporre che dolci fossero pure quelle del lago fortunata circostanza questa nel caso si trovasse in quei pressi una dimora più conveniente dei camini gli alberi che alcune centinaia di piedi più a valle ombreggiavano le rive del ruscello appartenevano per la maggior parte alle specie che abbondano nella zona temperata dell'australia o della tasmania e non più a quelle delle conifere che coprivano la parte dell'isola già esplorata ad alcune miglia dall'alto piano di bella vista in quell'epoca dell'anno al principio del mese di aprile che in quell'emisfero corrisponde al mese di ottobre balladira all'inizio dell'autunno il fogliame era ancora intatto quegli alberi erano specialmente casuarine ed eucalipti alcune dei quali avrebbero formito nella prossima primavera una manna zuccherina in tutto simile alla manna dell'oriente gruppi di cedri australiani sorgevano pure nelle radure tappezzate da quell'alta erba che nella nuova olanda si chiama tussac ma il cocco così abbondante negli arcipelaghi del pacifico pareva mancare nell'isola la cui latitudine era indubbiamente troppo bassa che peccato disse arbert un albero così utile che ha dei frutti così belli quanto agli uccelli essi pullulavano fra i rami alquanto spogli degli eucalipti e delle casaurine che non ostacolavano l'apertura delle loro ali pappagalli di ogni specie di quelli australiani chiamati catacoci neri bianchi o grigi papagalli più piccoli con le loro femmine dalle piume a sfumature di tutti i colori red un verde sgargiante e coronati di rosso lorichetti azzurri e blues mountains sembravano non lasciarsi vedere che attraverso un prisma e svolazzando fra uno stridio assordante improvvisamente un bizzarro concerto di voci discordanti risuonò nel folto di una macchia i coloni udirono successivamente il canto degli uccelli il grido dei quadrupedi e un verso una specie di schiocco che si sarebbe potuto credere sfuggito dalle labbra di un indigeno nab ed arbert si slanciarono verso il cespuglio dimenticando ogni più elementare norma di prudenza fortunatamente non verano né animali selvaggi temibili né indigeni pericolosi ma semplicemente una mezza dozzina di quegli uccelli burloni e canori che sono i fagiani di montagna alcune bastonate abilmente assestate posero fine alla gazzara procurando inoltre un'eccellente selvaggina per il pranzo della sera arbert osservò anche dei magnifici piccioni dalle ali color bronzo alcuni adorni di una cresta superba altri con le penne screziate di verde come i loro congeneri di port mcquire ma fu impossibile raggiungerli così come i corvi e le gazze che fuggivano a stormi una fucilata pallini avrebbe fatto un'ecatombe di quei volatili ma i cacciatori dovevano ancora limitarsi per le armi da getto a sassi e per le armi ad asta al bastone e questi arnesi primitivi si dimostravano sempre più insufficienti la loro insufficienza si rese ancora più palese quando un branco di quadrupedi saltellanti balzellanti con salti di 30 piedi veri mammiferi volanti fuggirono scavalcando i cespugli così presto e a siffatte altezze che si sarebbe potuto credere passassero da un albero all'altro come scogliattoli canguri gridò arbert e si possono mangiare chiese pencroff cucinati in stufato rispose il giornalista possono paragonarsi alla migliore selvaggina gideon spilett non aveva ancora finito di pronunciare questa frase eccitante che il marinaio seguito da nabbe da arbert si era lanciato sulle tracce dei canguri invano cyrus smith li richiamò e invano i cacciatori inseguirono quella selvaggina così agile che rimbalzava come una palla dopo cinque minuti di corsa essi ora erano ansanti e trafilati mentre il branco scompariva nel ceduo top non era riuscito meglio dei padroni signor cyrus disse pencroff quando l'ingegnere il giornalista l'ebbero raggiunto signor cyrus vedete che è indispensabile fabbricare dei fucili sarà possibile forse rispose l'ingegnere ma prima cominceremo con il fabbricare archi e frecce e non dubito che voi diverrete abili nel maneggiarli quanto i cacciatori australiani frecce archi disse pencroff con una smorfia svegnosa vanno bene per i ragazzi non arricciate il naso pencroff rispose il giornalista gli archi e le frecce sono bastati per secoli a inseguinare il mondo la polvere è appena di ieri e la guerra è vecchia quanto la razza umana disgraziatamente è vero in fede mia signor spilett rispose il marinaio parlo sempre senza riflettere scusatemi frattanto arbert sempre tutto preso dalla sua scienza favorita la storia naturale ritornò sull'argomento dei canguri dicendo del resto abbiamo avuto a che fare con la specie più difficile da prendersi erano dei veri giganti dalla lunga pelliccia grigia ma se non mi inganno esistono dei canguri neri e rossi dei canguri di roccia dei canguri topi di cui è più facile impadronirsi se ne contano una dozzina di specie arbert replicò sentenziosamente il marinaio non c'è per me che una sola specie di canguro il canguro allo spiedo e sarà proprio quella che ci mancherà stasera non si poté fare a meno di ridere sentendo la nuova classificazione del mastro pencroff il bravo marinaio non nascose affatto il proprio dispetto per essere costretto ad accontentarsi dei soli fagiani come pranzo ma la fortuna doveva mostrarsi ancora una volta compiacente con lui infatti top che capiva come fosse in gioco il suo stesso interesse frugava dappertutto con un istinto raddoppiato da un feroce appetito era anche probabile che se qualche capo di selvaggina gli fosse capitato sotto i denti non ne sarebbe potuto restare i cacciatori e che top stesse allora cacciando per proprio conto ma nab lo sorvegliava e faceva bene verso le tre il cane scomparve in una macchia e poco dopo sordi brontolì indicarono che esso era alle prese con qualche animale nab si slanciò ed effettivamente vide top occupato di vorare un quadrupede che dieci secondi più tardi sarebbe stato impossibile identificare nello stomaco del cane ma fortunatamente top era piombato su una nidiata aveva fatto un colpo triplo e due altri roditori gli animali appartenevano a quest'ordine giacevano sgozzati al suolo nab ricomparve dunque trionfalmente tenendo in ogni mano uno dei roditori dalla corporatura che superava quella di una lepre il loro pelame giallo era picchiettato di macchie verdastre e non avevano che un mozzicone di coda cittadini dell'unione come erano non potevano esitare ad attribuire a quegli animali il nome che loro più conveniva erano maras specie di aguti un po più grandi dei loro consimili delle contrade tropicali veri conigli d'america dalle orecchie lunghe e dalle mascelle munite di cinque molari per parte ciò appunto li distingue dagli aguti evviva gridò pencroff l'arrosto c'è adesso possiamo tornare a casa la marcia interrotta per un istante fu ripresa il cric rosso scorreva sempre con le sue limpide acque sotto la volta delle casuarine delle banshee e dei giganteschi alberi gommiferi verano inoltre delle superbe liliacee alte circa 20 piedi altre varietà arborescenti sconosciuta al giovane naturalista si piegavano sulle acque che si udivano mormorare sotto quel pergolato verdeggiante intanto il ruscello andava allargandosi sensibilmente e Cyrus Smith fu indotto a credere che la foce non fosse lontana infatti all'uscita da un folto bosco di begli alberi essa apparve improvvisamente gli esploratori erano giunti sulla riva occidentale del lago Grant il luogo meritava di essere osservato quella distesa d'acqua di circa 7 miglia di circonferenza e 250 acri di superficie riposava entro una cornice di alberi svariati verso est attraverso una cortina di verzura pittorescamente elevata in certi punti appariva uno smagliante orizzonte marino a nord il lago faceva una curva appena sensibile che contrastava con la forma guzza della punta inferiore numerosi gli uccelli acquatici frequentavano le rive di quel piccolo ontario nel quale le mille isole del suo omonimo americano erano rappresentate da un isolotto roccioso emergente dalla superficie delle acque ad alcune centinaia di piedi dalla riva meridionale la vivevano in comune parecchie coppie di martin pescatori appollaiati su alcune pietre gravi immobili spiando i pesci al passaggio slanciandosi poi per tuffarsi con un grido acuto e riapparire con la preda in bocca altrove sulle rive sull'isolotto si pavoneggiavano anitre selvatiche pellicani gallinelle becchi rossi filedoni muniti di lingua forma di pennello e uno due esemplari di splendidi uccelli lira la cui coda si espande graziosamente assumendo la forma di una lira le acque del lago erano dolci limpide un po scure da certi gorgogli e dai circoli concentrici che si intersecavano alla superficie si doveva ad esumere che esse fossero molto pescose è veramente bello questo lago disse gideon spilett sarebbe gradevole vivere sulle sue rive ci vivremo rispose cyrus smith i coloni volendo allora ritornare i camini per la via più breve discesero fino all'angolo formato a sud dalla congiunzione delle rive del lago e si diressero così verso il litorale in modo da arrivare a nord dell'altipiano di bella vista due miglia furono percorse in questa direzione poi dopo l'ultima cortina d'alberi apparve il pianoro coperto d'un fitto tappeto d'erba e più oltre il mare infinito per ritornare i camini bastava attraversare obliquamente il pianoro per circa un miglio e ridiscendere fino al gomito formato dalla prima svolta del fiume mercy ma l'ingegnere desiderava conoscere come e da che parte sboccava in mare il soverchio delle acque del lago e l'esplorazione sotto gli alberi fu prolungata per un miglio e mezzo verso nord era probabile infatti che una bocca di scarico esistesse in qualche parte e senza dubbio attraverso una spaccatura del granito quel lago non era insomma che un'immensa vasca che si era riempita poco poco dalle acque del fiume bisognava pure che l'eccedenza di queste sue acque si riversasse in mare attraverso qualche cascata se così era l'ingegnere pensava che sarebbe stato forse possibile utilizzare la cascata servendosi della sua forza che sino allora era andata persa senza profitto per nessuno si proseguì dunque lungo le rive del lago grant risalendo all'altipiano ma dopo aver percorso ancora un miglio in tale direzione cyrus smith non aveva potuto ancora scoprire il canale di scarico che doveva non di meno esistere erano le quattro e mezzo i preparativi della cena esigevano che i coloni tornassero alla loro dimora la piccola comitiva tornò dunque sui propri passi e per la riva sinistra del fiume grazia cyrus smith e i compagni giunsero ai camini là fu acceso il fuoco e nabbe pencroff ai quali naturalmente erano assegnate le funzioni di cuochi prepararono lestamente sulla graticola le braciole di aguti cui si fece grande onore finito il pasto mentre ciascuno stava per abbandonarsi al sonno cyrus smith trasse di tasca alcuni piccoli campioni di minerali di diverse specie e si limitò a dire amici miei questo è minerale di ferro questa è una pirite questa è argilla questa è calce e questo è carbone ecco quel che ci dà la natura ed ecco la sua parte nel lavoro comune a domani la nostra capitolo 13 ebbene signor cyrus da dove dobbiamo incominciare domandò l'indomani mattina pencroff all'ingegnere dal principio rispose cyrus smith e infatti quei coloni erano costretti a cominciare proprio dall'inizio per tutte le cose essi non possedevano nemmeno il necessario per fare gli utensili e neppure si trovavano nelle condizioni della natura che avendo il tempo economizza lo sforzo il tempo mancava loro poiché dovevano provvedere immediatamente ai bisogni dell'esistenza e se per l'esperienza che già possedevano non avevano niente da inventare avevano non di meno tutto da costruire per loro il ferro l'acciaio erano ancora allo stato minerale le stoviglie allo stato di argilla la biancheria e i vestiti allo stato di materie testili bisogna dire però che quei coloni erano uomini nella più bella e possente espressione della parola l'ingegnere smith non poteva essere assecondato da compagni più intelligenti né più devoti e nezzelanti egli li aveva interrogati conosceva già le attitudini di ciascuno gideon spilett giornalista d'ingegno che aveva imparato tutto per poter parlare di tutto avrebbe certo largamente contribuito con il cervello e con l'opera alla colonizzazione dell'isola egli non sarebbe indietreggiato dinanzi a nessun compito cacciatore appassionato avrebbe fatto un mestiere di quello che sino ad allora non era stato per lui che un passatempo harbert bravo ragazzo già notevolmente istruito nelle scienze naturali avrebbe portato un serio contributo alla causa comune nab era la devozione personificata svelto intelligente infaticabile robusto con una salute di ferro egli conosceva un po l'arte del fabbro e non poteva che essere utilissimo alla colonia quanto a pencroff era stato marinaio su tutti gli oceani carpintiere nei cantieri di costruzione di brooklyn aiutante sarto sulle navi dello stato giardiniere coltivatore durante i periodi di licenza eccetera e come tutta la gente di mare che sa fare di tutto egli sapeva fare di tutto sarebbe stato veramente difficile riunire cinque uomini più adatti a lottare contro la sfortuna e più sicuri di trionfarne dal principio aveva detto cyrus smith ora questo principio di cui parlava l'ingegnere era la costruzione di un'apparecchiatura che potesse trasformare le sostanze naturali si sa quanta parte ha il calore in questa trasformazione di combustibile legna o carbon fossile si poteva disporre immediatamente si trattava dunque di costruire un forno per utilizzarlo a cosa servirà il forno domandò pencroff a fabbricare le stoviglie di cui abbiamo bisogno rispose cyrus smith e il forno con che cosa lo faremo con dei mattoni e i mattoni con l'argilla in cammino amici per evitare i trasporti di materiale impianteremo la nostra fabbrica sul luogo stesso di produzione nab porterà le provviste e il fuoco non mancherà per la cottura dei cibi no rispose il cronista ma potranno mancare gli alimenti per mancanza di arnesi da caccia se avessimo soltanto un coltello esclamò il marinaio ebbene chiese cyrus smith fabbricherei arco e frecce e la selvaggina non mancherebbe sì un coltello una lama tagliente disse l'ingegnere come se parlasse a se stesso in quel momento il suo sguardo cadde su top che andava e veniva sulla spiaggia improvvisamente l'occhio di cyrus smith si animò top qui disse egli il cane accorsa la chiamata del padrone questi prese la testa di top fra le mani e sciogliendo il collare che l'animale aveva il collo lo ruppe in due pezzi dicendo ecco due coltelli pencroff gli risposero due poderosi e viva del marinaio il collare di top era fatto di una sottile lamina d'acciaio temperato bastava dunque affilarlo prima su una pietra di gre in modo da mettere al vivo l'angolo del taglio e poi eliminare il filo morto su di un gre più fino ora questo genere di roccia renaria si trovava in abbondanza sulla spiaggia di modo che due ore dopo l'attrezzatura della colonia si componeva di due lame taglienti che era stato facile fissare in una solida impugnatura la conquista del primo utensile fu salutata come un trionfo era una conquista preziosa davvero e giungeva proprio opportuna partirono era intenzione di cyrus smith di ritornare sulla riva occidentale del lago là dove aveva osservato il giorno innanzi la terra argillosa di cui possedeva un campione si avviarono quindi lungo la riva della grazia attraversarono l'altipiano di bella vista e dopo una marcia di 5 miglia al massimo arrivarono una radura situata 200 passi dal lago grant cammin facendo arbert aveva scoperto un albero i cui rami vengono adoperati dagli indiani dell'america meridionale per la fabbricazione degli archi era il crejimba della famiglia dei palmizi che non produce frutti commestibili furono tagliati e sfrondati alcuni rami lunghi e diritti che vennero poi assottigliati alle estremità e lasciati robusti nel mezzo non c'era che da trovare una pianta adatta a formare la corda dell'arco un ibiscus eterophillus pianta di una specie appartenente alla famiglia delle malvacee diede fibre di notevole resistenza tanto che si sarebbe potuto paragonarle a tendini di animali pencroff ottenne così degli archi abbastanza forti ai quali non mancavano che le frecce queste si potevano fare facilmente con dei rami diritti e rigidi senza nodosità ma la punta di cui dovevano essere armate vale a dire una sostanza atta sul rogare il ferro non si poteva trovare altrettanto facilmente tuttavia pencroff pensò che avendo fatto la sua parte di lavoro al resto avrebbe provveduto il caso i coloni erano giunti sul territorio esplorato il giorno avanti esso era costituito di quell'argilla figulina che serve a fabbricare i mattoni e le tegole argilla quindi convenientissima per l'operazione che essi dovevano condurre a buon fine la lavorazione non presentava difficoltà alcuna bastava sgrassare l'argilla con della sabbia dare la forma ai mattoni e cuocerli poi su un fuoco di legna solitamente i mattoni vengono pressati in stampi adatti ma l'ingegnere si accontentò di fabbricarli con le mani il lavoro occupò tutta quella giornata e anche la seguente l'argilla imbevuta d'acqua impastata e battuta poi con i piedi e con i pugni dei lavoratori fu divisa in prismi di uguale grandezza un operaio pratico può confezionare senza macchina anche 10.000 mattoni in 12 ore ma i 5 dell'isola lincoln in due giornate di lavoro non ne fabbricarono più di 3.000 che furono disposti gli uni vicini agli altri in attesa del momento in cui essiccati completamente sarebbe stato possibile cuocerli cioè dopo tre o quattro giorni nella giornata del 2 aprile cyrus smith si occupò di rivelare la posizione dell'isola il giorno prima egli aveva segnato esattamente l'ora in cui il sole era scomparso dall'orizzonte tenendo conto della rifrazione dei raggi e quella mattina egli rivelò non meno esattamente l'ora in cui il sole riapparve fra il tramonto e l'alba erano passate 12 ore meno 24 minuti dunque 6 ore 12 minuti dopo il suo sorgere il sole in quel giorno sarebbe passato esattamente sul meridiano e il punto del cielo che esso avrebbe occupato in quel momento avrebbe indicato il nord allora suddetta cyrus rilevò questo punto e allineando con il sole due alberi che gli sarebbero serviti da punto di riferimento ottenne così una meridiana invariabile per le ulteriori operazioni durante i due giorni che precedettero la cottura dei mattoni fu provveduto all'approvvigionamento del combustibile furono tagliati alcuni rami attorno alla radura e si raccolsero tutti quelli caduti contemporaneamente si cacciò un poco nei dintorni e con il maggior successo in quanto pencroff possedeva ora già alcune dozzine di frecce armate di punte accuminatissime top aveva fornito quelle punte recando un porco spino selvaggina piuttosto mediocre ma di un valore incontestabile per gli aculei di cui era irto questi aculei furono solidamente infissi all'estremità delle frecce alle quali fu applicato un'impennatura di piume di pappagallo per assicurarne la direzione il giornalista e harbert divennero presto degli accortissimi tiratori d'arco e la selvaggina d'ogni sorta abbondò i camini capivara piccioni aguti galli di montagna eccetera la maggior parte di questi animali fu uccisa nella zona della foresta situata sulla riva sinistra del fiume mercy alla quale si diede il nome di bosco dello jacamar in memoria del volatile cui harbert e pencroff avevano dato la caccia durante la loro prima esplorazione quella selvaggina fu mangiata fresca ma si conservarono i prosciutti del capibara affumicandoli sopra un fuoco di legna verde dopo averli aromatizzati con foglie odorose tuttavia quel cibo per quanto molto corroborante era pur sempre dell'arrosto e i commensali sarebbero stati lieti di sentire dopo tanto bollire sul focolare un semplice lesso ma per questo bisognava aspettare che la pentola fosse fabbricata e logicamente che fosse prima costruita il forno durante le escursioni che si limitarono una zona molto ristretta intorno alla fabbrica di mattoni i cacciatori poterono constatare tracce del passaggio recente di grandi animali armati di artigli potenti ma di cui non riuscirono a indovinare la specie cyrus smith raccomandò loro un'estrema prudenza già che era probabile che la foresta nascondesse qualche velva pericolosa e fece bene infatti gideon spilett e arbert scorsero un giorno una bestia che somigliava a un giaguaro essa non li attaccò e fu gran fortuna perché probabilmente non se la sarebbero cavata senza qualche grave ferita ma gideon spilett quando avesse avuto una vera arma vale a dire uno di quei fucili che pencroff reclamava si riprometteva di fare una guerra accanita le bestie feroci e di liberarne l'isola durante quei pochi giorni nulla fu fatto per rendere più comodi i camini giacché l'ingegnere si proponeva di scoprire o anche costruire se occorreva una dimora più conveniente ci si accontentò di stendere sulla sabbia dei corridoi un frescoletto di muschi e di foglie secche e su quei giacigli un po primitivi i lavoratori spossati dormirono un sonno perfetto fu inoltre fatto il conto dei giorni passati sull'isola di lincoln da quando i coloni vi avevano otterrato e da allora ne fu tenuto sempre un computo regolare il 5 aprile un mercoledì erano 12 giorni da che il vento aveva gettato i naufraghi su quel litorale il 6 aprile sin dall'alba l'ingegnere e i suoi compagni erano riuniti nella radura dove stava per aver luogo la cottura dei mattoni naturalmente tale operazione doveva essere fatta all'aria aperta e non dentro i forni d'altra parte l'agglomerato dei mattoni avrebbe formato un enorme formo che si sarebbe cotto da sé il combustibile composto di fascine ben preparate fu messo a terra e circondato da parecchie file di mattoni disseccati che formarono in breve un grosso cubo all'esterno del quale furono lasciati aperti degli sfiatatori quel lavoro durò tutta la giornata e soltanto a sera fu dato fuoco alle fascine quella notte nessuno si coricò ma tutti vegliarono attentamente perché il fuoco non si spegnesse l'operazione durò 48 ore e riuscì perfettamente bisogno allora lasciar raffreddare la massa fumante e nel frattempo nabbe pencroff guidati da cyrus smith trasportarono su un graticcio fatto di rami intrecciati parecchi carichi di carbonato di calcio pietre comunissime che si trovavano in abbondanza a nord del lago queste pietre decomposte dal calore produssero una calce viva molto grassa che si dilatava molto estinguendosi ed era pura come se fosse stata prodotta dalla calcinazione di creta o marmo mescolata con sabbia il cui effetto di attenuare il ritiro della pasta quando solidificata questa calce fornì un'ottima malta il risultato di questi vari lavori fu che per il 9 di aprile l'ingegnere aveva a sua disposizione una certa quantità di calce già pronta e alcune migliaia di mattoni si iniziò dunque senza perdere un istante la costruzione di un forno che doveva servire alla cottura delle diverse stoviglie indispensabili per gli usi domestici e vi riuscì senza troppa difficoltà cinque giorni dopo il forno fu caricato di carbon fossile di cui l'ingegnere aveva scoperto un giacimento a cielo aperto verso la foce del cric rosso e le prime volute di fumo uscirono da un fumaiolo alto una ventina di piedi la radura era dunque trasformata in una fabbrica e pencroff non era lontano dal credere che da quel forno sarebbero usciti tutti i prodotti dell'industria moderna i coloni fabbricarono prima di tutto stoviglie comuni ma adatta alla cottura degli alimenti la materia prima era la stessa argilla del terreno usata per i mattoni alla quale cyrus smith fece aggiungere un po di calce e di quarzo questa composizione costituiva così una vera terra da pipe e con essa si fecero pentole tazze modellate su ciottoli di forme adatte chiatti grandigiare vasche per l'acqua eccetera la forma di tali oggetti era goffa difettosa ma dopo che essi furono cotti ad alta temperatura la cucina dei camini si trovò provvista di un certo numero di utensili tanto preziosi come se il più bel caulino fosse entrato nella loro composizione e qui bisogna accennare che pencroff desideroso di sapere se quell'argilla così preparata giustificava il suo nome di terra da pipe si fabbricò alcune pipe piuttosto grossolane che egli trovò graziosissime ma alle quali ahimè mancava il tabacco e bisogna dirlo questa era una grande privazione per pencroff ma verrà anche il tabacco come ogni altra cosa ripete egli nei suoi slanci di assoluta fiducia i lavori durarono fino al 15 aprile e si comprende come il tempo fosse stato coscienziosamente impiegato i coloni diventati vasai non fecero altro che stoviglie quando fosse convenuto a saru smith di mutarli in fabbri essi sarebbero diventati fabbri ma l'indomani essendo domenica e per di più la domenica di pasqua tutti furono d'accordo a santificare quel giorno con il riposo quegli americani erano uomini religiosi scrupolosi osservatori dei precetti della bibbia la situazione in cui si trovavano poi non poteva che intensificare i loro sentimenti di fiducia verso l'autore di ogni cosa la sera del 15 aprile i coloni ritornarono dunque definitivamente ai camini le stoviglie furono portate via e il forno lasciato spegnere in attesa di destinarlo a nuovi usi il ritorno fu allietato da un fortunato evento la scoperta fatta dall'ingegnere di una sostanza atta surrogare l'esca come noto la polpa spugnosa e vellutata di cui l'esca è formata proviene da un fungo il poliporo opportunamente preparata essa è estremamente infiammabile soprattutto quando sia stata prima impregnata di polvere da sparo o bollita in una soluzione di nitrato o di clorato di potassio ma sino ad allora nessuno di questi polipori era stato trovato né alcuna spugnola che potesse farne le veci ma quel giorno l'ingegnere avendo veduto una certa pianta appartenente alla famiglia dell'artemisia che annovera fra le sue varietà più notevoli l'assenzio la citronella il dragoncello eccetera ne sradicò alcuni ciuffi e offrendoli al marinaio pencroff disse ecco una cosa che vi farà piacere pencroff guardò attentamente la pianta ricoperta di lunghi e serici peli e le cui foglie erano rivestite da una morbida peluria che cos'è questo signor cyrus bontà divina è tabacco no rispose cyrus smith è l'artemisia l'artemisia cinese per gli esperti per noi essa fungerà da esca infatti quell'erba opportunamente essiccata fornì una sostanza infiammabilissima specialmente quando più tardi l'ingegnere lebbe impregnata di nitrato di potassio di cui l'isola possedeva parecchi strati e che altro non è che sal nitro quella sera i coloni tutti riuniti nel vano centrale cenarono assai bene nab aveva preparato un lesso di aguti un prosciutto di capibara aromatizzato si aggiunsero i tubi bolliti del caladium macrorhizum specie di pianta erbacea della famiglia delle racee che in una regione tropicale avrebbero raggiunto la forma aborescente tali radici erano di sapore eccellente nutrientissime simili pressa poco alla sostanza che si in inghilterra sotto il nome di sagù di portland e potevano in certo qual modo sostituire il pane che ancora mancava ai coloni dell'isola di lincoln finita la cena prima di abbandonarsi al sonno cyrus smith e i suoi compagni uscirono sulla spiaggia a prendere una boccata d'aria erano le otto di sera la notte si annunciava magnifica la luna che era stata piena cinque giorni prima non era ancora visibile ma già l'orizzonte si inargentava delle dolci e pallide sfumature che si potrebbero chiamare l'alba lunare allo zenita australe le costellazioni circumpolari risplendevano e sfolgorante fra tutte la croce del sud che alcuni giorni prima l'ingegnere aveva salutato dalla cima del monte franklin cyrus smith osservò per qualche tempo quella splendida costellazione che ha due stelle di prima grandezza una al vertice e una alla base al braccio sinistro una stella di seconda e al braccio destro una stella di terza grandezza poi dopo aver riflettuto domandò al ragazzo harbert non siamo al 15 di aprile sì signor cyrus rispose harbert ebbene se non mi inganno domani sarà uno dei quattro giorni dell'anno nel quale il tempo vero coincide con il tempo medio vale a dire ragazzo mio che domani salvo la differenza di qualche secondo il sole passerà sul meridiano nel momento esatto in cui gli orologi segneranno il mezzogiorno se il tempo sarà bello penso che potrò ottenere la longitudine dell'isola con un'approssimazione di pochi gradi senza strumenti senza sestante domandò gideon spilett sì rispose l'ingegnere così pure poiché la notte è serena voglio tentare questa sera stessa di ottenere la nostra latitudine calcolando l'altezza della croce del sud vale a dire del polo australe al di sopra dell'orizzonte voi comprenderete amici che prima di intraprendere seri lavori di installazione non bisogna accontentarsi solo di sapere se questa terra è un'isola ma bisogna determinare per quanto è possibile a quale distanza essa si trova sia dal continente americano sia dal continente australiano e dai principali arcipelaghi del pacifico infatti disse il giornalista invece di costruire una casa possiamo avere interesse a costruire un'imbarcazione se per caso non siamo che a un centinaio di miglia da una costa abitata ecco perché rispose sario smith io mi preparo questa sera a tentare di ottenere la latitudine dell'isola di lincoln e domani a mezzogiorno tenterò di calcolarne la longitudine se l'ingegnere avesse posseduto un sestante apparecchio che permette di misurare con grande precisione la distanza angolare degli oggetti per riflessione l'operazione non avrebbe presentato alcuna difficoltà in quella sera stessa per mezzo dell'altezza del polo l'indomani con il passaggio del sole sul meridiano egli avrebbe ottenuto le coordinate dell'isola ma poiché l'apparecchio mancava bisognava supplire in qualche modo cyrus smith rientrò dunque ai camini alla luce del focolare tagliò due righelli piatti che unì l'uno all'altro per l'estremità in modo da formare una specie di compasso i cui bracci potevano scostarsi e riaccostarsi il punto d'attacco era fissato a mezzo di una robusta spina da caccia che si trovò in un ramo secco della legnaia a lavoro ultimato l'ingegnere tornò sulla spiaggia ma poiché occorreva che gli prendesse l'altezza del polo su un orizzonte nettamente disegnato vale a dire un orizzonte di mare e il capo artiglio invece gli nascondeva l'orizzonte a sud dovette cercare un punto d'osservazione più adatto il migliore evidentemente sarebbe stato sul litorale esposto direttamente al sud ma si sarebbe dovuto attraversare il merci allora profondo il che era molto difficile Cyrus Smith decise quindi di andare a fare le sue osservazioni sull'altopiano di bella vista riservandosi di tenere conto della sua altezza sul livello del mare altezza che egli si riprometteva di calcolare l'indomani con un semplice procedimento di geometria elementare i coloni si trasferirono dunque sull'altopiano risalendo la riva sinistra del merci e andarono a collocarsi sull'orlo orientato da nord ovest a sud est cioè sulla linea di rocce capricciosamente frastagliate che costeggiava il fiume questa parte dell'altopiano dominava di una cinquantina di piedi le alture della riva destra che discendevano per una duplice china fino all'estremità del capo artiglio e fino alla costa meridionale dell'isola nessun ostacolo si opponeva dunque allo sguardo che abbracciava l'orizzonte per un semicerchio dal capo artiglio fino al promontorio del rettile a sud questo orizzonte rischiarato inferiormente dalla prima luce lunare spiccava vivamente sul cielo e lo si poteva traguardare con una certa precisione in quel momento la croce del sud si presentava all'osservatore capovolta con la stella alfa alla base che è più vicina al polo australe questa costellazione non è così vicina al polo antartico quanto la stella polare al polo artico la sua stella alfa ne dista 27 gradi circa ma cyrus smith sapeva di dover tener conto di questa distanza nel suo calcolo egli ebbe inoltre cura di osservare la stella al momento in cui passava sotto il meridiano inferiore il che avrebbe reso più facile la sua osservazione cyrus smith diresse dunque un braccio del suo compasso di legno sull'orizzonte del mare l'altro su alfa come avrebbe fatto con i cannocchiali di un circolo ripetitore e l'apertura dei due bracci gli diede la distanza angolare che separava l'alfa dall'orizzonte allo scopo poi di conservare intatto l'angolo ottenuto fissò per mezzo di spine le due assicelle del suo apparecchio su di una terza posta traversalmente in modo che il loro divario fosse stabilmente assicurato ciò fatto non restava che calcolare l'angolo ottenuto riportando l'osservazione al livello del mare tenendo cioè conto della depressione dell'orizzonte ciò che rendeva necessario misurare l'altezza dell'altopiano il valore di quell'angolo avrebbe dato così l'altezza di alfa e conseguentemente quella del polo sopra l'orizzonte vale a dire la latitudine dell'isola poiché la latitudine di un punto del globo è sempre uguale all'altezza del polo al di sopra dell'orizzonte di quel punto questi calcoli furono rimandati all'indomani e alle 10 tutti dormivano profondamente grazie a tutti Capitolo 14 L'indomani, 16 aprile, domenica di Pasqua, i coloni uscirono dai camini allo spuntar del giorno e provvidero a lavare la loro biancheria e a pulire i loro abiti. L'ingegnere si proponeva di fabbricare del sapone appena avesse potuto procurarsi le materie prime necessarie, soda o potassa, grasso o d'olio. Anche l'importante problema del rinnovamento del guardaroba sarebbe stato trattato a tempo e luogo. Ogni modo i vestiti sarebbero durati certo sei mesi ancora, giacché erano solidi e potevano resistere alla fatica dei lavori manuali. Ma tutto sarebbe di peso dalla posizione dell'isola rispetto alle terre abitate, fatto questo che sarebbe stato determinato in quello stesso giorno, tempo permettendo. Ora il sole, sorgendo su di un orizzonte limpido, annunciava una giornata magnifica, una di quelle belle giornate d'autunno che sono come l'estremo addio della stagione calda. Si trattava perciò di contemplare gli elementi di osservazione della vigilia, misurando l'altitudine dell'altipiano di Bella Vista al di sopra del livello del mare. «Non vi occorre uno strumento analogo a quello di cui vi siete servito ieri?» domandò Herbert all'ingegnere. «No, ragazzo mio!» rispose questi. «Procederemo diversamente, ma in un modo quasi altrettanto preciso». Herbert, che amava istruirsi su tutte le cose, seguì l'ingegnere, che si allontanò dalla base della muraglia di granito, discendendo sino alla spiaggia. Nel frattempo Pencroff, Nab e il giornalista si occupavano di vari altri lavori. Cyrus Smith si era munito di una specie di pertica diritta e lunga circa 12 piedi, che aveva misurata con la maggiore esattezza possibile, confrontandola con la propria statura, che conosceva con una buona approssimazione. Herbert portava un filo a piombo, che Cyrus Smith gli aveva dato, vale a dire una semplice pietra fissata all'estremità di una fibra flessibile. Arrivata una ventina di piedi dal limite della spiaggia e a 500 piedi circa, dalla muraglia di granito che si drizzava perpendicolarmente, Cyrus Smith conficcò la pertica per due piedi nella sabbia e, rincalzandola con cura, pervenne, a mezzo del filo a piombo, a rizzarla perpendicolarmente al piano dell'orizzonte. Fatto questo, indietreggiò di quel tanto che era necessario, perché mettendosi egli prono sulla sabbia, il raggio visivo, partito dal suo occhio, sfiorasse contemporaneamente l'estremità della pertica e la cresta della muraglia. Poi segnò accuratamente quel punto con un paletto. Allora, rivolgendosi ad Arvert, «Conosci le prime nozioni della geometria?» gli chiese. «Un po', signor Cyrus», rispose Arvert, che non voleva spingersi troppo oltre. «Ricordi bene quali sono le proprietà di due triangoli simili?» «Sì», rispose Arvert, «i loro lati omologhi sono proporzionali». Ebbene, ragazzo mio, orora io ho costruito due triangoli simili, tutti e due rettangoli. Il primo, il più piccolo, ha per lati la pertica perpendicolare e la distanza che separa il paletto dalla parte inferiore della pertica e per ipotenusa il mio raggio visivo. Il secondo ha per lati la muraglia perpendicolare, di cui dobbiamo misurare l'altezza, la distanza che separa il paletto dalla base di detta muraglia e il mio raggio visivo formante l'ipotenusa anche di questo secondo triangolo, la quale viene a essere così il prolungamento di quella del primo. «Ah, signor Cyrus, ho capito!» esclamò Arvert. «Come la distanza dal paletto alla pertica è proporzionale alla distanza dal paletto alla base della muraglia, così l'altezza della pertica è proporzionale all'altezza di questa muraglia». «Proprio così, Arvert», rispose l'ingegnere. «E quando avremo misurato le due prime distanze, conoscendo l'altezza della pertica, non ci resterà da fare che un calcolo di proporzione per aver l'altezza della muraglia, evitandoci la fatica di misurarla direttamente. Furono prese le due distanze orizzontali, per mezzo della pertica stessa, la cui lunghezza emergente dalla sabbia era esattamente di 10 piedi. La prima distanza era di 15 piedi, tra il paletto e il punto dove la pertica era affondata nella sabbia. La seconda distanza, fra il paletto e la base della muraglia, era di 500 piedi. Prese queste misure, Cyrus Smith e il ragazzo tornarono ai camini. Qui giunto l'ingegnere e preso una pietra piatta, che aveva raccolta durante una delle precedenti escursioni, specie di schisto d'ardesia, sul quale era facile tracciare delle cifre servendosi di una conchiglia guzza. 15 sta a 500, come 10 sta a X. 500 per 10 uguale 5.000, 5.000, 15 uguale 333,3. Da cui risultò che la muraglia di granito misurava 333 piedi di altezza. Cyrus Smith riprese allora lo strumento che aveva fabbricato il giorno prima, i due bracci, del quale, per mezzo della loro divaricazione, gli davano la distanza angolare della stella alfa dall'orizzonte. Egli misurò con grande esattezza l'apertura di detto angolo su di una circonferenza, che divise in 360 parti uguali. L'angolo così ottenuto era di 10 gradi. Quindi la distanza angolare totale fra il polo e l'orizzonte, aggiungendo a essa i 27 gradi che separano l'alfa del polo antartico e riportando al livello del mare l'altitudine dell'altipiano sul quale era stata fatta l'osservazione, fu trovata a essere di 37 gradi. Cyrus Smith trasse da ciò la conclusione che l'isola di Lincoln era situata al 37esimo grado di latitudine australe, oppure, prevedendo un errore di 5 gradi data l'imperfezione delle sue operazioni, che essa doveva trovarsi fra il 35esimo e il 40esimo parallelo. Per completare le coordinate dell'isola, rimaneva da conoscere la longitudine e questa l'ingegnera avrebbe tentato di determinarla in quello stesso giorno, a mezzodì, cioè al momento in cui il sole sarebbe passato al meridiano. Fu deciso che quella domenica sarebbe stata impiegata in una passeggiata o piuttosto in un'esplorazione della parte dell'isola posta fra il nord del lago e il golfo del pescecane e che, se il tempo lo avesse permesso, tale ricognizione sarebbe stata spinta fino al versante settentrionale del capo mandibola sud. Si sarebbe fatto colazione fra le dune e non si sarebbe ritornati che la sera. Alle otto e mezzo del mattino la piccola schiera procedeva lungo l'orlo del canale. Dall'altra parte, sull'isolotto della salvezza, numerosi uccelli passeggiavano gravemente. Erano marangoni, della specie degli apterigidi, facilmente riconoscibili dal loro strido sgradevole che ricorda il raglio dell'asino. Essi richiamarono l'attenzione di Pencroff, solo dal punto di vista commestibile. Egli apprese perciò, non senza una certa soddisfazione, che la loro carne, benché nerastra, era molto buona da mangiare. Si vedevano pure strisciare sulla sabbia grossi anfibi, foche, indubbiamente, che sembravano aver scelto per rifugio l'isolotto. Era però impossibile considerare questi animali dal punto di vista alimentare, giacché la loro carne, oleosa, è detestabile. Non di meno, Cyrus Smith li osservò attentamente e, senza manifestare la propria idea, annunciò ai compagni che molto presto avrebbero fatto una visita all'isolotto. La riva percorsa dai coloni era cosparsa di innumerevoli conchiglie, alcune delle quali avrebbero fatto la gioia di un appassionato di malacologia. C'erano fra le altre fasi anelle, terabratule, trigonie, eccetera. Ma una scoperta assai più utile fu fatta da Nab fra le rocce, a circa quattro miglia dai camini. Un vasto banco di ostriche, allora emergente per la bassa marea. Nab non ha perduto la sua giornata, esclamò Pencroff osservando il banco d'ostriche che si estendeva a largo. È una fortunata scoperta, infatti, disse il giornalista. E se, come si afferma, l'ostrica produce dalle 50 alle 60 mila uova all'anno, ne avremo una riserva inesauribile. Soltanto credo che l'ostrica non sia molto nutriente, disse Herbert. No, rispose Cyrus Smith. L'ostrica contiene solo pochissima materia azotata e a un uomo che si nutrisse esclusivamente di ostriche non ne occorrerebbero meno di 15 o 16 dozzine al giorno. Bene, rispose Pencroff. Noi potremmo inghiottirne delle dozzine di dozzine prima d'aver esaurito quel banco. Se ne prendessimo alcune per la nostra colazione? E senza aspettar risposta, ben sapendo in anticipo che la sua idea era approvata, il marinaio, aiutato da Nab, distaccò una certa quantità di quei molluschi. Furono messi in una specie di rete che Nab aveva confezionato con fibre di ibisco e che conteneva già le altre vivande per desinare. Poi si proseguì lungo la costa tra le dune e il mare. Di tanto in tanto, Cyrus Smith consultava l'orologio allo scopo di prepararsi in tempo per l'osservazione solare che doveva essere fatta a mezzogiorno in punto. Tutta la parte dell'isola che i coloni percorrevano quella mattina era aridissima, fino alla punta che chiudeva la Baia dell'Unione e che aveva ricevuto il nome di Capo Mandibola Sud. Non vi si vedeva che sabbie e conchiglie mescolate a residui di lava. Alcuni uccelli marini frequentavano quella costa desolata, gabbiani, grandi albatri e anche anatre selvatiche che citarono giustamente la cupidigia di Pencroff. Egli tentò, sì, di abbatterle a frecciate, ma inutilmente, già che esse non si posavano e si sarebbe dovuto colpirle al volo. Il nuovo insuccesso spinse il marinaio a ripetere all'ingegnere. Vedete, signor Cyrus, finché non avremo uno o due fucili da caccia, la nostra attrezzatura lascerà sempre a desiderare. Indubbiamente, Pencroff, rispose il giornalista. Ma non dipende che da voi. Procurateci ferro per le canne, acciaio per i percussori, sal nitro, carbone e zolfo per la polvere, mercurio e acido azotico per il fulminato e infine il piombo per i proiettili e Cyrus ci farà dei fucili di prim'ordine. Oh, rispose l'ingegnere, Potremmo senza dubbio trovare nell'isola tutte queste sostanze, ma un'arma da fuoco è uno strumento delicato che necessita di utensili di grande precisione. Insomma, vedremo più tardi. Ah, perché mai? esclamò Pencroff. Perché mai abbiamo gettato via tutte le armi che avevamo con noi nella navicella e anche gli utensili e perfino i nostri coltelli da tasca? Ma se non ce ne fossimo sbarazzati, Pencroff, saremmo noi che il pallone avrebbe sepolto in fondo al mare, rispose Herbert. Anche questo è vero, ragazzo mio, osservò il marinaio. Ma? aggiunse passando a un'altra idea. Pensate quale sarà stato lo sbalordimento di Jonathan Forster e dei suoi compagni quando l'indomani mattina avranno trovato piazza pulita e il pallone scomparso. Sapere quello che hanno potuto pensare è l'ultima delle mie preoccupazioni, disse il cronista. Sono stato proprio io che ho avuto quell'idea, disse Pencroff con aria soddisfatta. Una bella idea davvero, Pencroff, rispose Gideon Spilett ridendo. E che ci ha condotto dove siamo? Preferisco essere qui che nelle mani dei sudisti, esclamò il marinaio. Soprattutto da quando il signor Cyrus ha avuto la bontà di venirci a raggiungere. E io pure, in verità, replicò il giornalista. D'altronde che cosa ci manca? Niente. O piuttosto tutto, rispose Pencroff che scoppiò a ridere scuotendo le larghe spalle. Ma un giorno o l'altro troveremo il modo di andarcene. E forse più presto che non lo immaginate, amici miei, disse allora l'ingegnere, se l'isola di Lincoln è a una distanza media da un arcipelago abitato o da un continente. Fra un'ora, o anche meno, lo sapremo. Non ho qui la carta del Pacifico, ma la mia memoria ha conservato un ricordo molto esatto della sua parte meridionale. La latitudine che ho ottenuto ieri pone l'isola di Lincoln fra la Nuova Zelanda a ovest e le coste del Cile a est, ma fra le due terre la distanza è almeno di 6.000 miglia. Resta dunque da determinare che punto occupa l'isola in così largo spazio di mare e questo dato ce lo fornirà adesso la longitudine e con discreta approssimazione, spero. Non è l'arcipelago delle Pumutu il più vicino a noi in latitudine? Domandò Herbert. Sì, rispose l'ingegnere, ma la distanza che ce ne separa è di 1.200 miglia e più. E da quella parte? Chiese Nab che seguiva la conversazione con estremo interesse accennando con la mano verso il sud. Da quella parte niente, rispose Pencroff. Nulla, infatti, aggiunse l'ingegnere. Ebbene, Cyrus, domandò il giornalista, se l'isola di Lincoln non si trovasse che a due o trecento miglia dalla Nuova Zelanda o dal Cile? Ebbene, rispose l'ingegnere, invece di fare una casa faremo un bastimento e Mastro Pencroff si incaricherà di governarlo. Oh, signor Cyrus, esclamò il marinaio. Sono prontissimo a passar capitano quando avrete trovato il modo di costruire un'imbarcazione abbastanza robusta per tenere il mare. La faremo, se necessario, rispose Cyrus Smith. Ma mentre quegli uomini che veramente non temevano nulla così conversavano, si avvicinava l'ora in cui doveva aver luogo con l'osservazione. Come avrebbe fatto Cyrus Smith per rilevare il passaggio del sole sul meridiano dell'isola senza alcuno strumento? Herbert non riusciva a indovinarlo. I coloni si trovavano allora a una distanza di sei miglia dai camini, non lungi da quella parte delle dune dove era stato trovato l'ingegnere dopo il suo enigmatico salvataggio. Si fermarono e prepararono tutto per la colazione, giacché erano le undici e mezzo. Herbert andò a prendere dell'acqua dolce al ruscello che scorreva vicino e la raccolse in una brocca di cui Nab si era munito. Mentre fervevano quei preparativi Cyrus Smith dal canto suo apparecchiò l'occorrente per l'osservazione astronomica, scelse sulla spiaggia uno spazio ben liscio e pulito che il mare ritirandosi aveva perfettamente livellato. Questo strato di sabbia finissima era levigata come uno specchio, non un granello che superasse l'altro. Poco importava ad altronde che quel tratto di spiaggia fosse orizzontale o no, né era molto più importante che la bacchetta alta a sei piedi che vi fu piantata si rizzasse perpendicolarmente. Anzi, l'ingegnere la inclinò verso il sud, vale a dire dalla parte opposta del sole, giacché non bisogna dimenticare che i coloni dell'isola di Lincoln, appunto perché l'isola si trovava nell'emisfero australe, vedevano l'astro radioso descrivere il suo arco diurno al di sopra dell'orizzonte del nord e non al di sopra dell'orizzonte del sud. Herbert compresa allora come l'ingegnere avrebbe proceduto per constatare la culminazione del sole, cioè il suo passaggio al meridiano dell'isola o in altre parole il mezzogiorno del luogo. Ciò sarebbe avvenuto per mezzo dell'ombra proiettata sulla sabbia della bacchetta, mezzo che, in mancanza di strumenti, gli avrebbe dato un'approssimazione sufficiente per il risultato che voleva ottenere. Infatti, il momento in cui quell'ombra avrebbe raggiunto il suo minimo di lunghezza sarebbe stato il mezzogiorno preciso e sarebbe bastato seguire l'estremità di detta ombra per stabilire l'istante in cui, dopo essere gradatamente diminuita, essa avrebbe ricominciata ad allungarsi. Cyrus Smith, inclinando la sua bacchetta dal lato opposto del sole, rendeva l'ombra più lunga e per conseguenza le sue modificazioni più facili da constatare. Infatti, più l'ago di un quadrante è grande, più si può agevolmente seguire lo spostamento della sua punta e l'ombra della bacchetta non era altro che l'ago di un quadrante. Quando ritenne che il momento fosse giunto, Cyrus Smith si inginocchiò sulla sabbia e, piantando in terra dei picchetti di legno, cominciò a segnare le successive diminuzioni dell'ombra della bacchetta. I suoi compagni chini su di lui seguivano l'operazione con estremo interesse. Il giornalista teneva il cronometro in mano, pronto a rilevare l'ora che avrebbe segnato quando l'ombra fosse giunta alla sua lunghezza minima. Inoltre, siccome Cyrus Smith operava il 16 aprile, giorno in cui il tempo vero e il tempo medio coincidono, l'ora data da Gideon Spilett sarebbe stata l'ora vera di Washington, il che avrebbe semplificato il calcolo. Intanto il sole avanzava lentamente, l'ombra della bacchetta diminuiva poco a poco e quando parva a Cyrus Smith che essa ricominciasse a ingrandire «Che ora è?» disse egli. «Le 5 e un minuto!» rispose subito Gideon Spilett. Non c'era che da fare i calcoli relativi all'osservazione, niente di più facile. Come si vede, esisteva in cifre tonde una differenza di 5 ore fra il meridiano di Washington e quello dell'isola di Lincoln, vale a dire che era mezzogiorno all'isola di Lincoln quando erano già le 5 di sera a Washington. Ora il sole nel suo moto apparente intorno alla Terra percorre un grado in 4 minuti ossia 15 gradi per ora. 15 gradi moltiplicati per 5 ore danno 75 gradi. Dunque, poiché Washington è a 77 gradi 3 minuti e 11 secondi e cioè a 77 gradi contati a partire dal meridiano di Greenwich che gli americani prendono per punto di partenza delle longitudini ne conseguiva che l'isola era posta 77 più 75 gradi a ovest del meridiano di Greenwich vale a dire al 152esimo grado di longitudine ovest. Cyrus Smith annunciò questo risultato ai compagni e tenendo conto degli errori di osservazione come aveva fatto per la latitudine credette di poter affermare che la posizione dell'isola di Lincoln era fra il 35esimo e il 37esimo parallelo e tra il 150esimo e il 156esimo meridiano ovest del meridiano di Greenwich. Lo scarto possibile da lui attribuito agli errori di osservazione era come si vede di 5 gradi nei due sensi il che a 60 miglia per grado poteva dare un errore di 300 miglia di latitudine o in longitudine in confronto al rilievo esatto. Ma questo errore non poteva influire sul partito da prendere. Era evidente che l'isola di Lincoln si trovava a tale distanza da ogni terra o arcipelago che sarebbe stato impossibile a rischiarsi a superare quella distanza su di una semplice e fragile barca. infatti essa si trovava ad almeno 1200 miglia da Tahiti e dalle isole dell'arcipelago delle Pumutu a più di 1800 miglia dalla Nuova Zelanda a più di 4500 miglia dalla costa americana. E per quanto Cyrus Smith frugasse nella sua memoria non riusciva in nessun modo ricordare che una qualsiasi isola occupasse in quella parte del Pacifico la posizione assegnata dall'isola di Lincoln. Capitolo 15 L'indomani 17 aprile la prima domanda del marinaio fu per Spilett. Ebbene signore gli domandò che cosa diventeremo oggi? Quello che piacerà a Cyrus rispose il giornalista. I compagni dell'ingegnere da Fornacai e Vasai che erano stati fino allora stavano per diventare operai metallurgici. Il giorno precedente dopo colazione l'esplorazione era stata spinta fino alla punta del capomandibola distante quasi sette miglia dai camini. Colà finiva la lunga serie delle dune e il suolo prendeva un aspetto vulcanico. Non erano più alte muraglie granitiche come quello dell'altopiano di Bella Vista ma una bizzarra e capricciosa cornice formata dalle materie minerali eruttate dal vulcano che cingeva lo stretto golfo compreso tra i due capi. I coloni arrivati a quella punta erano poi ritornati sui loro passi e al cadere della notte rientrarono ai camini ma non si addormentarono prima che fosse stata definitivamente risolta la questione di sapere se bisognava pensare a lasciare o no l'isola di Lincoln. Le 1200 miglia che separavano l'isola dall'arcipelago delle Pumutù costituivano una distanza notevole. Una barca non sarebbe bastata superarla soprattutto all'avvicinarsi della cattiva stagione. Pencroff l'aveva formalmente dichiarato ora costruire una semplice imbarcazione era un lavoro difficile anche possedendo gli utensili necessari. Essendo i coloni sprovvisti di utensili bisognava cominciare con il fabbricare martelli scuri accette seghe succhielli pialle eccetera il che avrebbe richiesto un certo tempo. Fu dunque deciso che si sarebbe passato l'inverno sull'isola di Lincoln cercando però una dimora più comoda dei camini. Prima ad ogni altra cosa si trattava di utilizzare il minerale di ferro di cui l'ingegnere aveva osservato qualche giacimento nella parte nord-ovest dell'isola e di trasformare quel minerale sia in ferro che in acciaio. Generalmente il suolo non contiene metalli allo stato puro per la maggior parte essi si trovano combinati con l'ossigeno con lo zolfo. I due campioni portati da Cyrus Smith erano appunto uno di ferro magnetico non carbonato l'altro di pirite chiamata anche solfuro di ferro. Bisognava dunque ridurre il primo cioè l'ossido di ferro per mezzo del carbone vale a dire liberarlo dell'ossigeno per ottererlo allo stato puro. Questa depurazione si fa sottoponendo il minerale a contatto del carbone a un'alta temperatura sia con il rapido e facile metodo catalano che ha il vantaggio di trasformare direttamente il minerale in ferro con una sola operazione sia con il metodo degli alto forni che trasforma dapprima il minerale in ghisa e poi la ghisa in ferro togliendo il 3 o 4% di carbone che permane nella ghisa. Ora di che cosa aveva bisogno Cyrus Smith? Di ferro e non di ghisa ed egli doveva cercare il metodo più rapido di riduzione. D'altronde il minerale raccolto era di per sé stesso molto puro e molto ricco. Ora quel minerale ossidato che si trova in masse confuse di un grigio scuro da una polvere nera. Si cristallizza in ottaedri regolari fornisce le calamite naturali e in Europa serve a fabbricare quei ferri di prima qualità di cui la Svezia e la Norvegia sono così abbondantemente provviste. Non lontano dal giacimento del minerale accennato si trovavano i giacimenti di carbon fossile che i coloni avevano già messi a profitto. Ne conseguiva una grande facilità per la lavorazione del minerale poiché gli elementi della fabbricazione si trovavano vicini. Questo è anzi un fattore della prodigiosa ricchezza degli sfruttamenti minerari del Regno Unito dove il carbon fossile serve a fabbricare il metallo estratto contemporaneamente dallo stesso suolo. Allora signor Cyrus disse Pencroff ci prepariamo a lavorare il minerale di ferro? Sì amico mio rispose l'ingegnere e a tale scopo che credo non vi dispiacerà cominceremo con il dare la caccia alle foche sull'isolotto. la caccia alle foche esclamò il marinaio volgendosi verso Gideon Spilett occorre dunque la foca per fabbricare il ferro se lo dice Cyrus rispose il cronista ma l'ingegnere aveva già abbandonato i camini e Pencroff si preparò alla caccia delle foche senza aver ottenuto altre spiegazioni poco dopo Cyrus Smith Herbert Gideon Spilett Nab e il marinaio erano riuniti sul greto in un punto dove il canale lasciava una specie di passaggio guadabile a bassa marea la marea era il minimo del riflusso e i cacciatori poterono attraversare il canale senza bagnarsi oltre il ginocchio Cyrus Smith metteva per la prima volta il piede sull'isolotto per i suoi compagni invece era la seconda volta poiché il pallone li aveva tutta prima gettati là quando misero piede a terra alcune centinaia di pinguini li guardarono con occhio imbambolato i coloni armati di bastoni avrebbero potuto ucciderli facilmente ma non pensarono affatto di abbandonarsi a un massacro doppiamente inutile tanto più che interessava loro non spaventare gli anfibi che se ne stavano sdraiati sulla sabbia a breve distanza rispettarono pure alcuni innocentissimi apterigidi le cui ali ridotte allo stato di moncherini si appiattivano in forme di pinne ornate di piuma d'apparenza squamosa i coloni si avanzarono dunque prudentemente verso la punta nord camminando sul suolo crivellato di piccole pozze pantanose che formavano altrettanti nidi d'uccelli acquatici verso le estremità dell'isolotto si scorgevano grossi punti neri natanti a fior d'acqua si sarebbero detti calotte di scogli mobili erano gli anfibi che dovevano venire catturati bisognava lasciarli prender terra giacché con il bacino stretto il pelo corto e fitto la conformazione fusiforme che hanno le foche eccellenti nuotatrici sono difficili da prendersi in mare mentre sul suolo i piedi corti e palmati non permettono loro che un movimento di reptazione poco rapido pencroff conosceva le abitudini di questi anfibi e consigliò di attendere che fossero distesi sulla sabbia ai raggi del sole che non avrebbe tardato a farli cadere in un profondo sonno si sarebbe manovrato allora in modo da tagliar loro la ritirata e da colpirli sul muso i cacciatori si nascosero dunque dietro le rocce del lido e aspettarono in silenzio trascorse un'ora prima che le foche venissero a ruzzare sulla sabbia erano una mezza dozzina pencroff e harbert si separarono dagli altri allo scopo di aggirare la punta dell'isolotto in modo da prenderla a tergo e da impedire loro la ritirata nel frattempo cyrus smith gideon spilett e nab strisciando lungo le rocce si portavano furtivamente verso il futuro teatro del combattimento improvvisamente il marinaio si mostrò in tutta l'altezza della propria statura gettò un grido l'ingegnere e gli altri due compagni si gettarono precipitosamente fra il mare e le foche due di esse vigorosamente colpite rimasero a morte sulla sabbia ma le altre poterono riguadagnare il mare e prendere il largo ecco le foche richieste signor cyrus disse il marinaio avanzandosi verso l'ingegnere bene rispose cyrus smith ne faremo dei mantici da fucina mantici da fucina esclamò pencroff ebbene ecco delle foche fortunate infatti l'ingegnere si proponeva di fabbricare con la pelle di quegli anfibi una macchina soffiante necessaria per il trattamento del minerale gli animali erano di corporatura media giacché la loro lunghezza non oltrepassava i sei piedi e per la forma della testa rossomigliavano a cani siccome era inutile caricarsi del non indifferente peso delle due bestie nab e pencroff risolsero di squoiarle sul posto mentre cyrus smith e il giornalista avrebbero finito di esplorare l'isolotto il marinaio e il nero se la cavarono abilmente con il loro lavoro e tre ore dopo cyrus smith aveva a sua disposizione due pelli di foca che contava di utilizzare così come si trovavano senza sottoporle ad alcuna concia i coloni dovettero aspettare che il mare decrescesse dopodiché attraversando il canale ritornarono ai camini non fu lavoro da poco stendere quelle pelli su telai di legno destinati a mantenerle ben tese e cucirle per mezzo di fibre in modo da potervi immagazzinare l'aria senza lasciare troppe fughe bisogna ricominciare da capo parecchie volte cyrus smith non aveva a sua disposizione che le due lame d'acciaio fabbricate con il collare di top ciò nonostante egli fu sì accorto i suoi compagni lo aiutarono con tanta diligenza che tre giorni dopo gli attrezzi della piccola colonia si erano accresciuti di un mantice destinato a soffiare l'aria nel minerale grezzo quando esso sarebbe stato trattato con il calore condizione questa indispensabile per la riuscita dell'operazione la mattina del 20 aprile ebbe inizio il periodo metallurgico così come lo chiamò il giornalista nei suoi appunti come è noto l'ingegnere era deciso operare sul luogo stesso dove si trovavano i giacimenti di carbon fossile e di minerale grezzo ora stando alle sue osservazioni quei giacimenti erano situati ai piedi dei contrafforti nord est del monte franklin cioè a una distanza di 6 miglia non si poteva dunque pensare di ritornare ogni giorno ai camini e fu convenuto che la piccola colonia si sarebbe accampata sotto una capanna di rami in modo che l'importante operazione potesse essere sorvegliata giorno e notte stabilito questo progetto i coloni partirono sin dal mattino nabbe pencroff trascinavano su di un graticcio il mantice e una certa quantità di provviste vegetali e animali che sarebbero poi anche state rinnovate per via la strada seguita fu quella dei boschi dello giacamare che vennero attraversati obliquamente da sud est a nord ovest nella parte più folta fu necessario tracciare un sentiero che avrebbe poi costituito la via di comunicazione più diretta fra l'altipiano di bella vista e il monte franklin gli alberi appartenenti alle specie già nominate erano magnifici harbert ne segnalò fra gli altri dei nuovi erano dracene che pencroff trattò da porri presuntuosi giacché malgrado la loro altezza erano della medesima famiglia delle liliacee come la cipolla le cipolline lo scalogno e gli asparagi queste piante potevano fornire delle radici legnose le quali cotte sono eccellenti e che sottoposte a una certa fermentazione danno un gradevolissimo liquore ne fu fatta provvista la traversata del bosco durò a lungo richiese tutta la giornata ma permise ad osservare la fauna e la flora top più particolarmente incaricato della fauna correva attraverso le erbe e le sterpaglie mettendo in fuga indistintamente ogni sorta di selvaggina harbert e gideon spilett uccisero a frecciate due canguri e inoltre un animale che somigliava molto a un riccio e a un formichiere al primo perché si arrotolava come una palla ed era irto di aculei al secondo perché aveva unghie particolarmente adatte a scavare muso lungo e sottile terminante a becco d'uccello e una lingua estensibile munita di piccole spine che gli servivano a trattenere gli insetti e quando sarà in pentola fece naturalmente osservare pencroff a che cosa assomiglierà a un eccellente pezzo di manzo rispose harbert noi gli chiediamo di più replicò il marinaio durante quell'escursione scorsero alcuni senghiali selvatici che non cercarono affatto di attaccare la piccola comitiva e non pareva quindi che si dovessero incontrare belve pericolose quando in una folta macchia spilett credette di vedere a pochi passi da lui fra i primi rami di un albero un animale che egli prese per un orso e si mise tranquillamente a disegnarlo fortunatamente per Gideon Spilett la bestia non apparteneva alla temibile famiglia dei plantigradi non era che un cula più noto sotto il nome di poltrone che aveva la corporatura di un grosso cane il pelo irto e di colore sporco le zampe armate di robusti artigli che gli permettevano di arrampicarsi sugli alberi e di nutrirsi di foglie verificata l'identità dell'animale che non fu disturbato nelle sue occupazioni Gideon Spilett cancellò la parola orso scritto sotto lo schizzo mise cula al posto di quello e riprese il cammino alle 5 di sera Cyrus Smith dava il segnale di Halt erano giunti fuori dalla foresta laddove nascevano i possenti contraforti che puntellavano verso est il monte Franklin ad alcune centinaia di passi scorreva al creek rosso e quindi l'acqua potabile non era lontana venne subito organizzato l'accampamento in meno di un'ora al margine della foresta fra gli alberi una capanna di rami misti alieni e impastati con argilla offrì un rifugio sufficiente le ricerche geologiche furono rimandate all'indomani la cena fu preparata un buon fuoco fiammeggiò davanti alla capanna lo spiedo girò e alle 8 mentre uno dei coloni vegliava per mantenere acceso il fuoco in caso che qualche bestia pericolosa si fosse aggirata nei dintorni tutti gli altri dormivano di un sonno profondo l'indomani 21 aprile Cyrus Smith accompagnato da Herbert si posa alla ricerca dei terreni di antica formazione sui quali già aveva trovato un campione di minerale grezzo egli ritrovò il giacimento a fior di terra quasi all'assorgente del corso d'acqua ai piedi della base laterale di uno dei contrafforti di nord est quel minerale ricchissimo di ferro chiuso nella sua ganga fusibile si adattava perfettamente al metodo di riduzione che l'ingegnere voleva adottare vale a dire il metodo catalano ma semplificato così come si usa in Corsica infatti il metodo catalano propriamente detto esige la costruzione di forni e di crogioli nei quali il minerale grezzo e il carbone disposti a strati alternati si trasformano e si riducano ma Cyrus Smith voleva risparmiare quelle costruzioni e voleva come se si trattasse della cosa più semplice formare con il minerale grezzo e il carbone una massa cubica al centro della quale avrebbe diretto il soffio del mantice questo era indubbiamente il procedimento usato da tuba alcaine e dai primi metallurghi del mondo abitato ora quello che era riuscito ai nipoti da damo e che dava ancora buoni risultati nelle contrade ricche di minerale greggio e di combustibile non potevano riuscire nelle circostanze in cui si trovavano i coloni dell'isola di Lincoln così come il minerale grezzo anche il carbon fossile fu raccolto senza fatica e non lontano alla superficie del suolo prima si ruppe il minerale in piccoli pezzi e lo si sbarazzò con le mani dalle impurità che ne imbruttivano la superficie poi carbone e minerale furono ammassati a strati alterni così come fa il carbonaio con la legna che vuole carbonizzare in questa maniera sotto l'influsso dell'aria proiettata dal mantice il carbone doveva trasformarsi in acido carbonico poi in ossido di carbonio destinato questo a ridurre l'ossido di ferro cioè a liberarlo dall'ossigeno così procedette l'ingegnere il mantice di pelle di foca munito all'estremità di un tubo di terra refrattaria fabbricato prima nel forno da terraglie fu posto vicino al mucchio di minerale grezzo mosso da un meccanismo i cui congegni consistevano in un telaio corde di fibra e contrappeso esso lanciò nella massa una quantità d'aria che ne elevò la temperatura e contribuì alla trasformazione chimica che doveva dare il ferro puro l'operazione fu difficile fu necessaria tutta la pazienza e l'ingegnosità dei coloni per condurla a buon fine ma finalmente essa riuscì e il risultato definitivo fu un blocco di ferro poroso somigliante a una spugna che bisogna forgiare fucinare insomma per toglierne la ganga liquefatta evidentemente il primo martello mancava a quei fabbri improvvisati ma in fin dei conti essi si trovavano nelle medesime condizioni in cui si era trovato il primo lavoratore di metalli e fecero come egli dovette fare il primo massello con un lungo manico costituito da un bastone servì da martello per foggiare il secondo su un incudine di granito e si pervenne così a ottenere un metallo grossolano ma utilizzabile finalmente dopo tanti sforzi e tante fatiche il 25 aprile parecchie barre di ferro erano forgiate e si trasformarono in utensili pinze tenaglie piccozze zappe eccetera che a Pencrof e a Nabb parvero dei veri capolavori ma non era allo stato di ferro puro che quel metallo poteva rendere i maggiori servigi bensì allo stato di acciaio ora l'acciaio è una combinazione di ferro e di carbonio che si ottiene sia dalla ghisa togliendo a questa l'eccesso di carbonio sia dal ferro aggiungendo allo stesso il carbonio che gli manca il primo ottenuto dalla decarburazione della ghisa dall'acciaio naturale o pudellato il secondo prodotto con la carburazione del ferro dall'acciaio di cementazione Cyrus Smith doveva cercare di fabbricare preferibilmente quest'ultimo giacché possedeva il ferro allo stato puro e vi riuscì riscaldando il metallo con del carbone in polvere in un crogiuolo fatto di terra refrattaria questo acciaio che è malleabile a caldo e a freddo egli lo lavorò poi con il martello nabbe pencro fabilmente diretti ne fecero ferri da scure che scaldate sino a diventare rossi e tuffati bruscamente nell'acqua fredda acquistarono un'eccellente tempera vari altri strumenti rozzamente foggiati e inutile dirlo furono così fabbricati lame da pialla scuri asce strisce d'acciaio destinata a essere trasformate in seghe cesoi e scalpelli e poi ancora ferri da zappa e da piccone martelli chiodi eccetera finalmente il 5 maggio essendo finito il primo periodo metallurgico i fabbri rientrarono ai camini e nuovi lavori li avrebbero da poco autorizzati a prendere una qualifica nuova capitolo 16 si era al 6 di maggio giorno che corrisponde al 6 novembre dei paesi dell'emisfero boreale il cielo da alcuni giorni era nebbiato urgeva quindi prendere opportune disposizioni per svernare nel modo migliore tuttavia la temperatura non si era ancora abbassata sensibilmente un termometro centigrado portato sull'isola di lincoln avrebbe segnato ancora una media fra i 10 e i 12 gradi sopra zero questa media non può sorprendere poiché l'isola di lincoln situata molto verosibilmente fra il 35esimo e il 40esimo parallelo doveva trovarsi sottoposta nell'emisfero sud alle stesse condizioni climatiche della sicilia o della grecia nell'emisfero nord ma come la grecia o la sicilia subiscono freddi violenti che producono neve e ghiaccio così pure l'isola di Lincoln avrebbe certo sofferto nel cuore dell'inverno di abbassamenti di temperatura contro cui conveniva premunirsi ad ogni modo se il freddo non minacciava ancora era tuttavia prossima la stagione delle piogge e su quell'isola abbandonata esposta tutte le intemperie dell'alto mare in pieno oceano pacifico le perturbazioni atmosferiche dovevano essere frequenti e probabilmente terribili la questione di una dimora più comoda dei camini doveva essere dunque seriamente meditata e prontamente risolta Pencroff naturalmente aveva una certa predilizione per quel rifugio da lui scoperto ma anche egli capì che si rendeva necessario cercarne un altro i camini già erano stati visitati dal mare in circostanze certo non dimenticabili e non ci si poteva esporre ancora simili incidenti d'altronde aggiunse Cyrus Smith che in quel giorno parlava di queste cose ai compagni dobbiamo prendere alcune precauzioni perché l'isola non è abitata disse il giornalista questo è probabile rispose l'ingegnere per quanto essa non sia stata ancora da noi esplorata completamente ma se non vi si trova alcun essere umano temo che gli animali pericolosi vi abbondino conviene dunque mettersi al riparo da una possibile aggressione e specialmente non obbligare ogni notte uno di noi a vegliare per mantenere acceso il fuoco e poi cari amici bisogna prevedere tutto noi siamo qui in una parte del pacifico spesso frequentata dai pirati malesi come? disse Harbert a tanta distanza da ogni terra? sì ragazzo mio rispose l'ingegnere questi pirati sono tanto arditi marinai quanto temibili malfattori e di conseguenza dobbiamo prendere adeguate misure ebbene rispose Pencroff ci forticheremo contro i selvaggi a due e quattro zampe ma signor Cyrus non sarebbe il caso di esplorare l'isola in ogni sua parte prima di intraprendere qualche cosa sarà meglio aggiunse Gideon Spilett chissà che non si debba trovare sulla costa opposta una di quelle caverne che abbiamo inutilmente cercato su questa è vero rispose l'ingegnere ma voi dimenticate amici che ci conviene stabilirci nelle vicinanze di un corso d'acqua e che dalla cima del monte Franklin non abbiamo scorto a ovest né un ruscello né un fiume qui invece siamo tra il Mercy e il lago Grant e questo è un vantaggio notevole che non bisogna trascurare per di più questa costa orientata a est non è esposta come l'altra ai venti alisei che soffiano da nord ovest in questo emisfero allora signor Cyrus rispose il marinaio costruiamo una casa in riva al lago adesso non ci mancano né i mattoni né gli attrezzi dopo essere stati fornacciai vasai fonditori fabbri sapremo anche essere muratori che diamine sì amico mio ma prima di prendere una decisione bisogna cercare una dimora di cui la natura avesse fatto tutte le spese ci risparmierebbe molto lavoro e ci offrirebbe senza dubbio un rifugio anche più sicuro già che essa sarebbe molto ben difesa sia contro i nemici interni quanto contro i nemici di fuori infatti Cyrus rispose il giornalista ma abbiamo già esaminato tutta la massa granitica della costa e non abbiamo trovato né un buco né una fenditura no nemmeno una aggiunse Pencroff ah se avessimo potuto scavare un rifugio in quel muro a una certa altezza in modo che fosse al sicuro come sarebbe stato opportuno ecco mi pare di vedere da qui sulla facciata che guarda il mare cinque o sei camere con le finestre per illuminarle disse Albert ridendo è una scala per salirvi aggiunse Nab voi ridete esclamò il marinaio ma perché che cosa c'è di impossibile in quello che io propongo non abbiamo forse piccone e zappe e il signor Cyrus Cyrus non saprà frabicarci anche la polvere per far saltare la mina non è vero signor Cyrus che farete anche la polvere il giorno in cui ci occorrerà Cyrus Smith aveva ascoltato l'entusiasta Pencroff spiegare i suoi progetti un po' fantasiosi attaccare quella massa di granito sia pure a colpi di mina era un lavoro herculeo ed era veramente sgradevole che la natura non avesse provveduto alla parte più dura del lavoro ma l'ingegnere non rispose al marinaio che proponendo di esaminare più attentamente la muraglia dalla foce del fiume sino all'angolo con cui terminava a nord i coloni dunque uscirono e l'esplorazione fu fatta su un'estensione di circa due miglia con estrema cura ma la parete tutta unita e diritta non lasciò scorgere una cavità qualsiasi i nidi dei piccioni di roccia che svolazzavano sulla cima non erano in realtà che buchi fatti nella cresta e sull'orlo inadeguatamente frastagliato del granito era una circostanza incresciosa tanto più che non si poteva assolutamente pensare che attaccare quella massa granitica né col piccone né con la polvere per praticarvi un incavo sufficiente il caso aveva permesso che Pencroff scoprisse il solo ricovero provvisoriamente abitabile su tutta quella parte del litorale vale a dire quei camini che pur bisognava abbandonare a esplorazione compiuta i coloni si trovavano all'angolo nord della muraglia dove essa finiva con lunghi pendii lentamente digradanti fin sulla spiaggia da questo punto fino al suo estremo limite verso ovest la muraglia stessa si riduceva a una specie di argine una fitta agglomerazione di pietra terra e sabbie tenuta insieme da piante arborescelli ed erbe una scarpata di 45 gradi soltanto qua e là il granito affiorava ancora con punte acute da quella specie di scogliera sui pendii della quale erano sparsi gruppi d'alberi mentre un'erba abbastanza folta la tappezzava ma lo sforzo vegetale non andava oltre e una lunga pianura di sabbia che cominciava ai piedi del terrapieno si stendeva fino al litorale Saru Smith pensò non senza ragione che da quella parte doveva trovarsi il punto dove le acque sovrabbondanti del lago sboccavano sotto forma di cascata infatti bisognava necessariamente che l'eccesso d'acqua del creek rosso si rovesciasse in qualche punto ora questo punto l'ingegnere non l'aveva ancora trovato lungo le rive già esplorate vale a dire dalla foce del ruscello ovest sino all'altopiano di bella vista l'ingegnere propose dunque ai compagni di salire lungo il pendio che stavano allora osservando e di ritornare ai camini attraverso le alture esplorando così le rive settentrionali orientali del lago la proposta fu accettata e in pochi minuti Harbert e Nabb erano già arrivati sul pianoro Cyrus Smith Gideon Spilett e Pencroff li seguirono con passo più posato a 200 piedi si vedeva attraverso il fogliame e la bella distesa d'acqua splendere sotto i raggi solari il paesaggio in quel punto era stupendo gli alberi dai toni giallicci si raggruppavano meravigliosamente per il piacere degli occhi alcuni enormi vecchi tronchi abbattuti dal tempo spiccavano per la scorza nerastra sul tappeto verdeggiante che ricopriva il suolo l'aschi amazzava una folla di pappagalli chiassosi veri prismi mobili saltellanti da un ramo all'altro si sarebbe detto che la luce non arrivasse che decomposta attraverso quella singolare ramificazione i coloni invece di raggiungere direttamente la riva nord del lago si tennero sull'orlo del pianoro in modo da arrivare alla foce del corso d'acqua restando sulla riva sinistra era un giro vizioso di un miglio e mezzo al più ma la passeggiata era facile poiché agli alberi molto distanziati lasciavano un comodo passaggio ci si accorgeva che là finiva la zona fertile infatti la vegetazione vi si mostrava meno rigogliosa che in tutta la parte compresa tra il corso del cric rosso e quello del mercy Cyrus Smith e i suoi compagni camminavano con una certa circospezione su quel suolo nuovo per essi archi frecce bastoni con un ferro appuntito per manico erano le loro sole armi ma nessuna belva pericolosa si mostrò probabilmente esse frequentavano piuttosto le folte foreste del sud ma i coloni ebbero a un tratto la sgradita sorpresa di vedere Top fermarsi davanti a un serpente che misurava da 14 a 15 piedi di lunghezza Nab lo ammazzò con un colpo di bastone Cyrus Smith esaminò il rettile e dichiarò che non era velenoso poiché apparteneva alla specie dei serpenti diamanti di cui si nutrono gli indigeni della nuova galles del sud ma era possibilissimo che ne esistessero altri dalla morsicatura mortale come per esempio le vipere sorde a coda forcuta che si drizzano sotto il piede dell'uomo o i serpenti alati muniti di due orecchiette che permettono loro di slanciarsi con estrema rapidità intanto Top passato il primo momento di sorpresa dava la caccia ai rettili con un accanimento che faceva temere per lui tanto che il suo padrone lo richiamava continuamente la foce del creek rosso nel punto dove esso si gettava nel lago fu presto raggiunta gli esploratori riconobbero sulla riva opposta il luogo che già avevano visitato discendendo dal monte Franklin Cyrus Smith constatò che il contributo d'acqua che il creek recava al lago era abbastanza notevole era dunque indispensabile che in un punto qualunque la natura offrisse uno scarico all'eccesso d'acqua e del lago si trattava appunto di scoprire questo scarico giacché senza dubbio esso formava una cascata di cui sarebbe stato possibile utilizzarne la forza meccanica i coloni camminando ciascuno a proprio piacimento ma senza troppo scostarsi gli uni dagli altri presero dunque a percorrere la riva del lago che era molto scoscesa le acque parevano estremamente pescose e Pencroff si propose di fabbricare alcuni ordigni da pesca al fine di sfruttarle bisogno dapprima doppiare la punta guzza di nord est si sarebbe potuto supporre che lo scarico delle acque avvenisse in quel punto poiché l'estremità del lago veniva quasi a pareggiare l'orlo del pianoro ma non era così e i coloni continuarono a esplorare la riva che dopo una leggera curva ridiscendeva parallelamente al litorale da questo lato la sponda del lago era meno boscosa ma alcuni gruppi d'alberi sparsi qua e là rendevano anche più pittoresco il paesaggio il lago Grant si offriva lo sguardo in tutta la sua estensione e non un soffio increspava la superficie delle sue acque Top battendo la macchia fece alzare a volo stormi di uccelli vari che Gideon Spilett e Herbert salutarono con le loro frecce uno di quei volatili fu accortamente raggiunto dal ragazzo e cadde in mezzo alle erbe palustri Top si precipitò verso di esso e riportò un bell'uccello nuotatore color ardesia dal becco corto dall'osso frontale sviluppatissimo dalle dita allargate da un contorno festonato e con le ali ornate da un profilo bianco era una folaga della grossezza di una bella pernice appartenente al gruppo dei macrodattili che costituisce la transizione fra l'ordine dei trampolieri e quello dei palmipedi magra selvaggina dunque e di un sapore che doveva lasciare molto a desiderare ma Top si sarebbe mostrato indubbiamente meno difficile dei suoi padroni fu quindi convenuto che la folaga avrebbe servito alla sua cena i coloni percorrevano allora la riva orientale del lago e non dovevano essere molto lontani dalla parte già esplorata l'ingegnere era meravigliatissimo di non vedere alcun indizio di scolo delle acque eccedenti e non dissimulava il proprio stupore al giornalista e al marinaio che discorrevano con lui in quel momento Top che era stato calmissimo sino ad allora diede segni di agitazione l'intelligente animale andava e veniva sulla riva si fermava poi improvvisamente e guardava le acque alzando una zampa come se fosse stato in attesa di qualche invisibile preda poi abbagliava con furore braccando per così dire Indy taceva improvvisamente né Cyrus Smith e nei suoi compagni avevano dapprima fatto attenzione allo strano contegno di Top ma i latrati del cane divennero ben presto così frequenti che l'ingegnere se ne preoccupò che cosa c'è Top? domandò il cane fece parecchi salti verso il suo padrone manifestando una vera e viva inquietudine e si slanciò di nuovo verso la riva poi tutto a un tratto si precipitò nel lago qui Top! gridò Cyrus Smith che non voleva lasciare il suo cane avventurarsi in quelle acque sospette che cosa succede dunque là sotto? domandò Pencroff esaminando la superficie del lago Top avrà sentito qualche anfibio rispose Herbert un alligatore indubbiamente disse il giornalista non credo rispose Cyrus Smith gli alligatori si trovano solo in regioni di latitudine meno elevata intanto Top era tornato indietro in seguito alla chiamata del suo padrone e aveva riguadagnato la sponda ma non poteva starsene tranquillo saltava in mezzo alle alte erbe e guidato dal suo istinto pareva seguire qualche essere invisibile che si fosse furtivamente cacciato sotto le acque del lago rasettando negli orli non di meno le acque erano calme e la loro superficie non era turbata dal più lieve increspamento parecchie volte i coloni si fermarono sulla riva osservando attentamente nulla ci doveva essere qualche mistero l'ingegnere era molto impensierito proseguiamo questa esplorazione fino alla meta disse mezz'ora dopo tutti erano arrivati all'angolo sud est del lago e si ritrovarono ancora sull'altipiano di bella vista a questo punto l'esame delle rive del lago doveva considerarsi terminato e pur tuttavia l'ingegnere non aveva potuto scoprire dove e come si operava lo scarico delle acque eppure lo scarico deve esistere egli ripeteva e poiché non è all'esterno bisogna che esso sia scavato nell'interno della massa granitica della costa ma che importanza netteta tale scoperta caro Cyrus domandò Gideon Spilett un'importanza abbastanza grande rispose l'ingegnere poiché se la dispersione delle acque si compie attraverso la massa granitica è probabile che vi si possa trovare qualche cavità che sarebbe facile rendere abitabile dopo averne allontanate le acque ma non può adarsi signor Cyrus che le acque scorrono lungo il fondo stesso del lago disse Herbert e che vadano al mare per un codotto sotterraneo può essere infatti rispose l'ingegnere e se così è saremo obbligati a costruire noi la nostra stessa casa poiché la natura non ha fatto le prime spese di costruzione i coloni si accingevano dunque ad attraversare l'altipiano per ritornare ai camini giacché erano le 5 di sera quando Top diede nuovi segni di agitazione esso abbagliava rabbiosamente e prima ancora che il suo padrone potesse trattenerlo si precipitò una seconda volta nel lago tutti corsero verso la riva il cane ne era già lontano più di 20 piedi e Cyrus Smith lo richiamava vivamente quando una testa enorme emerse dalla superficie delle acque che non parevano profonde in quel punto Herbert riconobbe subito la specie di anfibio cui apparteneva a quella testa conica dai grandi occhi decorata da baffi di lunghi peli setolosi un lamantino gridò non era un lamantino ma un esemplare di questa specie appartenente all'ordine dei cetacei portante il nome di dugongo perché le sue narici sono aperte nella parte superiore del muso l'enorme animale si era precipitato sul cane che cercò in vano di evitarlo ritornando verso la sponda l'ingegnere non poteva far nulla per salvarlo e prima ancora che fosse venuto in mente a Gideon Spileto o ad Herbert di armare gli archi Top afferrato dal dugongo scomparve sott'acqua Nab con il suo spiedo di ferro in mano voleva gettarsi in soccorso di Top deciso a combattere il formidabile animale perfino nel suo elemento no Nab disse l'ingegnere trattenendo il suo coraggioso servitore frattanto una lotta si svolgeva sott'acqua lotta inesplicabile già che Top non poteva evidentemente resistere in quelle condizioni lotta che doveva essere terribile come si poteva indovinare dalla straordinaria di agitazione della superficie del lago lotta insomma che non poteva finire se non con la morte del cane ma improvvisamente in mezzo a un cerchio di spuma si vide ricomparire Top lanciato in aria da qualche forza ignota a un'altezza di dieci piedi sulla superficie del lago esso ricadde in mezzo alle acque profondamente sconvolte e riguadagnò in breve la riva senza ferite gravi miracolosamente salvo Cyrus Smith e i suoi compagni guardavano senza capire circostanza non meno inspiegabile si sarebbe detto che la lotta continuasse ancora sott'acqua indubbiamente il dugongo attaccato da qualche animale più possente dopo aver lasciato il cane si batteva ora per suo conto ma lo spettacolo non durò a lungo le acque si arrossarono di sangue e il corpo del dugongo emergente da una gran chiazza scarlatta che si propagava largamente venne poco dopo ad arenarsi su un piccolo greto all'angolo sud del lago i coloni accorsero il dugongo era morto era un enorme animale lungo dai 15 ai 16 piedi che doveva pesare dalle 3 alle 4.000 libre nel suo collo s'apriva una ferita che sembrava essere stata fatta con una lama tagliente qual era l'anfibio che aveva potuto eliminare con un colpo così terribile il formidabile dugongo nessuno avrebbe potuto dirlo abbastanza preoccupati da questo incidente Cyrus Smith e i compagni fecero ritorno ai camini che si fa Capitolo 17 L'indomani, 7 maggio, Cyrus Smith e Gideon Spilett, lasciando Nabba preparare la colazione, salirono sull'altipiano di Bella Vista, mentre Herbert e Pencroff risalivano lungo il fiume per rinnovare la provvista di legna. L'ingegnere e il cronista giunsero in breve al piccolo Greto, posto alla punta sud del lago, sul quale l'anfibio morto era rimasto incagliato. Già stormi d'uccelli si erano avventati su quella massa carnosa e bisogna scacciarli a sassate, poiché Cyrus Smith desiderava conservare il grasso dell'animale e utilizzarlo per le necessità della colonia. Quanto alla carne del bestione, essa poteva anche fornire un eccellente nutrimento, dato che in certe regioni della Malesia essa è particolarmente riservata alla tavola dei principi indigeni, ma ciò sarebbe stato compito di Nab. In quel momento Cyrus Smith aveva altri pensieri per il capo. L'incidente del giorno precedente non si era affatto cancellato dalla sua mente e non cessava di preoccuparlo. Egli avrebbe voluto penetrare il mistero di quel combattimento sottomarino e sapere che genere di mastodonte o altro mostro marino avesse prodotto una ferita così strana al dugongo. L'ingegnere se ne stava dunque là, sull'orlo del lago, guardando, osservando. Ma nulla si scorgeva sotto le acque tranquille che scintillavano i primi raggi del sole. Intorno al piccolo greto su cui giaceva il corpo dell'anfibio, l'acqua era poco profonda, ma da quel punto il fondo del lago si abbassava poco a poco e probabilmente verso il centro la profondità doveva essere notevole. Il lago poteva essere considerato come un'ampia vasca riempita dalle acque del cric rosso. Dunque, Cyrus, disse il giornalista, mi pare che queste acque non presentino niente di sospetto. No, caro Spilett, rispose l'ingegnere, e non so davvero come spiegare l'incidente di ieri. Riconosco, rispose Gideon Spilett, che la ferita fatta a questo anfibio è perlomeno strana. Non saprei meglio spiegare come ha potuto succedere che Top sia stato così vigorosamente rigettato fuori dall'acqua. Si potrebbe credere che sia stato lanciato così da un possente braccio e che il medesimo braccio armato di un pugnale abbia poi dato la morte al dugongo. Sì, rispose l'ingegnere che era diventato pensieroso. C'è in tutto questo qualche cosa che non riesco a capire, ma comprendete forse meglio, caro Spilett, in che modo io stesso sia stato salvato, come abbia potuto essere stato strappato ai flutti e trasportato fra le dune. No, vero? Così, presagisco anche in ciò qualche mistero che un giorno indubbiamente sveleremo. Osserviamo dunque, ma non insistiamo con i nostri compagni su questi singolari incidenti. Teniamo per noi le nostre osservazioni e continuiamo il nostro lavoro. Come è noto, l'ingegnere non aveva ancora potuto scoprire per dove se ne andasse l'eccesso d'acqua e del lago, ma non avendo veduto mai nessun indizio che il lago traboccasse, bisognava necessariamente che esistesse uno scarico da qualche parte. Ora appunto Cyrus Smith fu assai sorpreso di notare una corrente piuttosto pronunciata che si faceva sentire in quel posto. Gettò alcuni pezzetti di legno e vide che si dirigevano verso l'angolo sud. Seguì questa corrente, camminando sulla sponda, e arrivò alla punta meridionale del lago. Ivi si produceva una specie di depressione delle acque, come se fossero bruscamente perdute in qualche fessura del suolo. Cyrus Smith ascoltò, mettendo l'orecchio a livello del lago, e sentì molto distintamente il rumore di una cascata sotterranea. «È qui!» disse rialzandosi. «È qui che avviene lo scarico delle acque, e qui indubbiamente che per mezzo di un condotto scavato nel granito esse vanno a raggiungere il mare attraverso qualche cavità che noi potremmo utilizzare a nostro profitto. Sicuro saprò approfittarne!» L'ingegnere tagliò un lungo ramo, lo spogliò delle foglie e immergendolo all'angolo delle due rive constatò che esisteva un largo buco aperto a un piede soltanto sotto la superficie delle acque. Quel buco era l'apertura di sbocco in vano cercata fino allora e la forza della corrente in quel punto era così intensa che il ramo fu strappato dalle mani dell'ingegnere e disparve. «Adesso non c'è più nessun dubbio!» ripetè Cyrus Smith. «Là è l'apertura dello scarico e io la metterò allo scoperto!» «Come?» domandò Gideon Spilett, abbassando di tre piedi il livello delle acque del lago. «Ma come farete ad abbassare il loro livello?» aprendo loro un'altra uscita più ampia di questa. «In quale punto, Cyrus?» «Sulla parte della riva che più si avvicina alla costa!» «Ma è una riva di granito!» fece osservare il giornalista. «Ebbene!» rispose Cyrus Smith. «Questo granito lo farò saltare e le acque sfuggendo dal nuovo sbocco si abbasseranno in modo da scoprire la famosa apertura!» «E formeranno una cascata cadendo sulla spiaggia!» aggiunse il giornalista. «Una cascata che noi utilizzeremo!» rispose Cyrus. «Venite! Venite!» E l'ingegnere trasse seco il compagno, la cui fiducia in Cyrus Smith era tale da non permettergli alcun dubbio sulle riuscite dell'impresa. Eppure come intaccare la riva di granito? Come, senza polvere con degli strumenti imperfetti, disgregare quelle rocce? Non era un lavoro superiore alle sue forze quello in cui l'ingegnere si accaniva a cimentarsi? Quando Cyrus Smith e il giornalista rientrarono ai camini, vi trovarono Herbert e Pencroff occupati a scaricare il loro traino di legna. «Italia legna avranno presto finito, signor Cyrus!» disse ridendo al marinaio. «E quando avrete bisogno di muratori?» «Di muratori?» «No, ma di chimici!» rispose l'ingegnere. «Sì!» aggiunse il cronista. «Stiamo per far saltare l'isola!» «Far saltare l'isola!» esclamò Pencroff. «Almeno in parte!» replicò Spilett. «Ascoltatemi, amici!» disse l'ingegnere. E fece loro conoscere il risultato delle sue osservazioni. Secondo lui, una cavità più o meno considerevole doveva esistere nella massa di granito che reggeva l'altipiano di Bella Vista, ed egli voleva penetrare sino ad essa. Per far questo bisognava prima di tutto mettere allo scoperto l'apertura attraverso la quale si precipitavano le acque, e a questo scopo bisognava abbassarne il livello, procurando loro uno sbocco più ampio. Di qui la necessità di produrre una sostanza esplosiva, con la quale praticare un canale di scolo in un altro punto della riva. Sarah Smith stava appunto per tentare questo, usando i minerali che la natura metteva a sua disposizione. È inutile dire con quale entusiasmo tutti, e più particolarmente Pencroff, accolsero la proposta. Adoperare i grandi mezzi, sventrare quel granito, creare una cascata, tutto questo piaceva immensamente al marinaio. Ed egli sarebbe stato adesso un chimico tanto zelante, dato che l'ingegnere aveva ora bisogno di chimici, quanto in altro momento avrebbe potuto essere muratore o calzolaio. Egli sarebbe stato tutto quello che si sarebbe voluto che fosse, anche professore di danza e di belle maniere, disse a Nab, se mai questo potesse essere necessario. Nab e Pencroff furono subito incaricati di estrarre il grasso del dugongo e di conservarne la carne destinata all'alimentazione. Essi partirono subito, senza altre spiegazioni. La fiducia che avevano nell'ingegnere era assoluta. Pochi istanti dopo, Cyrus Smith, Herbert e Gideon Spilett, trainando il solito graticcio e risalendo il corso del fiume, si diressero verso il giacimento di carbon fossile, dove abbondavano quelle piriti schistose che si trovano infatti nei più recenti terreni di transizione e delle quali Cyrus Smith aveva già raccolto un campione. Tutta la giornata fu impiegata a trasportare una certa quantità di quelle piriti ai camini. Verso sera ve ne erano parecchie tonnellate. L'indomani 8 maggio l'ingegnere iniziò le sue manipolazioni. Le piriti schistose erano composte principalmente di carbone, di silice, d'alluminio e di solfuro di ferro, quest'ultimo in grande quantità. Si trattava dunque di separare dalle altre sostanze il solfuro di ferro e di trasformarlo in solfato più rapidamente che fosse possibile. Ottenuto il solfato se ne sarebbe estratto l'acido solforico, infatti era quello lo scopo da raggiungere. L'acido solforico è uno degli agenti chimici più adoperati e l'importanza industriale di una nazione si può misurare dal consumo che essa ne fa. Questo acido sarebbe stato anche in seguito estremamente utile ai coloni per la fabbricazione delle candele steariche, la concia delle pelli, eccetera, ma in quel momento l'ingegnere lo riservava ad altro uso. Cyrus Smith scelse dietro ai camini un luogo in cui il suolo fosse reso con ogni cura tutto ugualmente piano. Su questa spianata egli innalzò un cumulo di rami e di legna tagliata a pezzetti sul quale furono collocati dei frammenti di schisti piritici appoggiati gli uni contro gli altri. Il tutto fu poi ricoperto da un sottile strato di piriti ridotte prima alla grossezza di una noce. Fatto questo fu appiccato il fuoco alla legna e il calore si comunicò agli schisti che si infiammarono poiché contenevano del carbone e dello zolfo. Allora furono aggiunti nuovi strati di piriti frantumate, ordinandoli in modo da formare un enorme mucchio rivestito esteriormente di terra e di erbe, dopo avervi opportunamente praticato alcune aperture per il passaggio dell'aria come se si fosse trattato di bruciare un ammasso di legna per farne carbone. Poi si lasciò che la trasformazione si compisse. Non occorrevano meno di 10 o 12 giorni perché il solfuro di ferro si trasformasse in solfato di ferro e l'alluminio in solfato d'alluminio. Due sostanze queste ugualmente solubili, mentre le altre, silice, carbone bruciato e cenere, non lo erano. Mentre si compiva questo lavoro chimico, Cyrus Smith fece procedere ad altre operazioni. Essi mettevano in tutto più che zelo, un vero accanimento. Nab e Pencroff avevano estratto il grasso del dugongo che era stato raccolto in grandi orci di terra. Ora si trattava di separare da questo grasso uno dei suoi elementi, la glicerina, saponificando il grasso medesimo. Per ottenere questo risultato bastava trattarlo con la soda o la calce. Infatti l'una o l'altra di queste sostanze, dopo aver intaccato il grasso, avrebbe dato del sapone, isolando la glicerina. Ed era appunto questa che l'ingegnere voleva ottenere. La calce non gli mancava, come si sa. Solo che il trattamento con la calce non poteva dare che dei saponi calcarei, insolubili e di conseguenza inutili. Mentre il trattamento con la soda avrebbe fornito invece un sapone solubile che avrebbe trovato la sua applicazione nei vari bisogni della pulizia domestica. Quindi Cyrus Smith, da uomo pratico, doveva preferibilmente cercare di ottenere della soda. Era difficile? No, poiché le piante marine abbondavano sulla spiaggia. Salicornie, ficoidi e tutte quelle fucacee cui appartengono le alghe e i goemoni. Fu quindi raccolta una grande quantità di queste piante, che vennero prima fatte essiccare, poi bruciare in fossa all'aria aperta. La combustione di queste piante fu mantenuta per parecchi giorni, in modo che il calore si elevasse fino a fondarne anche le ceneri. E il risultato dell'incenerimento fu una compatta massa grigiastra, che da un pezzo è conosciuta sotto il nome di soda naturale. Ottenuto questo risultato, l'ingegnere trattò il grasso con la soda. Si ebbe così un sapone solubile e la sostanza neutra, chiamata glicerina. Ma non era ancora tutto. Occorreva ancora a Cyrus Smith, in vista della sua attività futura, un'altra sostanza, il nitrato di potassio, che è più conosciuto sotto il nome di sale di nitro o salnitro. Cyrus Smith avrebbe potuto fabbricare questa sostanza trattando il carbonato di potassio, che si estrae facilmente dalle ceneri dei vegetali con acido nitrico. Ma l'acido nitrico gli mancava, ed era proprio quello che egli voleva ottenere. Si trovava così dinnanzi a un circolo vizioso, da cui non sarebbe mai uscito. Fortunatamente però, questa volta la natura gli fornì il salnitro, senza che egli avesse altro disturbo che quello di raccoglierlo. Herbert ne scoperse un giacimento a nord dell'isola, ai piedi del monte Franklin, e non vi fu altro da fare che purificarlo. Questi diversi lavori durarono circa otto giorni. Essi erano dunque finiti prima che si fosse compiuta la trasformazione del solfuro in solfato di ferro. Durante i giorni che seguirono, i coloni ebbero il tempo di fabbricare dei vasi refrattari in argilla malleabile e di costruire un fornello di mattoni, di forma speciale, destinato alla distillazione del solfato di ferro, quando questo fosse stato prodotto. Tutte queste utilissime cose furono ultimate verso il 18 maggio, cioè pressappoco allorché la trasformazione chimica volgeva al suo termine. Gideon Spilett, Herbert, Nabbe e Pencroff, abilmente guidati dall'ingegnere, erano diventati i più abili operai del mondo. La necessità è, d'altronde, il maestro che più si ascolta e che meglio insegna. Quando il mucchio di piriti fu interamente trasformato dal fuoco, il prodotto dell'operazione, consistente in solfato di ferro, solfato d'alluminio, silice, residuo di carbone e cenere, fu deposto in una vasca piena d'acqua. Si agitò questa miscela, la si lasciò posare, poi la si decantò e se ne ottenne un liquido chiaro contenente soltanto del solfato di ferro e del solfato d'alluminio in soluzione, essendo le altre materie rimaste solide perché insolubili. Infine, essendo questo liquido in parte evaporato, dei cristalli di solfato di ferro si depositarono sul fondo e le acque madri, vale a dire il liquido non evaporato che conteneva del solfato d'alluminio, furono abbandonate. Cyrus aveva dunque a sua disposizione un'assai grande quantità di cristalli di solfato di ferro dai quali si trattava ora di estrarre l'acido solforico. Nella pratica industriale la fabbricazione dell'acido solforico esige degli impianti costosi. Occorrono infatti grandi capannoni, attrezzature speciali, apparecchi di platino, camere di piombo inattaccabili all'acido nelle quali avviene la trasformazione, eccetera. L'ingegnere non aveva certo tutti questi mezzi a sua disposizione, ma sapeva che in boemia soprattutto si fabbrica l'acido solforico anche con mezzi più semplici, i quali offrono inoltre il vantaggio di produrlo a un grado superiore di concentrazione. Così si fa l'acido conosciuto sotto il nome di acido di Nordhausen. Per ottenere l'acido solforico, a Cyrus Smith non restava da fare che una sola operazione, calcinare in un vaso chiuso i cristalli di solfato di ferro, di modo che l'acido solforico si distillasse in vapori, i quali vapori avrebbero poi prodotto l'acido per condensazione. A questa operazione appunto servirono le terraglie refrattarie nelle quali furono messi i cristalli e il forno il cui calore doveva distillare l'acido solforico. L'operazione fu condotta perfettamente a termine e il 20 maggio, 12 giorni dopo averla iniziata, l'ingegnere era in possesso dell'agente chimico che egli contava di utilizzare in seguito nei più svariati modi. Ora, perché voleva egli possedere tale agente? Semplicemente per produrre l'acido nitrico, il che fu facile, poiché il sal nitro, attaccato dall'acido solforico, gli diede precisamente l'acido nitrico per distillazione. Ma in fin dei conti, a quale uso avrebbe egli destinato l'acido nitrico? I suoi compagni lo ignoravano ancora, già che egli non aveva ancora detto la sua ultima parola. intanto l'ingegnere raggiungeva il suo scopo con l'ultima operazione, dalla quale ottenne la sostanza che aveva richiesto tante manipolazioni. Dopo aver preso dell'acido nitrico, egli lo mise in presenza della glicerina, che era stata precedentemente concentrata per evaporazione a bagnomaria, e ne ottenne, pur senza impiegare miscela refrigerante, parecchie pinte di un liquido oleoso e giallastro. Quest'ultima operazione Cyrus Smith l'aveva fatta da solo, in disparte, lontano dai camini, in quanto essa presentava pericoli di esplosione. E quando portò ai suoi amici un recipiente di quel liquido, si limitò a dir loro. Ecco la nitroglicerina! Infatti, quello era proprio il terribile prodotto, la cui potenza esplosiva è forse decupla di quella polvere ordinaria che ha già causato tante disgrazie. Questo è il liquore che deve far saltare i nostri macigni? Disse Pencroff con aria abbastanza incredula. Sì, amico mio, rispose l'ingegnere, e questa nitroglicerina produrrà tanto maggiore effetto quanto più il granito duro e opporrà una resistenza più grande allo scoppio. E quando vedremo ciò, signor Cyrus? Domani, dopo che avremo praticato un foro da mina, rispose l'ingegnere. L'indomani, 21 maggio all'alba, i minatori si recarono in un'insenatura che formava la riva est del lago Grant, a soli 500 passi dalla costa. In quel punto l'altipiano cadeva a strapiombo sulle acque, le quali erano trattenute solamente dalla cornice di granito. Era dunque evidente che se si abbatteva questa cornice, le acque sarebbero sfuggite per l'apertura e avrebbero formato un ruscello che, dopo essere scorso sulla superficie inclinata dell'altipiano, sarebbe andato a gettarsi sulla spiaggia. Di conseguenza ci sarebbe stato un abbassamento generale del livello del lago e sarebbe venuto alla luce l'apertura di scarico, il che costituiva lo scopo finale. Si trattava dunque di abbattere la cornice di granito. Sotto la direzione dell'ingegnere Pencroff, armato di un piccone che gli maneggiava accortamente e vigorosamente, attaccò il granito nel suo rivestimento esterno. Il buco, che bisognava praticare, nasceva da uno scalino sulla riva e doveva addentrarsi nel masso obliquamente, in modo da incontrare un livello sensibilmente inferiore a quello delle acque del lago. In quella guisa, la forza esplosiva, aprendo la roccia, avrebbe permesso alle acque di riversarsi largamente al di fuori e quindi di abbassarsi sufficientemente. Il lavoro fu lungo, giacché l'ingegnere, volendo produrre un effetto formidabile, si proponeva di consacrare non meno di 10 litri di nitroglicerina all'operazione. Ma Pencroff e NAB, dandosi il cambio, lavorarono tanto bene che verso le 4 della sera il foro per mina era compiuto. Rimaneva il problema dell'accensione della sostanza esplosiva. Ordinariamente la nitroglicerina si infiamma per mezzo dell'esca di fulminato, che scoppiando determina l'esplosione. Occorre infatti un urto per provocare l'esplosione, giacché semplicemente accesa, la nitroglicerina brucierebbe senza esplodere. Cyrus Smith avrebbe certamente potuto fabbricare un'esca. In mancanza di fulminato, egli avrebbe potuto facilmente ottenere una sostanza analoga al cotone fulminante, poiché aveva dell'acido nitrico a sua disposizione. Questa sostanza, chiusa in una cartuccia e introdotta nella nitroglicerina, sarebbe esplosa a mezzo di una miccia e avrebbe così determinato lo scoppio. Ma Cyrus Smith sapeva che la nitroglicerina ha la proprietà di esplodere in seguito ad un urto, ed egli risolse dunque di utilizzare questa proprietà, salvo ricorrere ad altro procedimento se quello non fosse riuscito. Infatti, il colpo di un martello su alcune gocce di nitroglicerina sparse sulla superficie di una pietra dura basta provocare l'esplosione. Ma l'operatore non poteva essere là a dare il colpo di martello senza rimanere vittima dell'operazione. Cyrus Smith pensò dunque di sospendere un sostegno sopra il buco della mina e per mezzo di una fibra vegetale una massa di ferro pesante parecchie libre. Un'altra lunga fibra, solforata in precedenza, veniva legata a metà della prima per una delle sue estremità, mentre l'altra estremità terminava al suolo a parecchi piedi di distanza dal buco della mina. Accesa questa seconda fibra, essa avrebbe bruciato sino a raggiungere la prima, la quale, pigliando fuoco a sua volta, si sarebbe rotta, lasciando precipitare la massa di ferro sulla nitroglicerina. Tutto fu dunque disposto in questo modo, dopodiché l'ingegnere, fatti allontanare i suoi compagni, riempì il foro da mina in guisa che la nitroglicerina arrivasse al livello dell'apertura e ne gettò alcune gocce anche sulla superficie della roccia, sotto la massa di ferro già sospesa. Fatto ciò, Cyrus Smith prese l'estremità della fibra solforata, l'accese e abbandonando il luogo ritornò ai camini presso i compagni. La fibra doveva bruciare per 25 minuti. E infatti, 25 minuti dopo, rimbombò un'esplosione, di cui sarebbe impossibile dare anche una pallida idea. Tutta l'isola parve tremare dalle fondamenta. Una grande quantità di pietre si proiettò nell'aria, come se fosse stata eruttata da un vulcano. La scossa prodotta dallo spostamento d'aria fu così violenta che le rocce dei camini oscillarono e i coloni, benché fossero a più di due miglia dalla mina, furono buttati per terra. Essi si rialzarono, risalirono sull'altipiano e corsero verso il luogo dove la riva del lago doveva essere stata sventrata dall'esplosione. Un triplice viva proruppe dai loro petti. La cornice di granito era aperta per un largo tratto. Un rapido corso d'acqua ne usciva, correva spumeggiando attraverso l'altipiano, ne raggiungeva l'orlo e si gettava da un'altezza di 300 piedi sulla spiaggia. Capitolo 18 Il progetto di Cyrus Smith era riuscito, ma egli, secondo la sua abitudine, senza manifestare alcuna soddisfazione con le labbra strette, lo sguardo fisso restava immobile. Harbert era entusiasta, Nab saltava dalla gioia, Pencroff dondolava la grossa testa mormorando Via! È proprio bravo il nostro ingegnere! Infatti la nitroglicerina aveva agito potentemente. Lo sfogo aperto al lago era di tale importanza che il volume delle acque che si riversavano dal nuovo sbocco era almeno il triplo di quello che doveva prima scaricarsi per l'antico. Poco dopo l'operazione ne doveva seguire un abbassamento del livello del lago di almeno due piedi. I coloni ritornarono ai camini per prendervi picconi, bastoni ferrati, corde di fibra, un acciarino e dell'esca. Indi ripartirono all'altipiano. Top le accompagnava. Strada facendo, il marinaio non poteva fare a meno di dire all'ingegnere «Ma sapete, signor Cyrus, che con il delizioso liquore che avete fabbricato si potrebbe far saltare l'intera nostra isola?» «Senza dubbio! L'isola, i continenti e la terra medesima!» rispose Cyrus Smith. «È solo questione di quantità!» «Non potreste dunque usare la nitroglicerina per caricare le armi da fuoco?» domandò il marinaio. «No, Pencroff, è una sostanza troppo pericolosa, ma sarebbe invece agevole fabbricare del cotone fulminante oppure della comune polvere da sparo dato che abbiamo l'acido nitrico, il salnitro, lo zolfo ed il carbone. Disgraziatamente non abbiamo le armi!» «Oh, signor Cyrus!» rispose il marinaio. «Con un po' di buona volontà!» Decisamente Pencroff aveva cancellato la parola impossibile dal dizionario dell'isola di Lincoln. Giunti all'altipiano di Bella Vista, i coloni si diressero immediatamente verso il punto del lago vicino al quale si trovava l'apertura dell'antico sbocco, che ormai doveva essere allo scoperto. Lo sbocco sarebbe divenuto praticabile, poiché le acque non vi si precipitavano più e sarebbe stato senza dubbio facile studiarne la disposizione interna. In pochi istanti i coloni raggiunsero l'angolo inferiore del lago e bastò loro un colpo d'occhio per constatare che il risultato era stato ottenuto. Infatti nella parete granitica del lago e ora sopra il livello delle acque appariva l'apertura tanto cercata. Uno stretto rilievo lasciato nudo dalle acque permetteva di arrivarvi. L'apertura misurava circa 20 piedi di larghezza, ma non ne aveva che due di altezza. Era come la bocca di una fogna al margine di un marciapiede. Non avrebbe dunque offerto un facile passaggio ai coloni, ma Nab e Pencroff impugnarono i loro picconi e in meno di un'ora ne ampliarono sufficientemente l'altezza. Allora l'ingegnere si avvicinò e constatò che le pareti dello sbocco nella parte superiore presentavano una pendenza di non più di 30 o 35 gradi. Esse erano dunque praticabili e purché la loro inclinazione non aumentasse sarebbe stato facile di scenderle anche fino al livello del mare. Se dunque, come era probabilissimo, una qualche cavità esisteva nell'interno della massa granitica, si sarebbe forse potuto trovare modo di utilizzarla. Ebbene, signor Cyrus, che cosa ci trattiene qui? domandò il marinaio impaziente di avventurarsi nel cunicolo. Vedete, top ci ha preceduti. Bene, rispose l'ingegnere, ma prima bisogna vederci chiaro. Nab, vai a tagliare alcuni rami resinosi. Nab e Herbert corsero verso le rive del lago, ombreggiata da pini e da altri alberi verdi, e tornarono tosto con dei rami che prepararono a mo' di torce. Queste torce furono accese al fuoco dell'accerino e con Cyrus Smith alla testa i coloni si introdussero nello scuro budello che le acque avevano sino a poco prima riempito. Contrariamente a quanto si sarebbe potuto supporre, il diametro del budello si allargava sempre più di guisa che gli esploratori poterano quasi subito discendere restando diritti. Le pareti di granito logorate dall'acqua da tempo immemorabile erano sdrucciolevoli e bisognava stare attenti per non cadere. Perciò i coloni si erano legati gli uni agli altri con una corda, come fanno gli alpinisti. Fortunatamente alcune sporgenze del granito che formavano dei veri gradini rendevano la discesa meno pericolosa. Qua e la goccioline d'acqua ancora sospese alle rocce divenivano iridescenti al fuoco delle torce e si sarebbe potuto credere che le pareti fossero rivestiti di innumerevoli stallattiti. L'ingegnere osservò quel granito nero, ma non ci vide né una stratificazione né un'incrinatura. La massa era compatta e di grana estremamente unita. L'esistenza di quel canale datava dunque dall'origine stessa dell'isola. Non erano state le acque a scavarlo poco a poco. Plutone e non Nettuno l'aveva fatto con la sua mano, tanto che si potevano distinguere sulla muraglia le tracce di un lavoro eruttivo che lo sciacquio delle onde non aveva potuto cancellare interamente. I coloni discendevano molto lentamente. Essi non potevano non provare una certa emozione nell'avventurarsi così in quelle profondità che esseri umani visitavano evidentemente per la prima volta. Non parlavano ma riflettevano e a più d'uno dovette venire il pensiero che qualche polipo o altro gigantesco cefalopodo poteva occupare la cavità interna in comunicazione con il mare. Bisognava dunque avanzare con una certa prudenza. Del resto Top stava alla testa della piccola schiera e si poteva fare affidamento sulla sagacia del cane che occorrendo non avrebbe certo mancato di dare l'allarme. Dopo essere disceso per un centinaio di piedi per una via piuttosto sinuosa, Cyrus Smith che camminava innanzi si fermò e i compagni lo raggiunsero. Il punto ove sostarono era incavato in modo da formare una caverna di mediocri dimensioni. Gocce d'acqua cadevano dalla volta ma non provenivano da uno stilicidio attraverso la massa granitica. Erano semplicemente le ultime tracce lasciate dal torrente che per tanto tempo era passato in quella cavità. L'aria, leggermente umida, non emetteva alcuna esalazione metifica. Ebbene, mio caro Cyrus, disse allora Gideon Spilett, ecco un rifugio completamente ignorato e nascosto in queste profondità, ma è inabitabile. Perché è inabitabile? domandò il marinaio. Perché è troppo piccolo, è troppo oscuro. E non possiamo ingrandirlo, scavarlo, praticarvi delle aperture per la luce e l'aria? Rispose Pencroff che non dubitava più di nulla. Continuiamo, rispose Cyrus Smith. Continuiamo la nostra esplorazione. Forse più oltre la natura può averci risparmiato un simile lavoro. Non siamo che a un terzo dell'altezza, fece osservare Herbert. A un terzo circa, rispose Cyrus Smith. Poiché abbiamo percorso in discesa un centinaio di piedi dall'apertura e non è impossibile che cento piedi più in basso... Dov'è dunque Top? domandò Nab interrompendo il padrone. Si cercò nella caverna. Il cane non c'era. Probabilmente avrà continuato la sua strada, disse Pencroff. Raggiungiamolo, rispose Cyrus Smith. La discesa ricominciò. L'ingegnere osservava accuratamente le deviazioni che subiva la galleria e malgrado tanta tortuosità si rendeva abbastanza facilmente conto della sua direzione generale che andava verso il mare. I coloni erano scesi ancora di una cinquantina di piedi, quasi perpendicolarmente, quando la loro attenzione fu attratta da suoni lontani che venivano dalle profondità della massa granitica. Si fermarono e ascoltarono. Quei suoni condotti dal cunicolo come la voce da un tubo acustico arrivavano nettamente all'orecchio. Sono i latrati di Top! Esclamò Herbert. Sì! Rispose Pencroff. E il nostro bravo cane abbia anche con furore! Abbiamo i nostri bastoni ferrati, disse Cyrus Smith. Stiamo in guardia e avanti! La faccenda diviene sempre più interessante, mormorò Gideon Spilett all'orecchio del marinaio che fece un segno affermativo. Cyrus Smith e i suoi compagni si precipitarono per recare aiuto al cane. I latrati di Top! diventavano sempre più percettibili. Si sentiva nella sua voce rotta una rabbia strana. Era dunque alle prese con qualche animale di cui avevano turbato la pace della tana nascosta? Si può dire che senza pensare al pericolo a cui si esponevano, i coloni si sentivano adesso presi da un'irresistibile curiosità. Essi non discendevano più il corridoio, si lasciavano per così dire scivolare, e in pochi minuti erano discesi di altri sessanta piedi e avevano raggiunto Top! Là il corridoio metteva a capo una vasta e magnifica caverna. Là Top, andando e venendo, abbaiava furiosamente. Pencroff e Nab, scuotendo le torce, gettarono fasci di luce su tutte le asperità del granito, mentre nello stesso tempo Cyrus Smith, Gideon Spilett e Herbert, col bastone impugnato, si tenevano pronti ad ogni evento. L'enorme caverna era vuota, i coloni la percorsero in tutti i sensi. Non c'era nulla, non un animale, non un essere vivente, e non di meno Top continuava ad abbaiare, né carezze né minacce riuscirono a farlo tacere. Deve esserci in qualche parte un'uscita per la quale le acque del lago se ne andavano al mare, disse l'ingegnere. Infatti, rispose Pencroff, e stiamo attenti a non cadere in qualche baratro. Va Top, vai, gridò Cyrus Smith. Il cane, eccitato dalle parole del suo padrone, corse verso l'estremità della caverna e là i suoi latrati raddoppiarono. I coloni lo seguirono e al lume delle torce apparve l'orifizio di un vero pozzo a prendersi nel granito. Appunto per di là uscivano le acque che prima d'allora si internavano nella massa granitica. Però questa volta non si trattava più di un corridoio obliquo e praticabile, ma di un pozzo perpendicolare nel quale sarebbe stato impossibile avventurarsi. Le torce furono protese sopra l'apertura. Non si vide nulla. Cyrus Smith staccò un ramo acceso e lo gettò in quell'abisso. La resina ardente, il cui potere illuminante era cresciuto dalla rapidità della caduta, rischiarò l'interno del pozzo. Ma nulla apparve ancora. Poi la fiamma si spense con un leggero sfrigolio, indicando che aveva raggiunto la superficie dell'acqua, cioè il livello del mare. L'ingegnere, calcolando il tempo impiegato nella caduta, poteva lutare la profondità del pozzo, che risultò di 90 piedi circa. Il suolo della caverna era, dunque, a 90 piedi sul livello del mare. Ecco la nostra abitazione, disse Cyrus Smith. Ma essa era occupata da qualche essere, rispose Gideon Spilett, che non sentiva soddisfatta la sua curiosità. Ebbene, l'essere qualsiasi, anfibio o altro, è fuggito per questa apertura, rispose l'ingegnere, e ci ha ceduto al posto. Non importa, aggiunse il marinaio. Avrei proprio voluto essere Top un quarto d'ora fa, poiché insomma esso non può aver abbaiato senza motivo. Cyrus Smith guardava il suo cane e quello, fra i suoi compagni che gli si fosse avvicinato, l'avrebbe sentito mormorare queste parole. Sì, credo anch'io che Top la sappia più lunga di noi su molte cose. I desideri dei coloni si avveravano in gran parte, mercè quella scoperta. Il caso, aiutato dalla meravigliosa vedutezza del loro capo, li aveva felicemente assecondati. Ora avevano a loro a disposizione una vasta caverna, di cui non potevano ancora, al chiarore insufficiente delle torce, misurare l'ampiezza. Ma che sarebbe stato certamente facile dividere in camere con dei tramezzi di mattoni, adattandola, se non come una casa, almeno come uno spazioso appartamento. Le acque l'avevano abbandonata e non vi potevano più ritornare. Il campo era libero. Rimanevano due difficoltà. Prima di tutto la possibilità di illuminare quello spazio vuoto scavato in un blocco compatto, secondariamente la necessità di rendere l'accesso più agevole. Non bisognava neppure pensare a far venire la luce dall'alto, giacché un enorme spessore di granito costituiva il soffitto della caverna. Ma si sarebbe forse potuto afforare la parete anteriore, in faccia al mare. Cyrus Smith, che durante la discesa aveva valutato con una certa approssimazione la pendenza e di conseguenza la lunghezza del sotterraneo, era indotto a credere che la parte anteriore della muraglia non fosse molto spessa. Se si fosse ottenuta in tal modo l'illuminazione, anche l'accesso alla caverna sarebbe stato un fatto compiuto, giacché fare una porta sarebbe stato altrettanto facile che fare delle finestre, nonché costruire una scala esterna. Cyrus Smith comunicò le sue idee ai suoi compagni. Allora, signor Cyrus, all'opera, rispose Pencroff. Ho il mio piccone e saprò farmi luce attraverso questo muro, dove bisogna colpire. Qui, rispose l'ingegnere indicando al vigoroso marinaio un incavo assai notevole nella parete che doveva diminuirne lo spessore. Pencroff attaccò il granito e per una mezz'ora al chiarore delle torce ne fece volare le schegge intorno a sé. La roccia mandava scintille sotto il suo piccone. Nab gli diede il cambio e dopo Nab anche Gideon Spilett. Questo lavoro durava già da due ore, per cui si poteva dunque temere che in quel punto lo spessore della muraglia eccedesse la lunghezza del piccone. Quando a un ultimo colpo vibrato da Gideon Spilett lo strumento, passando attraverso il muro, cadda al di fuori. Evviva, sempre viva! gridò Pencroff. La muraglia di duro granito non misurava in quel punto che tre piedi di spessore. Cyrus Smith mise l'occhio all'apertura, alta 80 piedi dal suolo. Dinnanzi a lui si stendeva la battigia, l'isolotto e più oltre il mare immenso. Per quel foro abbastanza largo, giacché la roccia si era largamente frantumata, la luce entrò a fiotti e produsse un effetto magico inondando quella splendida caverna. Se nella sua parte sinistra essa non misurava più che 30 piedi d'altezza e di larghezza su una lunghezza di 100 piedi, nella parte destra invece essa era enorme e la sua volta s'arrotondava più di 80 piedi d'altezza. In alcuni punti dei pilastri di granito, irregolarmente disposti, sostenevano gli spigoli della volta come quelli di una navata di cattedrale. E qui invece era tutta opera della natura. Essa sola aveva scavato questo fantastico alhambra in un masso di granito. I coloni erano attoniti per l'ammirazione. Dove essi non credevano di trovare che un'angusta cavità, trovavano invece una specie di palazzo meraviglioso. Grida d'ammirazione erano partite da tutte le bocche. Gli evviva si elevavano e andavano a perdersi di in eco in eco sino in fondo alle oscure navate. «Ah, amici!» esclamò Cyrus Smith. «Quando avremo abbondantemente rischiarato l'interno di questa massa granitica, quando avremo allestito le nostre camere, i depositi, le dispense nella parte sinistra, ci rimarrà ancora questa splendida caverna della quale faremo la nostra sala di studio e il nostro museo?» «E come lo chiameremo?» domandò Herbert. «Granite House!» rispose Cyrus Smith e i suoi compagni salutarono quel nome con nuovi evviva. Le torce erano ormai quasi interamente consumate e siccome per ritornare bisognava riguadagnare la sommità dell'altopiano risalendo il lungo cunicolo, fu deciso di rimettere all'indomani i lavori relativi alla sistemazione della nuova dimora. Prima di prendere la via del ritorno, Cyrus Smith si chinò ancora una volta al di sopra del pozzo scuro che si sprofondava perpendicolarmente fino al livello del mare. Ascoltò attentamente. Non si udì nessun rumore, nemmeno quello delle acque, che pure il moto ondoso oceanico doveva talvolta agitare in quelle profondità. Fu gettato ancora un rametto di resina acceso. Le pareti del pozzo si rischiararono per un istante. Ma anche questa volta, come prima, nulla di sospetto si rivelò. Se qualche mostro marino era stato inopinatamente sorpreso dal ritirarsi delle acque, esso aveva ormai ripreso il largo per mezzo del condotto sotterraneo che si prolungava fin sotto la spiaggia e che l'eccesso dell'acqua del lago già percorreva prima che un nuovo passaggio le fosse stato offerto. Però l'ingegnere immobile, l'orecchio attento, lo sguardo immerso nella voragine, non pronunciava una parola. Il marinaio allora gli si avvicinò e toccandogli il braccio... «Signor Smith!» disse. «Che cosa volete, amico?» rispose l'ingegnere come se fosse tornato dal paese dei sogni. «Le torce stanno per spegnersi!» «In cammino!» rispose Cyrus Smith. La piccola comitiva abbandonò la caverna e cominciò la sua ascensione attraverso l'oscuro corridoio. Top chiudeva la marcia e faceva udire ancora degli strani brontolii. L'ascensione fu assai penosa. I coloni sostarono alcuni istanti nella grotta superiore che formava come una specie di pianerottolo a metà di quella lunga scala di granito. Poi ricominciarono a salire. Poco dopo si fece sentire un'aria più fresca. Le goccioline, asciugate dall'evaporazione, non scintillavano più sulle pareti. Il chiarore fuliginoso delle torce impallidiva. Quella portata da nab si spense, così che per non avventurarsi in mezzo a un'oscurità profonda fu necessario affrettarsi. In tal modo, un po' prima delle quattro, nel momento in cui la torcia del marinaio si spegneva a sua volta, Cyrus Smith e i suoi compagni sboccavano dall'apertura all'aria aperta. Capitolo 19 L'indomani, 22 maggio, furono iniziati i lavori di adattamento della nuova residenza. I coloni infatti non vedevano l'ora di cambiare il loro insufficiente ricovero dei camini con quel vasto e sano rifugio scavato nella viva roccia, al riparo delle acque del mare e del cielo. I camini tuttavia non dovevano essere interamente abbandonati ed era intenzione dell'ingegnere di farne un laboratorio per i lavori più pesanti. Il primo pensiero di Cyrus Smith fu di rendersi conto del punto preciso su cui dava la facciata di granite house. Si recò sulla spiaggia ai piedi dell'enorme muraglia e siccome il piccone sfuggito dalle mani del giornalista doveva essere caduto perpendicolarmente bastava ritrovare quel piccone per poter stabilire il punto dove era stato praticato il foro nel granito. Il piccone fu facilmente ritrovato e infatti un buco si apriva in linea perpendicolare al di sopra del punto dove esso si era conficcato nella sabbia a circa 80 piedi sopra la spiaggia. Dei piccioni di roccia entravano e uscivano già dalla stretta apertura. Pareva proprio che granite house fosse stata scoperta apposta per loro. L'intenzione dell'ingegnere era di dividere la parte destra della caverna in più stanze precedute da un corridoio d'entrata e di darvi luce mediante cinque finestre e una porta ad aprirsi nella facciata. Pencroff ammetteva le cinque finestre ma non comprendeva l'utilità della porta dato che l'antico sbocco offriva una scala naturale per la quale sarebbe stato facile accedere a granite house. Amico gli rispose Cyrus Smith se ci è facile arrivare alla nostra dimora per l'apertura del sotterraneo ciò sarà ugualmente facile anche ad altri. Io ho pensato invece di ostruire l'apertura di tapparla ermeticamente e anche se occorre di celarne assolutamente l'entrata provocando mediante uno sbarramento un aumento delle acque del lago. E come entreremo? domandò il marinaio. Per una scala esterna rispose Cyrus Smith una scala di corda una volta ritirata questa l'accesso alla nostra abitazione diverrà impossibile. Ma perché tante precauzioni? chiese Pencroff. A tutt'oggi non mi è sembrato che gli animali siano molto temibili quanto poi a essere abitata dagli indigeni la nostra isola non presenta questo pericolo. Ne siete ben certo Pencroff? domandò l'ingegnere guardando il marinaio. È evidente che ne saremo sicuri solo quando avremo esplorato l'isola in tutte le sue parti. Rispose Pencroff. Appunto disse Cyrus Smith poiché non ne conosciamo ancora che una piccola parte ma in ogni caso se all'interno non abbiamo nemici possono venirne da fuori poiché questi paraggi del pacifico sono assai mal frequentati. Prendiamo dunque le nostre precauzioni contro ogni eventualità. Cyrus Smith parlava saggiamente e Pencroff senza più fare obiezioni si accinse a eseguire i suoi ordini. La facciata di granite house stava dunque per essere munita di cinque finestre e di una porta a uso dell'appartamento propriamente detto di una finestra molto ampia nonché di finestrelle rotonde che avrebbero permesso alla luce di entrare a profusione nella meravigliosa navata che doveva servire da salone. La facciata posta a un'altezza di 80 piedi dal suolo era volta ad est ed il sole sorgendo la salutava con i suoi primi raggi. Essa si estendeva sulla parte di cortina compresa tra la sporgenza formante angolo sulla foce del Mersi e una linea tracciata perpendicolarmente al di sopra dell'ammasso di rocce che formavano i camini. Perciò i venti cattivi vale a dire quelli di nord est non la colpivano che di traverso già che essa era naturalmente protetta dall'orientazione stessa della sporgenza ad angolo. D'altronde in attesa che fossero fatte le intelaiature delle finestre l'ingegnere aveva intenzione di chiudere le aperture con spesse imposte che non lasciassero passare né vento né pioggia e che si potessero dissimulare occorrendo. Il primo lavoro consistette dunque nel praticare i fori sopraccennati. L'opera del piccone sulla dura roccia sarebbe stata troppo lenta mentre si sa che Cyrus Smith era l'uomo delle grandi risorse. Egli possedeva ancora una certa quantità di nitroglicerina e la doperò utilmente. L'effetto della sostanza esplosiva fu opportunamente localizzato e sotto l'azione potente di essa il granito si sfondò nei punti stabiliti dall'ingegnere. Poi il piccone e la zappa perfezionarono il disegno ogivale delle cinque finestre, della finestra più larga, dei finestrini e della porta. Ne dirozzarono le cornici i cui profili furono abbastanza capricciosamente fissati e alcuni giorni dopo l'inizio dei lavori Granite House era ampiamente rischiarata da quella viva luce di levante che penetrava fino alle sue più segrete profondità. Secondo il piano fissato da Cyrus Smith l'appartamento doveva essere dunque diviso in cinque scompartimenti tutti con vista sul mare. A destra un'entrata con una porta alla quale avrebbe fatto capo la scala. Poi una prima stanza a uso di cucina larga 30 piedi, una stanza da pranzo di 40 piedi, un dormitorio di uguale larghezza e infine una stanza per gli amici voluta da Pencroff a Tigua alla Sala Grande. Queste camere, o meglio questa serie di camere, costituenti l'appartamento di Granite House, non dovevano però occupare tutta la profondità della caverna. Dovevano essere disimpegnate da un corridoio lasciato tra esse e a un lungo magazzino nel quale gli utensili, le provviste e le riserve avrebbero trovato comodamente posto. Tutti i prodotti raccolti nell'isola, sia quelli della flora che quelli della fauna, si sarebbero ivi trovati in eccellenti condizioni di conservazione e completamente al riparo dall'umidità. Lo spazio non mancava e ogni oggetto avrebbe potuto essere riposto con ordine. Inoltre i coloni avevano ancora a loro disposizione la grotta piccola posta al di sopra della grande caverna e che sarebbe stata come il granaio della nuova dimora. Stabilito questo piano non rimaneva che metterlo in esecuzione. I minatori ridivennero quindi fornacciai, poi i mattori furono trasportati e deposti ai piedi di Granite House. Sino allora Cyrus Smith e i suoi compagni erano entrati nella caverna sempre per l'antico ingresso. Questo modo di comunicazione li obbligava prima a salire sull'altipiano di Bella Vista facendo un giro vizioso per la riva del fiume, poi a discendere di 200 piedi nel cunicolo, indi a risalire di altrettanto quando volevano ritornare sull'altipiano. Di qui perdita di tempo e fatiche notevoli. Cyrus Smith decise perciò di procedere senza indugio alla fabbricazione di una solida scala di corda che una volta ritirata avrebbe reso l'ingresso di Granite House assolutamente inaccessibile. Questa scala fu confezionata con la massima cura e i suoi montanti, formati da fibre di curry attorcigliate mediante un tornello, avevano la solidità di un grosso cavo. I pioli furono fatti con una varietà di cedro rosso dai rami leggeri e resistenti e tutto il lavoro fu eseguito da Pencroff con mano maestra. Altre corde furono fabbricate ugualmente con fibre vegetali e una specie di carrucula rudimentale fu installata alla porta. In questo modo i mattoni poterono facilmente essere sollevati sino al livello di Granite House. Il trasporto dei materiali venne a essere così molto semplificato e l'adattamento dell'interno propriamente detto cominciò subito. La calce non mancava e alcune migliaia di mattoni erano pronti a essere adoperati. L'armatura dei tramezzi, molto rudimentale del resto, fu facilmente retta e in un brevissimo tempo l'abitazione fu divisa in camere e in depositi secondo il piano prestabilito. Tutti questi diversi lavori venivano eseguiti rapidamente sotto la direzione dell'ingegnere che maneggiava egli pure il martello e la cazzuola. Nessun lavoro era estraneo a Cyrus Smith che dava così l'esempio ai compagni non meno intelligenti e zelanti. Quegli uomini lavoravano con fiducia, con gaiezza persino. Pencroff aveva sempre pronta la facezia, ora carpentiere, ora cordaio, ora muratore. Comunicava il suo buon umore a tutto quel piccolo mondo. La sua fede nell'ingegnere era assoluta, nulla avrebbe potuto turbarla. Lo credeva capace di tentare tutto e di riuscire in tutto. Il problema dei vestiti e delle calzature, problema indubbiamente grave, quello dell'illuminazione durante le notti invernali, la messa in valore delle parti fertili dell'isola, la trasformazione di quella flora selvaggia in flora coltivata. Tutto gli sembrava facile con l'aiuto di Cyrus Smith ed egli era certo che tutto si sarebbe fatto a suo tempo. Il marinaio sognava fiumi incanalati per il trasporto delle ricchezze del suolo, sfruttamenti di cave e di miniere da intraprendere, macchine atte a tutte le lavorazioni industriali e ferrovie sicuro, proprio delle ferrovie, la cui rete avrebbe un giorno certamente coperto l'isola di Lincoln. L'ingegnere lasciava dire a Pencroff e non smorzava per nulla le entusiastiche esagerazioni di quel gran cuore. Sapeva quanto la fiducia sia comunicativa e sorrideva anzi ascoltandolo parlare, nulla dicendo delle inquietitudini che talvolta gli ispirava all'avvenire. Infatti in quella parte del Pacifico, lungi dall'itinerario delle navi, c'era da temere di non essere mai soccorsi. I coloni dovevano dunque contare su se stessi, sulle loro sole forze, giacché la distanza dall'isola di Lincoln a ogni altra terra era così grande che arrischiarsi sul mare con un'imbarcazione necessariamente imperfetta sarebbe stata un'impresa grave e pericolosa. Ma come diceva il marinaio, essi superavano di cento cubiti i Robinson di un tempo, per i quali tutto ciò che facevano era un miracolo. E infatti essi sapevano e l'uomo che sa riesce laddove altri vegeterebbero o perirebbero inevitabilmente. Durante tutti quei lavori, Herbert si distinse. Era intelligente, attivo, comprendeva presto, eseguiva bene e Cyrus Smith gli si affezionava sempre più. Il ragazzo provava per l'ingegnere una viva e rispettosa amicizia. Pencroff vedeva la stretta simpatia che si formava tra quei due esseri, ma non era per niente geloso. Nab era Nab. Era quello che sarebbe stato comunque. Il coraggio, lo zelo, la devozione, l'abnegazione in persona. Aveva nel suo padrone la medesima fiducia di Pencroff, ma la manifestava meno rumorosamente e quando il marinaio si entusiasmava, Nab aveva sempre l'aria di rispondergli, ma non c'è nulla di più naturale. Pencroff e lui si volevano molto bene e non avevano tardato a darsi del tu. Quanto a Gideon Spilett, anche egli prendeva parte al lavoro comune e non era il meno abile, della qual cosa il marinaio si meravigliava sempre un poco. Un giornalista capace non solo di comprendere tutto, ma anche di eseguire tutto. La scala fu installata definitivamente il 28 maggio. Data l'altezza di 80 piedi che essa misurava, non contava meno di 100 pioli. Fortunatamente Cyrus Smith aveva potuto dividerla in due parti, approfittando di uno strapiombo della muraglia che formava una sporgenza a una quarantina di piedi al di sopra del suolo. Questa sporgenza, accuratamente livellata con il piccone, divenne una specie di pianerottolo sul quale venne fissata la prima scala. La parte di essa destinata a rimanere sospesa nel vuoto venne così ridotta a metà. Una corda avrebbe poi permesso di tirar su la scala stessa a livello di granite house. Quanto alla seconda scala, essa fu fissata con uguale solidità tanto nella sua estremità inferiore, che poggiava sulla sporgenza, quanto nell'estremità superiore, che venne collegata addirittura alla porta. In tal modo l'ascensione divenne molto più facile. D'altronde Cyrus Smith pensava di installare più tardi un ascensore idraulico, che avrebbe evitato ogni fatica e ogni perdita di tempo agli abitanti di granite house. I coloni si abituarono presto a servirsi della scala. Erano svelti e agili, e Pencroff, abituato come marinaio a correre sul sartiame, poteva dar loro lezione. Però fu necessario che gli desse lezione anche a Top. Il povero cane, con le sue quattro zampe, non era fatto per quell'esercizio. Ma Pencroff era un maestro così zelante che Top finì per eseguire decentemente le sue ascensioni e seppe in breve tempo montare la scala, come facilmente fanno i suoi consimili nei circhi. Non si può dire se il marinaio si sentisse fiero del suo allievo. È certo invece che Pencroff più di una volta dovette portarselo sulle spalle, della qualcosa Top non si lagnava mai. Conviene far notare a questo punto che per quanto i lavori fin qui descritti fossero stati eseguiti con la massima lacrità, già che si avvicinava la cattiva stagione, pur tuttavia durante il loro svolgimento non era stata trascurata la questione alimentare. Ogni giorno il cronista e Herbert, diventati definitivamente i provveditori della colonia, dedicavano alcune ore alla caccia. Sfruttavano intanto solo il bosco dello Giacamar, sulla sinistra del fiume, poiché per mancanza di un ponte o di una barca il Mersi non era ancora stato attraversato. Le immense foreste cui era stato dato il nome di foreste del far west erano dunque completamente inesplorate. Quest'importante escursione era stata riservata per i primi giorni di bel tempo della prossima primavera. Ma i boschi dello Giacamar erano sufficientemente ricchi di selvaggina, i canguri e i cinghiali vi abbondavano e gli spiedi ferrati, l'arco e le frecce dei cacciatori facevano meraviglie. Inoltre Herbert scoperse, verso l'angolo sud-ovest della laguna, una conigliera naturale, cioè una specie di prateria leggermente umida, ombreggiata da salici e coperta d'erbe aromatiche che profumavano l'aria, come timo, serpillo, basilico, santoreggia, tutte varietà odorose della famiglia delle labiate, delle quali i conigli sono straordinariamente ghiotti. Avendo il giornalista osservato che essendo vitavola imbandita per i conigli, sarebbe stato stupefacente che i conigli mancassero. I due cacciatori esplorarono attentamente la prateria, la quale a ogni modo produceva in abbondanza piante utili, per cui un naturalista vi avrebbe potuto studiare numerosi esemplari del regno vegetale. Herbert raccolse una quantità di germogli di basilico, di rosmarino, di melissa, di betonica, eccetera, che possiedono qualità terapeutiche diverse, alcune per le affezioni polmonari, astringenti, febbrifughe, altre antispasmodiche o antireumatiche. E quando più tardi Pencroff gli domandò a che cosa sarebbe servito tutta quella raccolta d'erbe, a curarci, rispose il ragazzo, quando saremo ammalati. E perché ci ammaleremmo dal momento che nell'isola non ci sono medici? rispose molto seriamente Pencroff. A questa osservazione nulla si poteva opporre, ma il ragazzo non tralasciò per questo di fare la sua provvista, che fu molto bene accolta a granite house, tanto più che alle piante medicinali egli aveva potuto unire una quantità notevole di monarde didime conosciute nell'America settentrionale con il nome di tè dosuego, che producono un'eccellente bevanda. Finalmente, quel giorno, cercando bene, i due cacciatori giunsero sulla vera area della garenna. Il terreno era in quel punto bucarellato come una schiumarola. «Le tane!» esclamò Herbert. «Sì!» rispose il giornalista. «Le vedo bene! Ma sono abitate? Questo è il problema!» Il problema non tardò a essere risolto. Quasi subito centinaia di animaletti, somiglianti a conigli, scapparono in tutte le direzioni e con tale rapidità che lo stesso top non avrebbe potuto vincerli in velocità. Cacciatori e cane ebbero un bel correre. Qui i roditori sfuggirono loro facilmente. Ma il giornalista era ben deciso a non abbandonare il luogo prima di aver catturato almeno una dozzina di quei quadrupedi. Egli voleva innanzitutto rifornire la dispensa, salvo poi addomesticare i conigli che si sarebbero presi in seguito. Con qualche laccio teso all'apertura delle tane, l'operazione non poteva fallire. Ma al momento non c'erano né lacci né possibilità di fabbricarne. I due cacciatori dovettero quindi rassegnarsi a esplorare le tane ad una ad una, frugandole con un bastone, facendo insomma, a forza di pazienza, quello che non si poteva fare altrimenti. Finalmente, dopo un'ora di ricerche, quattro roditori furono presi nel covo. Erano conigli abbastanza somiglianti ai conigli europei e comunemente conosciuti con il nome di conigli americani. Il prodotto della caccia venne dunque portato a granite house e fece parte del pasto serale. Del resto, gli ospiti della Garenna non erano disprezzabili, anzi, avevano un sapore delizioso. Quella fu dunque una preziosa risorsa per la colonia, tanto più che sembrava inesauribile. Il 31 maggio i tramezzi erano ultimati. Non restava che arredare le camere, lavoro questo che avrebbe occupato i lunghi giorni d'inverno. Nella prima stanza che serviva da cucina si costruì un focolare. Il tubo destinato a convogliare fuori il fumo diede qualche fastidio agli improvvisati fumisti. A Cyrus Smith pareva più semplice a fabbricarlo in terra di mattoni, siccome non poteva pensare di farlo uscire all'altipiano superiore. Si fece un buco nel granito sopra la finestra della cucina e il tubo, collocato obliquamente, passò da quel foro come quello di una stufa di lamiera. Probabilmente, senza dubbio, anzi, con il forte vento d'est che batteva direttamente la facciata, il camino avrebbe fatto fumo. Ma detti venti erano rari e, d'altra parte, Mastronab, il cuoco, non guardava tanto per il sottile. Quando tutti questi lavori interni furono compiuti, l'ingegnere si accinse a turare l'apertura dell'antico sbocco che metteva al lago, in modo da impedire l'ingresso a chiunque per quella via. Blocchi di roccia furono rotolati fino all'apertura e saldamente cementati. Cyrus Smith non mise per il momento in esecuzione il suo progetto di coprire quella bocca con le acque ricondotte al loro precedente livello mediante una diga di sbarramento. Si limitò a dissimulare l'avvenuta otturazione per mezzo di erbe, arbusti e sterpi che vennero piantati negli interstizi delle rocce e che, nella primavera prossima, si sarebbero sviluppati esuberantemente. Tuttavia, egli utilizzò lo scarico per condurre fino alla nuova dimora un filo delle acque dolci del lago. Un canaletto, praticato al di sotto del loro livello, diede questo risultato e tale derivazione di una sorgente pura e inesaubribile diede un rendimento da 25 a 30 galloni al giorno. L'acqua non sarebbe dunque mai mancata Granite House. Finalmente tutto fu terminato, ed era tempo, poiché la cattiva stagione stava per giungere. Grosse e rozze imposte permettevano di chiudere le finestre della facciata, in attesa che l'ingegnere avesse avuto il tempo di fabbricare del vetro. Gideon Spilett aveva con molta arte disposto nelle sporgenze del macigno, attorno alle finestre, piante di varie specie, nonché lunghe erbe rampicanti, in modo che le aperture della facciata risultavano incorniciate da una pittoresca verzura di incantevole effetto. Gli abitanti della solida, sana e sicura dimora non potevano dunque che essere lietissimi del loro lavoro. Le finestre consentivano al loro sguardo di estendersi su di un orizzonte illimitato, chiuso a nord dai due capi mandibola e a sud dal capo artiglio. L'intera baia dell'Unione si spiegava magnificamente innanzi a essi. Sì, quei bravi coloni avevano ragione di essere soddisfatti e Pencroff non lesinava gli elogi a quello che egli umoristicamente chiamava il suo appartamento al quinto piano sopra l'ammezzato. Capitolo 20 L'inverno cominciò veramente con il mese di giugno, che corrisponde al mese di dicembre dell'emisfero boreale. Esordì con acquazzoni e raffiche senza tregua. Gli abitanti di Granite House poterono apprezzare i vantaggi di una dimora dove le intemperie non potevano giungere. Il rifugio dei camini sarebbe stato davvero insufficiente contro i rigori di un invernato. Dovendosi anche temere che le grandi maree spinte dai venti provenienti dal largo vi avrebbero potuto fare ancora eruzione. Anzi, in previsione di questa eventualità, Cyrus Smith prese delle precauzioni allo scopo di preservare, per quanto era possibile, la fucina e i fornelli che vi erano impiantati. Durante tutto il mese di giugno il tempo fu impiegato in svariati lavori, non escluse la caccia e la pesca, per cui le riserve della dispensa poterono essere mantenute abbondanti. Pencroff si proponeva, appena gli fosse stato possibile, di collocare opportunamente delle trappole, da cui egli si aspettava risultati straordinari. Aveva fabbricato dei laggi con fibre legnose, per cui non passava giorno senza che la garenna fornisse il suo contingente. Nab occupava quasi tutto il suo tempo a salare o ad affumicare carni, la qual cosa assicurava alimenti ottimamente conservati. Alla fine, i coloni dovettero discutere molto seriamente anche la questione dei vestiti. Essi non avevano altri indumenti che quelli che indossavano quando il pallone li aveva gettati sull'isola. Questi abiti tenevano caldo ed erano resistenti. Essi poi ne avevano avuto estrema cura, così come della biancheria, tenendoli in perfetta stato di pulizia. Ma ciò nonostante, sarebbe stato presto necessaria una sostituzione. Inoltre, se l'inverno fosse stato rigido, i coloni avrebbero molto sofferto per il freddo. In questo, l'ingegnosità di Cyrus Smith fu colta alla sprovvista. Egli aveva provveduto ai bisogni più urgenti, l'abitazione e l'alimentazione. Ma il freddo l'aveva sorpreso prima che il problema dei vestiti fosse risolto. Bisognava dunque rassegnarsi a passare quel primo inverno senza troppo lamentarsi. Venuta la bella stagione, si sarebbe fatta una serie a caccia ai mufloni, di cui era stata segnalata la presenza durante l'esplorazione del Monte Franklin, e una volta raccolta la lana, l'ingegnere avrebbe ben saputo fabbricare delle stoffe morbide e durature. Come? Ci avrebbe pensato. Ce la caveremo arrostendoci polpacci a granite house, disse Pencroff. Il combustibile abbonda e non c'è alcuna ragione di risparmiarlo. D'altronde, rispose Gideon Spilett, l'isola di Lincoln non è posta a una latitudine molto elevata ed è quindi probabile che gli inverni non siano crudi. Non ci avete detto, Cyrus, che il trentacinquesimo parallelo in cui si trova l'isola corrisponde a quello della Spagna nell'altro emisfero? Indubbiamente, rispose l'ingegnere. Ma certi inverni sono freddissimi in Spagna. Neve e ghiaccio, nulla vi manca e anche l'isola di Lincoln potrebbe essere rigorosamente provata. Tuttavia è un'isola e come tale spero che la temperatura vi sia più moderata. Perché, signor Cyrus? Chiese Herbert. Perché il mare, ragazzo mio, può considerarsi come un immenso serbatoio nel quale si immagazzina il calore estivo. Nell'inverno esso restituisce tale calore e questo assicura alle regioni vicine agli oceani una temperatura media, meno elevata d'estate, ma anche meno bassa d'inverno. Lo vedremo, rispose Pencroff. Non voglio preoccuparmi oltre del freddo che farà o che non farà. Ciò che certo intanto è che i giorni sono già brevi e le serate lunghe. Se trattassimo un po' il problema dell'illuminazione... Niente di più facile, rispose Cyrus Smith. Da trattare? Domandò il marinaio. Da risolvere. E quando cominceremo? Domani, organizzando una caccia alle foche. Per fabbricare delle candele di sego? E via Pencroff, delle candele steariche! Questo era infatti il proposito dell'ingegnere, proposto realizzabile dal resto, poiché c'era la calce e l'acido solforico, e gli anfibi dell'isolotto avrebbero fornito il grasso necessario a quella fabbricazione. Si era il 4 di giugno. Era la domenica di Pentecoste e all'unanimità fu deciso di osservare la festa. Tutti i lavori furono sospesi e preghiere si elevarono al cielo. Ma le preghiere erano ormai ringraziamenti. I coloni dell'isola di Lincoln non erano più dei miseri naufraghi gettati sull'isolotto. Essi non chiedevano più, ma ringraziavano. L'indomani 5 giugno, con un tempo piuttosto incerto, partirono per l'isolotto. Bisognò ancora approfittare della bassa marea per passare a guado il canale, e a questo proposito si convenne di costruire, bene o male, una barca per rendere più facili le comunicazioni e permettere anche di risalire il fiume Mersi, quando si sarebbe compiuta la grande esplorazione del sud-ovest dell'isola, rinviata ai primi giorni di bel tempo. Le foche erano numerose, e i cacciatori, armati dai loro spiedi ferrati, ne uccisero facilmente una mezza dozzina. Nabbe Pencroff le scuoiarono e non portarono a granite house che il grasso e la pelle, dovendo queste servire alla fabbricazione di solide calzature. Il risultato della caccia fu il seguente. Circa 300 libre di grasso, che dovevano essere interamente adoperate per la fabbricazione delle candele steariche. L'operazione fu semplicissima e diede un prodotto, se non assolutamente perfetto, almeno utilizzabile. Se Cyrus Smith non avesse avuto a sua disposizione che dell'acido solforico, riscaldando quest'acido insieme ai corpi grassi neutri, avrebbe potuto ottenere la glicerina. Poi, dalla nuova composizione, avrebbe facilmente separata l'oleina, la margarina e la stearina, usando acqua bollente. Ma per semplificare l'operazione, l'ingegnere preferisse saponificare il grasso mediante la calce. Ne ottenne una specie di sapone calcareo, facile a decomporsi per mezzo dell'acido solforico, che precipitò la calce allo stato di solfato e rese liberi gli acidi grassi. Di questi tre acidi, oleico, di margarina e stearico, il primo, essendo liquido, fu eliminato con una pressione sufficiente, mentre gli altri due formavano proprio la sostanza che doveva servire alla fabbricazione delle candele steariche. L'operazione non durò più di 24 ore. I lucignoli, dopo parecchie prove, furono alla fine fatti di fibre vegetali e, dopo essere stati immersi nella sostanza liquefatta, formarono delle vere e proprie candele steariche, modellate a mano, alle quali non mancava che di essere sbiancate e levigate. Non offrivano, è vero, il vantaggio che presentano gli stoppini impregnati di acido borico, di vetrificarsi cioè a mano a mano che si opera la loro combustione e di consumarsi quindi interamente. Ma avendo Cyrus Smith affabbricato un bel paio di smoccolatoi, quelle candele furono grandemente apprezzate durante le veglie di Granite House. Durante tutto quel mese il lavoro non mancò nella nuova dimora. I falegnami ebbero da fare, si perfezionarono gli utensili che erano molto rudimentali e se ne aggiunsero di nuovi. Fra l'altro furono fabbricate delle forbici e i coloni poterono finalmente tagliarsi i capelli e se non farsi la barba almeno tagliarla a volontà. Harbert non ne aveva, Nab ben poca, ma gli altri erano irsuti a tal punto da giustificare interamente la fabbricazione delle forbici. La fabbricazione di una sega a mano, del tipo di quelle che si chiamano saracchi, costò infinite fatiche, ma alla fine fu creato uno strumento che, vigorosamente maneggiato, poté dividere le dure fibre del legno. Furono quindi fatte tavole, sedie, armadi con le quali si arredarono le stanze principali, in telaiature per letti, il corredo dei quali consisteva tutto in materassi di zostera. La cucina, con le sue mensole, su cui erano allineati gli utensili di terracotta, con il suo fornello di mattoni e il suo lavandino, aveva un assai bell'aspetto e Nab vi cucinava con gravità, come se fosse stato in un laboratorio chimico. Ma i falegnami dovettero presto trasformarsi in carpentieri. Infatti, il nuovo scaricatore di piena, creato a colpi di mina, richiedeva la costruzione di due ponticelli, uno sull'altopiano di Bella Vista, l'altro sulla spiaggia stessa. Adesso, infatti, l'altipiano e la spiaggia erano trasversalmente tagliati da un corso d'acqua, che bisognava assolutamente attraversare quando si voleva recarsi a nord dell'isola. Per evitarlo, i coloni sarebbero stati costretti a fare un lungo e inutile giro, risalendo a ovest fino oltre le sorgenti del Cric Rosso. Era dunque più semplice gettare due ponticelli, uno sull'altipiano e l'altro sulla spiaggia, lunghi da 20 a 25 piedi. Tutta la loro armatura era costituita da alcuni alberi, solo squadrati con l'ascia. Fu un lavoro di alcuni giorni. Fatti i ponti, Nab e Pencroff ne approfittarono per andare fino al banco di ostriche, che era stato scoperto a largo delle dune. Avevano trascinato seco una specie di rozzocarro, che sostituiva l'antico graticcio, veramente troppo scomodo, e tornarono con alcune migliaia di ostriche, che acclimatarono presto in mezzo alle rocce formanti altrettanti parchi naturali alla foce del Mersi. Quei molluschi erano di qualità eccellente e i coloni ne fecero un consumo quasi quotidiano. Come si vede, l'isola di Lincoln, benché i suoi abitanti non avessero esplorato che una piccolissima parte, provvedeva già a quasi tutti i loro bisogni. Ed era anche probabile che frugata sino nei suoi angoli più riposti, particolarmente in tutta la parte boscosa che si estendeva dal fiume di Mersi al promontorio del rettile, avrebbe prodigato nuovi tesori. Una sola privazione pesava ancora i coloni dell'isola di Lincoln. Il nutrimento azotato non mancava loro, né i prodotti vegetali che dovevano temperarne l'uso. Le radici legnose delle dracene, sottoposte alla fermentazione, davano una bevanda acidula, specie di birra, molto preferibile all'acqua pura. Avevano persino fabbricato dello zucchero, senza canne né barbabietole, raccogliendo il liquore che distilla dall'acer sacchiarinum, sorta d'acero della famiglia delle aceracee, che prospera in tutte le ragioni temperate e che l'isola possedeva in gran numero. Con le monarde raccolte nella garenna facevano un gradevolissimo tè. Infine avevano in abbondanza il sale, il solo prodotto minerale che entra nell'alimentazione. Ma mancava il pane. Forse in seguito i coloni avrebbero potuto sostituire questo alimento con qualche altro equivalente, farina dell'albero del sagù o fecola dell'albero del pane, giacché infatti era possibile che nelle foreste del sud si trovassero questi alberi preziosi. Ma fino allora non erano stati trovati. La provvidenza doveva anche in quella circostanza venire in aiuto ai coloni, in proporzione infinitesimale, è vero. Ma insomma, Cyrus Smith, pur con tutta la sua intelligenza e la sua ingegnosità, non avrebbe mai potuto produrre quello che, proprio per puro caso, Herbert trovò un giorno nella fodera della sua giacca che stava accomodando. Quel giorno pioveva di rotto. I coloni erano riuniti nella sala grande di Granite House. Quando a un tratto il ragazzo esclamò, Toh, guardate signor Cyrus, un chicco di grano! E mostrò ai suoi compagni un chicco, un unico chicco che da un buco della sua tasca era andato a finire nella fodera della giacca. La presenza di quel chicco si spiegava con l'abitudine che Herbert aveva, quando era Richmond, di nutrire alcuni colombi selvatici regalategli da Pencroff. Un chicco di grano! disse vivamente l'ingegnere. Sì, signor Cyrus, ma uno solo, non più di uno. Eh, ragazzo mio! esclamò Pencroff sorridendo. Eccoci a buon punto, in fede mia! Che cosa potremmo fare con un solo chicco di grano? Ne faremo del pane! rispose Cyrus Smith. Pane, pasticcini, torte addirittura! aggiunse il marinaio. Diamine, il pane che questo chicco ci provvederà non potrà facilmente soffocarci! Herbert, ritenendo poco importante la sua scoperta, s'accingeva a gettar via il chicco trovato, ma Cyrus Smith invece glielo prese. Lo esaminò, constatò che era in buono stato e guardando bene in faccia il marinaio, Pencroff gli chiese tranquillamente. Sapete quante spighe può produrre un chicco di grano? Una, suppongo! rispose il marinaio sorridendo. sorpreso della domanda. Dieci, Pencroff! E sapete quanti chicchi porta una spiga? Ehm, no, in fede mia! Ottanta in media, disse Cyrus Smith. Dunque, se noi pianteremo questo chicco, raccoglieremo al primo raccolto 800 chicchi di frumento, i quali al secondo raccolto ne produrranno 640 mila, al terzo 512 milioni e al quarto più di 400 miliardi di chicchi. Ecco la proporzione! I compagni di Cyrus Smith ascoltavano in silenzio. Quelle cifre li colmavano di stupore. Eppure, esse erano esatte. Sì, amici, riprese l'ingegnere. Tali sono le progressioni aritmetiche della feconda natura. Ma che cos'è questa moltiplicazione dei chicchi di frumento, la cui spiga non porta che 80 grani, paragonata a quella delle piante di papavaro, che portano 32 mila grani, o a quella delle piante di tabacco, che ne producono 360 mila. In pochi anni, senza le molte cause di distruzione che ne limitano la fecondità, tali piante invaderebbero tutta la terra. Ma l'ingegnere non aveva finito il suo piccolo interrogatorio. E adesso, Pencroff, sapete quante staia rappresentano 400 miliardi di chicchi? No! rispose il marinaio. Ma quello che so è che sono una bestia! Ebbene, sarebbero più di 3 milioni a 130 mila grani per staio, Pencroff! 3 milioni! esclamò Pencroff. 3 milioni! In 4 anni? In 4 anni! rispose Cyrus Smith. E anche in 2 anni, se come spero, potremmo a questa latitudine ottenere 2 raccolti all'anno. A queste parole Pencroff, secondo la sua abitudine, non trovò altra risposta che un formidabile viva. E così, Herbert, aggiunse l'ingegnere, tu hai fatto una scoperta di importanza estrema per noi. Tutto, amici miei, tutto può servirci nelle condizioni in cui siamo. Non dimenticatelo, vi prego! No, signor Cyrus, no! Non lo dimenticheremo! rispose Pencroff. E se casomai trovassi uno di quei grani di tabacco che si moltiplicano per 360 mila, vi assicuro che non lo getterò al vento. E adesso sapete quel che ci resta da fare? Ci resta da piantare questo chicco! rispose Herbert. Sì! aggiunse Gideon Spilett. E con tutti i riguardi che gli sono dovuti, già che esso porta in sé le nostre messi future! Purchè germogli! esclamò il marinaio. Germoglierà! rispose Cyrus Smith. Era il 20 giugno. Il momento era dunque propizio per seminare quell'unico e prezioso chicco di frumento. Fu discussa dapprima l'opportunità di seminarla in un vaso, ma dopo aver riflettuto fu deciso di rimettersi fiduciosamente alla natura e di affidarlo alla terra. L'operazione fu compiuta in quello stesso giorno. È inutile aggiungere che furono prese tutte le precauzioni perché riuscisse. Essendosi il tempo alquanto schiarito, i coloni ascesero le alture di Granite House. Là sull'altipiano scelsero un punto ben riparato dal vento sul quale il sole di mezzogiorno doveva far sentire tutto il suo calore. Il luogo fu pulito, sarchiato accuratamente e frugato persino per scacciarne gli insetti o i vermi. Vivù steso uno strato di buona terra, mista un po' di calce. Fu cinto da una palizzata. Poi il chicco di frumento fu affondato nello strato umido. Non pareva che i coloni ponessero la prima pietra di un edificio. Questo avvenimento ricordò a Pencroff il giorno in cui avevano acceso l'unico fiammifero e le cure che avevano dedicate a quell'operazione. Ma stavolta la cosa era più grave. Infatti i naufraghi sarebbero sempre riusciti in un modo o nell'altro a procurarsi del fuoco. Ma nessuna potenza umana avrebbe potuto ricreare quel chicco di grano se disgraziatamente esso fosse andato distrutto. Capitolo 21 Da allora non passò giorno senza che Pencroff andasse a visitare quello che egli chiamava il suo campo di grano. E sventura gli insetti che si arrischiavano a entrarvi. Non potevano aspettarsi nessuna pietà. Verso la fine del mese di giugno, dopo interminabili piogge, il tempo si mise decisamente al freddo e il giorno 29 un termometro avrebbe calcolato una temperatura di 6 gradi e 67 centigradi sotto zero. L'indomani, 30 giugno, corrispondente al 31 dicembre dell'anno boreale, era un venerdì. Nab fece osservare che l'anno finiva con una cattiva giornata, ma Pencroff gli rispose che naturalmente il nuovo cominciava con un giorno buono, il che era meglio. Ogni modo l'anno esordì con un freddo acutissimo. I ghiacci si ammucchiarono alla foce del Mersi e il lago non tardò a congelarsi in tutta la sua estensione. Si dovette rinnovare più volte la provvista di combustibile. Pencroff non aveva certo aspettato che il fiume fosse gelato per condurre a destinazione enormi carichi di legna. La corrente era un motore infaticabile che fu utilizzato per il trasporto del legname fino a che il freddo venne a immobilizzarlo. Al combustibile così abbondantemente provvisto dalla foresta fu aggiunto anche parecchio carbon fossile che bisogna andare a prendere ai piedi dei contrafforti del Monte Franklin. Il potente calore emanato dal carbon fossile poteva essere grandemente apprezzato quando il 4 luglio la temperatura cadde a 8 gradi Fahrenheit, 13 gradi centigradi sotto zero. Nella sala da pranzo era stato costruito un altro fogolare e là i coloni lavoravano in comune. Durante quel periodo di gran freddo Cyrus Smith non ebbe che alodarsi d'aver condotto fino a Granite House una piccola derivazione delle acque del lago Grant. Presa al di sotto della superficie gelata condotte poi attraverso l'antico scarico, esse conservavano la loro liquidità e arrivavano a un serbatoio interno scavato all'angolo dal retro magazzino che riversava nel mare l'eccesso d'acqua attraverso il pozzo. In quei giorni, approfittando del tempo estremamente asciutto, i coloni, coperti quanto più loro era possibile, risolsero di dedicare una giornata all'esplorazione della parte dell'isola compresa sud-est fra il fiume Mersi e il capo Artiglio. Era un vasto territorio paludoso, dove si sarebbe forse potuto fare qualche buona caccia, giacché gli uccelli acquatici vi dovevano pullulare. Bisognava calcolare 8 o 9 miglia per l'andata e altrettanto per il ritorno, e in conseguenza la giornata sarebbe stata bene impiegata. Inoltre, siccome si trattava di esplorare una parte sconosciuta dell'isola, tutta la colonia doveva prendervi parte. A tale scopo, il 5 di luglio, alle 6 del mattino, quando appena albeggiava, Cyrus Smith, Gideon Spilett, Herbert, Nab e Pencroff, armati di spiedi, di lacci, d'archi e di frecce, e muniti di sufficienti provviste, lasciarono Granite House, preceduti da Top, che sgambettava innanzi a loro. Fu scelta la via più breve, che consisteva nell'attraversare il Mersi sui ghiacci che lo ingombravano. Ma, fece osservare giustamente il giornalista, questo mezzo non può far le veci di un vero ponte. Anche la costruzione di un vero ponte era quindi elencata nella serie dei lavori futuri. Era la prima volta che i coloni mettevano piede sulla riva destra del Mersi e si avventuravano in mezzo alle grandi e superbe conifere, allora coperte di neve. Ma non avevano percorso mezzo miglio, quando, da un folto macchione, videro scappare tutta una famiglia di quadrupedi, che colà avevano eletto domicilio e che i latrati di Top avevano messo in fuga. «Ah, si direbbero volpi!» esclamò Herbert quando vide tutto il branco svignarsela al più presto. Ed erano volpi, infatti, ma volpi di grandissima corporatura che facevano udire una specie di latrato, di cui lo stesso Top parve molto stupito, poiché nel più bello dell'inseguimento si fermò, lasciando ai rapidi animali il tempo di svignarsela. Il cane aveva il diritto di essere sorpreso, giacché non conosceva la storia naturale. Ma quelle volpi, dal mantello grigio rossastro, dalla coda nera, terminante con una nappina bianca, con i loro latrati, avevano svelato la propria origine. Così Herbert diede loro, senza esitare, il loro giusto nome di Culpei. I Culpei si trovano facilmente nel Cile, nelle Malvine e in tutte le regioni americane poste fra il trentesimo e il quarantesimo parallelo. Herbert rimpianse molto che Top non avesse potuto impadronirsi di uno di quei carnivori. «Si possono mangiare?» domandò Pencroff, che considerava sempre i rappresentanti della fauna dell'isola da un punto di vista particolare. «No», rispose Herbert. «Ma gli zoologi non hanno ancora assodato se la pupilla di queste volpi sia diurna o notturna e se convenga o no classificarle nel genere cane propriamente detto». Cyrus Smith non poteva fare a meno di sorridere udendo alla riflessione del giovanotto, che dimostrava uno spirito serio. Quanto al marinaio, dal momento che quelle volpi non potevano essere classificate nel genere commestibile, poco gliene importava. Tuttavia, egli fece osservare che quando a Granite House si fosse installato un pollaio, sarebbe stato opportuno prendere delle precauzioni contro la probabile visita di quei predoni a quattro zampe, ciò che nessuno contestò. Dopo aver girato la punta del relitto, i coloni trovarono una larga plaga bagnata dal vasto mare. Erano allora le otto del mattino. Il cielo era purissimo, come avviene durante i grandi freddi prolungati. Ma Cyrus Smith e i suoi compagni, riscaldati dalla corsa, non sentivano molto le punture dell'atmosfera. D'altronde non tirava vento, circostanza questa che rende infinitamente più sopportabile i forti abbassamenti di temperatura. Un sole brillante, ma senza calore, sorgeva allora dall'oceano e il suo disco enorme si librava all'orizzonte. Il mare formava una distesa tranquilla e turchina, come quella di un golfo mediterraneo, quando il cielo è nitido. Il capo artiglio incurvato in forma di scimitarra, si disegnava nettamente a 4 miglia circa verso sud-est. A sinistra, il margine della palude era bruscamente interrotto da una piccola punta, che i raggi solari contornavano allora con una striscia di fuoco. Certo, in questa parte della Baia dell'Unione, che nulla proteggeva dall'alto mare, nemmeno da un banco di sabbia, le navi investite dai venti dell'est non avrebbero trovato alcun rifugio. Si capiva dalla tranquillità del mare, le cui acque non erano turbate da nessun basso fondo, come appariva dal suo colore uniforme, non macchiato da nessuna sfumatura giallastra, si capiva insomma, dall'assenza di ogni scoglio, che lungo quella costa pulita l'oceano copriva profondi abissi. Dietro, a ovest, a una distanza di 4 miglia, si spiegavano le prime linee d'alberi della foresta del Far West. C'era da credersi, per così dire, sulla costa desolata di qualche isola antartica invasa dai ghiacci. I coloni sostarono in quel punto per far colazione. Fu acceso un fuoco di sterpi e alghe secche, e Nab preparò la colazione di carne fredda, alla quale aggiunse alcune tazze di tè d'osuego. Mentre mangiavano, i coloni si guardavano intorno. Quella parte di Lincoln era veramente sterile e contrastava con tutta la regione occidentale. Questa constatazione indusse il giornalista a una riflessione, e cioè che se il caso avesse a tutta prima gettato i su quella spiaggia, essi avrebbero avuto un deplorevole concetto del loro futuro dominio. Credo che non l'avremmo nemmeno potuto raggiungere, rispose l'ingegnere, giacché il mare è profondo e non ci avrebbe offerto neanche uno scoglio per rifugio. Davanti a Granite House almeno c'erano dei banchi, un isolotto, che moltiplicavano la probabilità di salvezza. Ma qui null'altro che l'abisso. È abbastanza singolare, fece notare Gideon Spilett, che quest'isola, relativamente piccola, presenti una superficie così variata. Simile diversità d'aspetto non appartiene logicamente che ai continenti di una certa estensione. Si direbbe veramente che la parte occidentale dell'isola di Lincoln, così ricca e fertile, sia bagnata dalle acque calde del Golfo del Messico, e che le sue spiagge di nord e di sud-est si stendono invece su una specie di mare artico. Avete ragione, caro Spilett, rispose Cyrus Smith. È un'osservazione che ho fatta io pure. Quest'isola, sia nella forma che nella natura, mi pare strana. Si direbbe un compendio di tutti gli aspetti che presenta un continente, e non mi stupirei che un tempo fosse stata proprio un continente. Che? Un continente in mezzo al Pacifico? Esclamò Pencroff. E perché no? Rispose Cyrus Smith. Perché l'Australia, la Nuova Irlanda, tutto ciò che i geografi inglesi chiamano Australasia, riunita agli arcipelaghi del Pacifico, non avrebbero formato un tempo una sesta parte del mondo, importante quanto l'Europa, o l'Asia, o l'Africa, o le due Americhe. La mia mente non si rifiuta affatto di ammettere che tutte le isole emergenti da quest'oceano altro non siano che le vette di un continente adesso inviottito, ma che dominava le acque nelle epoche preistoriche. Come già l'Atlantide, rispose Herbert. Sì, ragazzo mio, seppure questa esistita veramente. E l'isola di Lincoln avrebbe fatto parte di quel continente, chiese Pencroff. È probabile, rispose Cyrus Smith, e questo spiegherebbe abbastanza la diversità di produzione che si vede alla sua superficie. E il gran numero di animali che l'abitano ancora, aggiunse Herbert. Sì, ragazzo mio, rispose l'ingegnere, e tu mi offri con questo un nuovo argomento in appoggio alla mia tesi. Dopo quello che abbiamo visto, è certo che gli animali sono numerosi nell'isola e che le specie vi sono estremamente variate, il che è strano. Di tutto questo c'è una ragione, e per me essa consiste nel fatto che l'isola di Lincoln ha potuto una volta far parte di qualche vasto continente che si è a poco a poco sprofondato nel Pacifico. Allora, un bel giorno, replicò Pencroff che non pareva assolutamente convinto. Quanto resta di questo antico continente potrà a sua volta sparire e non rimarrà più nulla tra l'America e l'Asia. Ma sì, rispose Cyrus Smith, vi saranno i nuovi continenti che miliardi e miliardi di animaletti lavoreranno a costruire in questo momento. E quali sono questi moratori? Domandò Pencroff. Gli infusori del corallo, rispose Cyrus Smith. Sono stati essi a fabbricare, mediante un lavoro continuo, l'isola di Clermont-on-Nair, gli atolli e altre numerose isole di coralli che si trovano nell'Oceano Pacifico. Occorrono 47 milioni di questi infusori per fare il peso di un grano. Eppure, con i sali marini che assorbono con gli elementi solidi dell'acqua che assimilano, questi animaletti producono il calcare e questo calcare forma enormi strutture sottomarine, la cui durezza e solidità eguagliano quelle del granito. Un tempo, nelle prime epoche della creazione, la natura, impiegando il fuoco, ha prodotto le terre mediante sollevamenti, ma adesso essa è in carica degli animali microscopici di surrogare questo agente, la cui potenza dinamica nell'interno del globo è evidentemente diminuita. E il gran numero di vulcani attualmente spenti alla superficie della Terra ne è una prova. Così credo che i secoli succedendo ai secoli e gli infusori agli infusori, questo Oceano Pacifico potrà un giorno mutarsi in un vasto continente che generazioni nuove abiteranno e inciviliranno a loro volta. Sarà una cosa lunga, disse Pencroff. La natura ha il tempo dalla sua parte, rispose l'ingegnere. Ma a che cosa gioverebbero dei nuovi continenti, chiese Herbert. Mi sembra che l'estensione attuale delle terre abitabili sia sufficiente all'umanità, ora la natura non fa niente di inutile. Niente di inutile, infatti, rispose l'ingegnere. Ma ecco come si potrebbe spiegare la necessità avvenire dei nuovi continenti, appunto nella zona tropicale occupata dalle isole corallifere. Almeno questa spiegazione mi pare plausibile. Mi ascoltiamo, signor Cyrus, rispose Herbert. Ecco la mia idea. Gli scienziati ammettono generalmente che verrà un giorno in cui il nostro globo finirà, o piuttosto in cui la vita animale e vegetale non sarà più possibile, in seguito al raffreddamento intenso che esso subirà. Essi però non sono d'accordo sulla causa di questo raffreddamento. Gli uni pensano che proverrà dall'abbassamento di temperatura che si verificherà sul Sole fra milioni di anni. Gli altri dall'estinzione graduale del fuoco interno del nostro globo, che hanno su di esso un'influenza più importante di quanto generalmente si suppone. Io sono per quest'ultima ipotesi, basandomi sul fatto che la Luna è molto probabilmente un astro raffreddato non più abitabile, benché il Sole continui sempre a riversare alla sua superficie la medesima quantità di calore. Se la Luna dunque si è raffreddata, è perché il fuoco interno al quale, come tutti gli astri del mondo stellare, essa dovette la sua origine, si è completamente estinto. Insomma, qualunque ne sia la causa, il nostro globo si raffredderà un giorno, ma questo raffreddamento non si opererà che a poco a poco. Che cosa accadrà allora? Le zone temperate, in un'epoca più o meno lontana, non saranno più abitabili di quanto lo siano attualmente le regioni polari. Dunque, le popolazioni di uomini, come le aggregazioni di animali, affluiranno verso le latitudini più direttamente sottoposte all'influenza solare. Un'immensa emigrazione si compierà. L'Europa, l'Asia centrale e l'America del Nord saranno a poco a poco abbandonate, come l'Australasia o le parti basse dell'America del Sud. La flora si ritirerà verso l'equatore contemporaneamente alla fauna. Le parti centrali dell'America meridionale o dell'Africa diverranno i continenti abitati per eccellenza. I Lapponi, i Samoidi ritroveranno le condizioni climatiche del mare polare sulle spiagge del Mediterraneo. Chi ci dice che a quell'epoca le regioni equatoriali non saranno troppo piccole per contenere l'umanità terrestre e nutrirla? Ora, perché la provvidente natura non getterebbe sin d'ora sotto l'equatore, allo scopo di dare rifugio a tutta l'emigrazione vegetale e animale, le basi di un nuovo continente, e non incaricherebbe gli infusori di costruirlo? Ho spesso riflettuto a tutto questo, amici, e credo seriamente che l'aspetto del nostro globo sarà un giorno completamente trasformato, che in seguito all'emersione dei nuovi continenti i mari copriranno quelli antichi e nei secoli futuri nuovi Colombo andranno a scoprire le isole di Chimboraco, dell'Himalaya o del Monte Bianco, resti di un'America, di un'Asia e di un'Europa ormai inghiottite. Poi quei nuovi continenti diverranno a loro volta inabitabili, il calore si spegnerà come il calore di un corpo privato dall'anima e la vita sparirà, se non definitivamente, almeno momentaneamente dal globo. Allora forse il nostro sferoide si riposerà, si rinnoverà nella morte per risuscitare un giorno in condizioni superiori. Ma tutto questo, amici, è il segreto dell'autore di tutte le cose e a proposito del lavoro degli infusori mi sono forse lasciato trascinare un po' troppo lontano a scrutare i segreti dell'avvenire. Caro Cyrus, rispose Gideon Spilett, per me queste teorie sono profezie e un giorno si compiranno. È il segreto di Dio, disse l'ingegnere. Tutto questo è bello e buono, disse allora Pencroff che aveva ascoltato tutto orecchi. Ma volete dirmi, signor Cyrus, se l'isola di Lincoln è stata costruita dai vostri infusori. No, rispose Cyrus Smith, essa è puramente d'origine vulcanica. Allora un giorno scomparirà. È probabile. Spero bene che noi non ci saremo più. No, rassicuratevi Pencroff, non ci saremo più, poiché non abbiamo nessuna voglia di morirvi e finiremo forse per abbandonarla. Intanto, rispose Gideon Spilett, stabiliamoci qui come per l'eternità, non bisogna far mai nulla a metà. Qui finì la conversazione. La colazione era terminata. L'esplorazione fu ripresa e i coloni giunsero al limite della regione paludosa. Era proprio una palude, la cui distesa, sino alla costa rotondata con cui terminava l'isola sud-est, poteva misurare 20 miglia quadrate. Il suolo era formato da un fango argilloso siliceo mescolato a numerosi avanzi di vegetali. Con ferve, giunchi, carichi, scirpi, qua e là strati di erba, folti come immensi tappeti, lo ricoprivano. Alcune pozze ghiacciate scintillavano in molti punti sotto i raggi del sole. Né le piogge, né alcun fiume gonfiato da un'improvvisa piena avevano potuto formare quei depositi d'acqua. Se ne doveva naturalmente concludere che quella palude era alimentata da infiltrazioni del suolo. E così era, infatti. C'era anche da temere che durante i grandi calori l'aria vi fosse impregnata dei miasmi che generano le febbri malariche. Sopra le erbe palustri, alla superficie delle acque stagnanti, volteggiava una quantità d'uccelli. I cacciatori di palude non vi avrebbero perduto un solo colpo di fucile. Anatre selvatiche, codoni, arzavole, beccaccini vivevano là a stormi e questi volatili, poco paurosi, si lasciavano facilmente avvicinare. Una fucilata a pallini avrebbe certamente colpito alcune dozzine di quegli uccelli, tanti ve ne erano. Bisognò accontentarsi di abbatterli a frecciate. Il risultato fu minimo, ma la freccia, silenziosa, offrì il vantaggio di non spaventare gli uccelli, che la detonazione di un'arma da fuoco avrebbe invece dispersi per la palude in varie direzioni. I cacciatori si accontentarono dunque per quella volta di una dozzina di anatre, dal corpo bianco, con una fascia color cannella, testa verde, ali nere bianche e rosse, becco piatto, che Arbert riconobbe per tadorne. Top concorse validamente alla loro cattura e il nome di esse rimase a quella parte paludosa dell'isola. I coloni avevano dunque là un'abbondante riserva di selvaggina palustre. Venuta la stagione opportuna, si sarebbe solo trattato di sfruttarla convenientemente. Era anche probabile che parecchie specie di quegli uccelli potessero essere, se non addomesticate, almeno acclimatate nella vicinanza del lago, venendo così a trovarsi sotto mano ai consumatori. Verso le cinque di sera, Cyrus Smith e i suoi compagni ripresero il cammino della loro dimora, attraversando la paluda delle tadorne e ripassarono il Mersi sul ponte di ghiaccio. Alle otto di sera tutti erano rientrati a Granite House. Capitolo 22 Quei freddi intensi durarono fino al 15 agosto, senza tuttavia oltrepassare il limite di gradi Fahrenheit sino allora registrato. Quando l'atmosfera era calma, la bassa temperatura si sopportava facilmente, ma quando soffiava il vento, la situazione era penosa per gente non sufficientemente vestita. Pencroff era arrivato al punto di dolersi che l'isola di Lincoln non desse asilo a qualche famiglia di orsi, piuttosto che alle volpi o alle foche, la cui pelliccia lasciava desiderare. Gli orsi, diceva, sono generalmente ben vestiti e io non domanderei di meglio che di prendere l'oro a prestito per l'inverno il caldo cappotto che hanno addosso. Ma? Rispose Nab ridendo. Forse gli orsi non acconsentirebbero Pencroff a cederti il loro mantello, non sono mica dei San Martini. Li si costringerebbe, Nab, li si costringerebbe a farlo, replicava Pencroff con tono autoritario. Ma quei formidabili carnivori non esistevano nell'isola, o perlomeno non si erano ancora mostrati. Tuttavia, Harbert e Pencroff e il giornalista tesero alcune trappole sull'altipiano di Bella Vista e nei punti di accesso alla foresta. Secondo l'opinione del marinaio, ogni animale, qualunque esso fosse, sarebbe stato una buona preda e fossero roditori o carnivori a inaugurare le trappole, sarebbero stati bene accolti a Granite House. Le trappole erano, d'altronde, molto semplici. Si trattava di fosse scavate nel suolo, dissimulate da una copertura di rami e di erbe, con nel fondo qualche esca, il cui odore potesse attirare gli animali. Ecco tutto. Bisogna aggiungere che non erano state scavate a caso, ma in certi punti, ove impronte più numerose indicavano il frequente passaggio di quadrupedi. Le trappole venivano visitate tutti i giorni, e per tre volte durante i primi giorni vi si trovarono esemplari di quella specie di volpi che già erano state viste sulla riva destra del Mersi. Ah, diamine! Ma non ci sono dunque che volpi in questo paese! Esclamò Pencroff, ritirando per la terza volta uno di quegli animali dalla buca dove stava molto avvilito. Bestie buone a nulla! Ma sì! Disse Gideon Spilett. Sono buone a qualche cosa! A che cosa? A farne esca per attirarne altre! Il giornalista aveva ragione, e da allora le trappole ebbero per esca i cadaveri delle volpi. Il marinaio aveva pure fatto dei lacci con le fibre del curry, e questi diedero miglior risultato delle trappole. Era raro che passasse giorno senza che qualche coniglio della garenna non si lasciasse prendere. Era sempre un coniglio, ma Nab sapeva variare le salse, e i convitati non pensavano certo lamentarsi. Non di meno, nella seconda settimana d'agosto, una o due volte le trappole misero nelle mani dei cacciatori animali che non erano le solite volpi, ma qualcosa di più utile. Erano dei cinghiali, di quelli già segnalati a nord del lago. Pencroff non ebbe bisogno di domandare se fossero commestibili. Si capiva benissimo della loro rassomiglianza con il maiale d'America ed Europa. Ma non sono maiali! Disse Herbert. Te ne prevengo, Pencroff! Ragazzo mio! Rispose il marinaio, chinandosi sulla trappola e traendone per la piccola appendice che gli serviva da coda, uno di quei rappresentanti della famiglia dei suini. Lasciami credere che siano maiali! E perché? Perché mi fa piacere! Ti piace dunque molto il maiale, Pencroff? Il maiale mi piace molto! Rispose il marinaio. Soprattutto per i suoi piedi, e se ne avesse otto invece di quattro, mi piacerebbe due volte di più! Quegli animali erano pecari, appartenenti a uno dei quattro generi della famiglia. Erano anche della specie di taiassu, riconoscibili dal colore scuro e dall'assenza dei lunghi canini che armano la bocca dei loro consimili. I pecari vivono ordinariamente in branchi, era quindi probabile che abbondassero nelle parti boscose dell'isola. In ogni caso, erano mangiabili dalla testa ai piedi, e Pencroff non chiedeva loro di più. Verso il 15 agosto, le condizioni atmosferiche si modificarono improvvisamente per un salto di vento al nord-ovest. La temperatura risalì di alcuni gradi, e i vapori accumulati nell'aria non tardarono a trasformarsi in neve. Tutta l'isola si coprì di uno strato bianco, mostrandosi ai suoi abitanti sotto un aspetto nuovo. La neve cadde abbondantemente per parecchi giorni, e il suo spessore raggiunse presto i due piedi. In breve il vento rinforzò, divenendo violentissimo. Dall'alto di Granite House si udiva il mare rombare sopra gli scogli. In certi angoli si formavano dei rapidi risucchi d'aria, ove la neve, formando alte colonne giranti, assomigliava a quelle trombe liquide piroettanti sulla loro base, che i bastimenti attaccano a cannonate. Però l'uragano, venendo da nord-ovest, prendeva l'isola rovescio, e Granite House, per la sua stessa posizione, era preservata da un assalto diretto. In mezzo a quella tormenta di neve, terribile come se si fosse prodotta su qualche contrada polare, né Cyrus Smith né i suoi compagni poterono, malgrado il loro vivo desiderio, avventurarsi all'esterno, ma dovettero restare rinchiusi durante cinque giorni, dal 20 al 25 agosto. Si sentiva la tempesta ruggire nei boschi dello Jacamar, che dovevano molto soffrirne. Parecchi alberi sarebbero stati indubbiamente sradicati, ma Pencroff se ne consolava, pensando che non avrebbe avuto il disturbo di doverli abbattere. Il vento si fa taglialegna, lasciamolo fare! Ripeteva. D'altronde non vi sarebbe stato mezzo alcuno di impedirlo. Quanto agli ospiti di Granite House, dovettero allora ringraziare il cielo di aver loro preparato quel solido e incrollabile rifugio. A Cyrus Smith aspettava certo la sua legittima parte dei ringraziamenti, ma era la natura che aveva scavato l'ampia caverna ed egli non aveva fatto altro che scoprirla. Là tutti erano al sicuro e i colpi della tempesta non potevano raggiungerli. Se avessero costruito una casa di mattoni e legname sull'altipiano di Bella Vista, non avrebbe certamente resistito alla furia di quell'uragano. Quanto ai camini, solo al frastuono delle onde che si faceva sentire con tanta forza, bisognava credere che fossero assolutamente inabitabili, poiché il mare, scavalcando l'isolotto, doveva batterli rabbiosamente. Ma a Granite House, nel cuore di quel masso, contro il quale né l'acqua né l'aria avevano presa, nulla vera da temere. Durante quei giorni di clausura, i coloni non rimasero inattivi. Il legname ridotto in assi non mancava nel magazzino, e così a poco a poco il mobilio venne completato con tavole e sedie, solide senza dubbio, poiché non si fece economia di materiale. Ma quei mobili alquanto pesanti rispondevano male al loro nome, che fa della mobilità una condizione essenziale. Però fecero ugualmente l'orgoglio di nabe di Pencroff, che non li avrebbero cambiati con dei mobili di bull. Poi i falegnami divennero panierai, e non riuscirono male anche in questa nuova attività. Verso la punta che il lago proiettava al nord, era stato scoperto un fecondo vincheto, dove crescevano in gran copia piante di vimini. Prima della stagione delle piogge, Pencroff e Harbert avevano fatto raccolta di quegli utili arbusti, i cui rami, convenientemente preparati, potevano ora essere efficacemente utilizzati. I primi saggi furono informi, ma grazie alla destrezza e intelligenza degli operai, consultandosi reciprocamente, ricordando i modelli veduti, facendo a gara fra loro, panieri e ceste di diverse grandezza accrebbero presto l'attrezzatura della colonia. Il magazzino ne fu provvisto, e Nab chiuse in ceste speciali le sue raccolte di rizomi, di mandorle di pino e di radici di dracena. Durante l'ultima settimana del mese d'agosto, il tempo cambiò ancora. La temperatura scese un poco e la tempesta si calmò. I coloni si slanciarono fuori. C'erano certamente due piedi di neve sulla spiaggia, ma sopra quella neve indurita si poteva camminare senza troppa fatica. Sarah Smith e i suoi compagni salirono sull'altipiano di Bella Vista. Che cambiamento! I boschi che avevano lasciato verdeggianti, soprattutto nella parte vicina, dove dominavano le conifere, sparivano ora sotto un colore uniforme. Tutto era candido, dalla vetta del monte Franklin fino al litorale. Le foreste, la prateria, il lago, il fiume, la spiaggia. L'acqua del Mersi correva sotto una volta di ghiaccio, che a ogni flusso e riflusso rovinava un poco, frantumandosi con fracasso. Numerosi uccelli svolazzavano sulla superficie solida del lago. Anatre, beccaccini, codoni e urie. Ve ne erano migliaia. Le rocce fra le quali si scaricava la cascata sull'orlo dell'altipiano erano erte di ghiacci. Si sarebbe detto che l'acqua sgorgasse da un mostuoso canale scavato dalla fantasia capricciosa di un artista del Rinascimento. Valutare i danni causati alla foresta dall'uragano non era ancora possibile. Bisognava aspettare che l'immenso strato bianco si fosse disciolto. Gideon Spilett, Pencroff e Arbert non mancarono ad andare a visitare le loro trappole. Non le ritrovarono facilmente sotto la neve che li ricopriva. Dovettero pure stare attenti a non cadere nell'una o nell'altra di esse, cosa che sarebbe stata pericolosa e umiliante a un tempo. Essere presi nella propria trappola. Ma un simile inconveniente fu evitato e vennero ritrovate le trappole perfettamente intatte. Nessun animale vi era caduto, benché le impronte fossero numerose nelle vicinanze e alcune fra essi mostrassero nettamente forme di artigli. Arbert non esitò ad affermare che qualche carnivoro del genere dei felini doveva essere passato di là, ciò che giustificava l'opinione dell'ingegnere sulla presenza di bestie pericolose nell'isola di Lincoln. Senza dubbio esse abitavano solitamente le fitte foreste del Far West, ma spinte dalla fame s'erano avventurate fino all'altipiano di Bella Vista. Sentivano forse la presenza degli abitanti di Granite House? Ma insomma, di che felini si tratta? chiese Pencroff. Sono tigri, rispose Arbert. Credevo che queste bestie si trovassero solo nei paesi caldi. Sul nuovo continente, rispose il ragazzo, si trovano dal Messico sino alle Pampas di Buenos Aires. Poiché l'isola di Lincoln è pressa poco la stessa latitudine delle province della piata, non è da meravigliarsi se vi si incontrano delle tigri. Bene, staremo in guardia, disse Pencroff. La neve finì per dileguarsi sotto l'influenza della temperatura che si era alzata. Cadde la pioggia e grazie alla sua azione dissolvente lo strato bianco si cancellò. Malgrado il cattivo tempo, i coloni si rifornirono di tutto. Mandorle di pino, radici di dracena, rizomi, liquore d'acero per la parte vegetale, conigli, aguti e canguri per la parte animale. Questi lavori resero necessarie delle escursioni nella foresta, ciò che diede modo ai coloni di constatare come una certa quantità d'alberi fosse stata abbattuta dall'ultimo uragano. Il marinaio e Nab si spinsero anche con il carretto fino al giacimento di carbon fossile, allo scopo di portare a casa alcune tonnellate di combustibile. Passando, videro che il fumaiolo del forno per le terraglie era stato molto danneggiato dal vento e scoronato di sei piedi buoni almeno. Contemporaneamente al carbone, anche la provvista di legna fu rinnovata granita e aus, approfittando della corrente del Mersi che si era liberata dai ghiacci per condurne parecchi carichi. Poteva darsi che il periodo dei grandi freddi non fosse finito. Fu fatta anche una visita ai camini e i coloni non poterono che compiacersi di non avervi abitato durante la tempesta. Il mare vi aveva lasciato segni in dubbi delle sue devastazioni. Sollevato dal vento, aveva superato l'isolotto, aveva violentemente assalito i corridoi che erano invasi dalla sabbia. Le rocce poi erano coperte da fitti strati di alghe marine. Mentre Nab, Harbert e Pencroff cacciavano o facevano nuove provviste di combustibile combustibile, Cyrus Smith e Gideon Spilett si dedicarono a ripulire un po' i camini e ritrovarono la fucina e i fornelli quasi intatti, giacché erano stati protetti sin dall'inizio dall'accumularsi delle sabbie. La riserva di combustibile non era stata rinnovata inutilmente. I freddi pungenti non erano ancora finiti. È noto che nell'emisfero boreale il mese di febbraio si segnala principalmente per i grandi abbassamenti di temperatura. Nell'emisfero australe doveva essere lo stesso. E infatti la fine del mese d'agosto, che è il febbraio dell'America del Nord, non sfuggì a questa legge climatica. Verso il 25, dopo un altro alternarsi di neve e di pioggia, il vento spirò da sud-est e il freddo divenne improvvisamente molto intenso. Secondo la stima dell'ingegnere, la colonna di mercurio di un termometro non avrebbe segnato meno di 22 gradi centigredi sotto zero. Questo freddo intenso, reso ancora più doloroso da un vento tagliente, durò parecchi giorni. I coloni dovettero rinchiudersi di nuovo in granite house e siccome fu necessario tappare ermeticamente tutte le aperture della facciata, non lasciando che il passaggio strettamente necessario per rinnovarsi dell'aria, il consumo delle candele steariche fu considerevole. Per economizzarle, i coloni si accontentarono spesso della luce proveniente dalla fiamma dei focolari, dove il combustibile non veniva risparmiato. Più volte l'uno o l'altro dei coloni provò di scendere sulla spiaggia, in mezzo ai ghiacci che il flusso vi accumulava ogni marea. Ma tutti dovettero subito risalire a granite house, afferrandosi a stento ai pioli della scala, che dato il gran freddo bruciavano loro le dita. Bisogna ancora pensare al modo di occupare gli ozzi, a cui la segregazione costringeva gli ospiti di granite house. Cyrus Smith intrapresa loro un'operazione che poteva farsi anche stando rinchiusi. È noto che i coloni non avevano a loro disposizione altro zucchero se non la sostanza liquida che traevano dall'acero, facendo profonde incisioni in detto albero. Bastava che raccogliessero il succo in vasi e poi l'adoperavano senz'altro così, allo stato grezzo, in diversi usi culinari. E tanto meglio, in quanto il liquido invecchiando tendeva a imbiancare, prendendo una consistenza sciropposa. Ma c'era di meglio da fare, e un giorno Cyrus Smith annunciò ai suoi compagni che essi stavano per trasformarsi in raffinatori. Raffinatori, disse Pencroff. È un mestiere un po' caldo, vero? Caldissimo, rispose l'ingegnere. Allora bene, sarà adatto alla stagione, replicò il marinaio. Questa parola, raffinazione, non deve però destare nella mente l'immagine di fabbriche complicate, di attrezzi e operai. No, per cristallizzare il succo di cui si parla, bastava epurarlo mediante un'operazione estremamente facile. Esso fu semplicemente sottoposto a una certa evaporazione, mettendolo sul fuoco in grandi vasi di terra. Poco dopo della schiuma apparve alla sua superficie. Quando il liquido cominciò a divenire denso, Nab ebbe cura di rimestarlo con una spatola di legno, per accelerare la sua evaporazione e impedirgli, nello stesso tempo, di contrarre un gusto di bruciaticcio. Dopo alcune ore di ebollizione su di un buon fuoco, che faceva tanto bene agli operatori quanto alla sostanza lavorata, quest'ultima si trasformò in un denso sciroppo. Questo sciroppo fu versato in stampi d'argilla precedentemente fabbricati nel fornello stesso della cucina, ai quali erano state impresse forme svariate. L'indomani lo sciroppo, raffreddato, formava pani e tavolette. Era zucchero, di coloro un po' rossastro, ma quasi trasparente e di ottimo gusto. Il freddo continuò fino a metà settembre e i prigionieri di Granite House cominciavano a trovare assai lunga la loro prigionia. Quasi tutti i giorni tentavano qualche sortita, che però non poteva essere che molto breve. Lavoravano quindi costantemente a ordinare e abbellire la loro casa e lavorando conversavano. Cyrus Smith istruiva i compagni in molte cose e spiegava loro principalmente le applicazioni pratiche della scienza. I coloni non avevano una biblioteca a loro disposizione, ma l'ingegnere era un libro sempre pronto, sempre aperto alla pagina di cui ciascuno aveva bisogno. Un libro che risolveva loro tutti i problemi e che essi sfogliavano molto spesso. Così il tempo passava e quella brava gente non sembrava temere per nulla l'avvenire. Però era tempo che quella segregazione finisse. Tutti avevano fretta di vedere, se non la bella stagione, almeno la cessazione di quel freddo insopportabile. Se solamente fossero stati vestiti in modo da poterlo sfidare, quante escursioni avrebbero tentate sia alle dune sia alla palude delle Tadorne. La selvaggina doveva essere facilmente avvicinabile e la caccia sarebbe stata sicuramente fruttuosa. Ma Cyrus Smith teneva che nessuno compromettesse la propria salute, giacché aveva bisogno di tutte le braccia e i suoi consigli furono seguiti. Ma bisogna dire che il più stanco della prigionia dopo Pencroff era Top. Il fedele animale si trovava molto a disagio nella Granite House. Andava e veniva da una camera all'altra e manifestava a modo suo la sua noia ad essere rinchiuso. Cyrus Smith notò spesso che quando si avvicinava all'oscuro pozzo che era in comunicazione con il mare e la cui apertura si trovava in fondo al magazzino, Top faceva udire strani brontolii. Girava le zampe sotto la tavola come avesse voluto sollevarla e abbaiava allora in modo particolare che indicava collera e inquietitudine insieme. Più volte l'ingegnere osservò questo lavorio. Che cosa c'era dunque in quell'abisso che potesse tanto impressionare l'intelligente animale? Il pozzo finiva in mare, questo era certo. Si ramificava in stretti canali attraverso l'isola? Era forse in comunicazione con altre cavità interne? Qualche mostro marino veniva forse di tanto in tanto a respirare nel suo fondo? L'ingegnere non sapeva che cosa pensare e non poteva fare a meno di fantasticare bizzarre complicazioni. Avvezzo ad andare lontano nel campo della realtà scientifica, egli non si perdonava di lasciarsi trascinare nel dominio dello strano e quasi del soprannaturale. Ma come spiegarsi che Top, uno di quei cani sensati che non perdono il loro tempo abbaiando la luna, sostinasse a sondare con il fiuto e con l'udito quell'abisso, se niente vi accadeva, che potesse destare la sua inquietitudine? La condotta di Top impensieriva Cyrus Smith più di quanto gli sembrasse ragionevole confessare a se stesso. Però l'ingegnere non comunicò le sue impressioni che a Gideon Spilett, trovando inutile iniziare i suoi compagni alle riflessioni involontarie, prodotte in lui da quella che forse era solo una fissazione di Top. Finalmente il freddo cessò. Vi furono ancora piogge, raffiche miste di vento, piovaschi, temporali, colpi di vento, ma furono in temperie passeggere. Il ghiaccio si era disciolto, la neve si era fusa, la spiaggia, l'altipiano, le rive del Mersi, la foresta erano ridivenute praticabili. Questo ritorno della primavera trasse i coloni fuori dalla granite house e pochi giorni dopo essi non vi trascorrevano che le ore del sonno e dei pasti. Nella seconda metà di settembre la caccia fu molto intensificata e Pencroff ebbe così occasione di reclamare con nuova insistenza le armi da fuoco che affermava essere state promesse da Cyrus Smith. Questi, ben sapendo che senza uno speciale complesso di attrezzi gli sarebbe stato quasi impossibile fabbricare un fucile che potesse essere di una qualche utilità, si schermiva sempre e rimandava l'operazione. D'altra parte faceva osservare che Arbert e Gideon Spilett erano divenuti abili arcieri, che ogni sorta di animali eccellenti, aguti, canguri, capibara, piccioni, ottarde, anatre, selvatiche, beccaccini, insomma molta selvaggina di pelo o di piuma cadeva sotto le loro frecce e che di conseguenza si poteva aspettare. Ma l'ostinato marinaio non ci sentiva da quell'orecchio e non avrebbe certo lasciato tregua all'ingegnere, sino che questi non avesse soddisfatto il suo desiderio. Gideon Spilett del resto appoggiava Pencroff. «Se l'isola, come abbiamo ragione di sospettare?» diceva egli. «Ospita delle bestie feroci, bisogna pensare a combatterle e sterminarle. Può venire un momento in cui questo sia il nostro primo dovere». Ma intanto non era il problema delle armi da fuoco a preoccupare Cyrus Smith, ma quello delle vesti. I vestiti che i coloni portavano avevano passato l'inverno, ma non avrebbero certo potuto durare sino all'inverno prossimo. Occorreva procurarsi a ogni costo pelle di carnivori o lana di ruminanti. E visto che i muffloni non mancavano, conveniva pensare al modo di formarne un greggio da allevare per i bisogni della colonia. Un recinto destinato agli animali domestici, un pollaio adatto per i volatili. In una parola, una specie di fattoria da costruire in qualche punto sull'isola. Ecco i due importanti progetti da mettere in esecuzione durante la buona stagione. Per questo, e in vista di simili opere future, diveniva dunque urgente fare una ricognizione di tutta la parte ancora ignorata dell'isola di Lincoln. Ma ci voleva tempo stabile, e un mese ancora doveva passare prima che questa esplorazione potesse essere intrapresa utilmente. I coloni aspettavano dunque con una certa impazienza, quando accadde un fatto che contribuì ad eccitare ancora più il desiderio comune di visitare per intero il loro dominio. Il 24 ottobre, Pencroff era andato a vedere le trappole, che egli manteneva sempre convenientemente provvedute d'esca. In una di esse trovò tre animali, che sarebbero stati certo bene accolti nella dispensa di Granite House. Erano una femmina di Pecari e i suoi due piccoli. Pencroff ritornò dunque a Granite House lietissimo della cattura, e come sempre fece grande sfoggio della sua caccia. Andiamo! Faremo un buon prezzetto, signor Cyrus! esclamò. E anche voi, signor Spilett, ne mangerete! Certo che voglio mangiarne! rispose il cronista. Ma che cosa mangerò? Del maialino da latte! Ah, davvero, Pencroff? A sentirvi credevo che portaste una pernice tartufata. Come? esclamò Pencroff. Sdegnereste forse un porcellino da latte? No! rispose Gideon Spilett senza mostrare alcun entusiasmo. E purché non se ne abusi? Bene, bene, signor giornalista. Rimbeccò il marinaio, cui non garbava udir disprezzare la sua caccia. Fate il difficile! Ma sette mesi or solo, quando siamo giunti nell'isola, sareste stato felice di trovare una simile selvaggina. Avete ragione! rispose il giornalista. Ma l'uomo non è mai né perfetto né contento! Adesso, riprese Pencroff, spero che Nab ci faccia l'onore. Vedete, questi due piccoli pecari non hanno ancora tre mesi e saranno teneri come quaglie. Andiamo, Nab, vieni! Ne sorveglierò io stesso la cottura! E il marinaio, seguito da Nab, raggiunse la cucina e fu tutto assorto nei suoi lavori culinari. Fu lasciato fare a suo modo. Nab e lui prepararono dunque un desinare magnifico. I due piccoli pecari, una zuppa di canguro, un prosciutto affumicato, dei pinoli, la bibita di dracena, del tè dosuego. Insomma, tutto quanto c'era di meglio. Però, fra tutti i piatti, dovevano figurare in prima linea i saporiti pecari, preparati in stufato. Alle cinque, il pranzo fu servito nella sala di granite house. La zuppa di canguro fumava sulla tavola e venne trovata eccellente. Alla zuppa successero i pecari, che Pencroff volle tagliare gli stesso e dei quali servì porzioni enormi a ciascun convitato. Quei porcellini erano veramente deliziosi e Pencroff divorava la sua parte con grande entusiasmo. Quando, tutta a un tratto, un grido e una bestemmia gli sfuggirono. Che cosa c'è? domandò Cyrus Smith. C'è, c'è, che mi sono spezzato un dante, rispose il marinaio. Ah, questa poi, ci sono dunque dei sassi nei vostri pecari, disse Gideon Spilett. «Bisogna crederlo!» rispose Pencroff togliendosi dalle labbra l'oggetto che gli costava un molare. Non era un sasso, era un pallino di piombo. «Bisogna crederlo!» Grazie a tutti.